Salve a tutti e a tutte, benvenuti nella 42esima lezione di questo corso di Blender. Oggi iniziamo a lavorare con i materiali e per lavorare non intendo più introdurli, vedere il rendering o studiare il sistema su cui si basano. Per introdurli intendo dire, per lavorarci, scusate, per lavorarci intendo dire effettivamente creare materiali complessi. Come abbiamo visto nella lezione precedente, per creare i materiali sono i nodi e come abbiamo visto, per ora lavoreremo con il motore di rendering Cycles. Abbiamo settato Cycles come motore di rendering, tecnicamente adesso possiamo aprire lo shader editor che si chiama con Shift F3. Premiamolo finché non è aperto effettivamente lo shader editor, però per comodità possiamo anche andare direttamente nel preset shading, andare in rendered mode. Così abbiamo già un'interfaccia bella e pronta e setata apposta per la creazione dei materiali. Il cubo lo muoviamo verso l'atto di un metro, premendo G, Z, 1, invio. Adesso con Shift A aggiungiamo un piano, premiamo S per scalarlo e scaliamo. Questo, adesso magari, con Shift A aggiungiamo anche una scimmietta, premiamo G, Z e un metro anche per essa. Adesso premiamo G, Y, 2. 2, per muoverla di 2 metri. Nel grado di adesso premiamo G, Y, 1, per muoverla di un altro metro lungo l'asse delle Y e per ruotarla di 90 gradi lungo l'asse delle Z, R, Z, 90 gradi. Invio, per renderla un pochino più smussata, andiamo con essa selezionata, andiamo nel pannello dei modificatori e aggiungiamo un bel subsurf. Adesso inseriamo due o tre suddivisioni e con Ctrl A applichiamo il modificatore. Questo è un altro oggetto che ci verrà molto utile in questo studio, perché essendo la scimmietta un oggetto un pochino più complesso, ci farà comodo. Adesso andiamo nel pannello dei materiali, cioè questo qui in basso, ed aggiungiamo una nuova slot dei materiali, cioè un nuovo contenitore ruoto per il materiale. Ed aggiungiamo un nuovo materiale, che rinomino in Monkeys Material, che in inglese significa materiale della scimmia. Adesso vado al mio cubo, a cui è già stato applicato un materiale di default, che rinomino in Cubes Material, che in inglese significa materiale del cubo. Infine anche al piano aggiungo un contenitore vuoto, un nuovo materiale, che rinomino in Plains Material, che in inglese significa materiale del piano. Adesso ho un materiale separato per il mio piano, il mio cubo e la mia scimmietta. Possiamo perciò adesso andare ad analizzare la creazione dei materiali. Se vado nel Node Editor o Shader Editor e premo Shift A, mi si apre il menu per aggiungere dei nodi dei materiali. Se non sapete cos'è un nodo, andate a rivedere la lezione precedente, dedicata appunto all'introduzione di questo sistema di lavoro. Se premo Shift A, attenzione a dove si trova il cursor quando premete Shift A. Se si trova nello Shader Editor, ovviamente vi si aprirà il menu di add dello Shader Editor. Se si trova nella Viewport, si aprirà il menu di adding e di aggiunta della Viewport, che conosciamo già bene, in quanto ormai ne conosciamo quasi tutti gli oggetti, tranne un paio, che però vedremo sicuramente nelle lezioni successive. Concentriamoci momentaneamente sul nostro cubo e vediamo che anche dalla voce add abbiamo la possibilità di aprire il menu per aggiungere dei nodi. La prima cosa che dobbiamo analizzare però è il menu Use Nodes. Se lo disabilitate, dite che per questo particolare materiale, cioè il materiale del cubo, Blender non deve lavorare con i nodi e deve utilizzare un sistema alternativo. Questo sistema alternativo consiste semplicemente nel darvi una voce Diffuse Color, in cui potete scegliere il colore di base del materiale e non potete scegliere niente di più. È ormai tutto estremamente sconsigliabile, quindi torniamo ad utilizzare i nodi cliccando su Use Nodes o da qui, o da qui, e torneremo ad utilizzare il materiale che vediamo con i nodi. In add vediamo che tutti i nodi sono suddivisi in varie categorie. Questa suddivisione in categorie è estremamente utile e importantissima nel nostro studio dei materiali all'interno di Blender. Questo per il semplice motivo che ci permette di dividere tutti i materiali in vari gruppi, in base alla loro funzione e al formato dei dati in uscita. Per la qual cosa, ora oggi noi studieremo i materiali Shader e Testure. Sembrano pochi rispetto al totale, ma in realtà sono i due gruppi più complessi e anche i più importanti, i più usati anzi. Nella lezione successiva vedremo il menu di Input, vedremo il menu Input, poi tecnicamente potremmo anche vedere il menu Output, ma ci permette di inserire solamente un materiale, un nodo di Output. Vediamo che ne esistono di tre tipi solo a seconda di cosa stiamo editando, perché noi possiamo utilizzare i nodi per creare dei materiali per delle superfici. Però i nodi si possono anche utilizzare per creare dei materiali, per esempio per le luci. In quel caso dovremmo avere un Output differente, ma è stato di qualcosa che si setterà automaticamente a Blender. Quindi l'Output non lo considerate, ignorate totalmente tutta la parte di Output, perché con questo tipo di nodi, questa parte verrà gestita automaticamente da Blender. L'unica sezione in cui ci interesserà scoprire varie differenze tra i nodi di Output, sarà il Compositing. Però per ora l'opzione di Output la ignoriamo. Stavo dicendo, nella prossima lezione studiamo i nodi di Input, Color, Vector, Converter, Script, Group e Layout. Possono sembrare differenti, ma in realtà c'è ben poco da dire, perché Script ci permette solo di inserire dei nodi programmati da noi, e perciò non vi interessa. Invece Group ci permette solamente di creare dei gruppi di nodi, e Layout invece ci permette solo di settare i layout. Perciò questi gruppi, sì, andremo a vedere come creare i gruppi di nodi, o come realizzare l'ayout dello Shader Editor, però non ne parleremo autonomamente, sarà qualcosa che vedremo lavorando con i materiali, ci andremo ad interrogare su queste cose. Perciò possiamo dire che essenzialmente, gruppi complessi che ci costringono a soffermarci su di essi per un po', sono solo quelli da Input a Converter ignorando Output, perché Script vi serve solo se sapete programmare dei nodi da voi, e non è questo il caso, invece Group e Layout ci servono, il primo per raggruppare dei nodi assieme, e il secondo per creare un layout più complesso all'interno del Node Editor. E non è qualcosa che iniziamo a vedere tutto in una volta, ma vedremo piano piano su come organizzarci. Allora, stavo dicendo, oggi vedremo i nodi Shader e Testure. Iniziamo. I nodi Shader sono i nodi collegabili direttamente al nodo di Output, alle voci Surface o Volume. Diciamo che i nodi Shader sono i nodi che hanno l'uscita di colore blu, cioè l'uscita in un formato che andrà a regolare delle informazioni visive, quindi cosa andrò a vedere nel mio risultato finale, in base solo ed esclusivamente alla luce. Quindi, i nodi dello Shader, se io utilizzo il nodo dello Shader, ciò che non è illuminato lo vedrò nero, ciò che invece è illuminato lo vedrò con un colore e con le riflessioni che cambiano a seconda del nodo collegato a quello di Output. In altre parole, ciò che non vedo, non lo vedo neanche ciò che è in ombra, non lo vedo nel risultato finale, ciò che invece non è in ombra, ciò che è illuminato, lo vedo con un colore che dipende dal mio nodo e soprattutto il risultato che io vado a vedere che non è che contro le riflessioni della luce. Quindi, i nodi dello Shader vanno a lavorare grazie alla luce, è il loro ingrediente principale. Andiamo a vedere che il nodo che abbiamo in partenza è il nodo Principle BSDF, un nodo molto complesso che non vediamo in questo momento esatto. Quindi, lo possiamo cancellare. Per cancellarlo, deve premere il tasto X con questo nodo selezionato. Quindi, per cancellare un nodo, selezionarlo, X, per annullare l'ultima operazione, CTRL-Z, alcune opzioni interessanti, Duplicate, apro sempre un menu che si apre col tasto destro del mouse, mi si apre questo menu. In particolare, alcune altre opzioni interessanti, magari attivo lo screencast, perché voi possiate vedere meglio quello che faccio, osservando le mie shortcut, altre opzioni molto molto importanti, Duplicate, che si richiama con Shift-D, mi duplica il mio nodo e tutte le opzioni all'interno. Delete, va bene, me lo cancella, F2 si richiama con F2, scusate, Rename si richiama con F2, F2, mi appare questo pannello dove io posso cambiare il nome del nodo, che poi mi apparirà qui in alto. CTRL-Z per annullare, Copy, mi copia il nodo, e infatti, se adesso lo vado a cancellare, il mio nodo non è sparito del tutto, è rimasto all'interno di un buffer di memoria all'interno di Blender. In altre parole, Blender ha preso il mio nodo e me l'ha copiato. Adesso si trova in una memoria temporanea, per poter rivelsare il contenuto di questa memoria nel mio Node Editor, mi basta cliccare col tasto destro e richiamare il comando Past, che si richiama con CTRL-V, quindi CTRL-C per copiare, X per cancellare, CTRL-V per incollare. Ok, Hide mi nasconde il nodo, nel senso che me lo rende così contratto, si richiama o con questa freccetta qui in alto, o semplicemente con il comando H. Tuttavia, i collegamenti del nodo che ho qui, le informazioni di input, continuo a vederle. Poi, vediamo quale altre opzioni abbiamo in uso. Toggle Nod Socket, Toggle Hidden Nod Sockets. Semplicemente, mi fa sparire tutte le opzioni del mio nodo, cioè, mi elimina tutte le opzioni del nodo che non sono utilizzate. Che vuol dire che non sono utilizzate? Per capirlo, richiamiamo un altro nodo che abbiamo introdotto nell'altra lezione, il nodo Value, che si trova nel menu di input, e che ci permette essenzialmente di inserire un valore numerico. Per esempio, lo collego all'opzione Metallic, che come abbiamo anticipato, mi fa regolare la metallicità, con un valore di 1, e quindi la metallicità sarà al massimo. Se adesso inserisco Toggle Hidden Nod Sockets, Metallic rimane, per farmi comunque vedere il collegamento tra questo nodo e questo nodo. Questo comando si chiama con CTRL H, e per annullarlo, stessa shortcut. Quindi, CTRL H per far riapparire le opzioni, e CTRL H anche per farle sparire. Tuttavia, queste due opzioni in alto, quindi le uniche che non sono collegate a delle entrate di input, che vedremo comunque in futuro, sono opzioni che rimangono sempre visibili. Per cancellare, per renderle invisibili anch'esse, Toggle Node Options, e adesso sono invisibili. Li facendo la stessa cosa, li appaiono. Collapse e Hide Unused Sockets, praticamente è la somma di CTRL H e H, cioè mi collassa il nodo, e non mi fa più vedere tutte quelle entrate di input, che non sono utilizzate. Bene. Andiamo a eliminare questo nodo che non ci interessa, e questa è una prima introduzione ai nodi, tanto per capire meglio. Il menu che apriamo col tasto destro del mouse, ha in comune molte opzioni, con quello che abbiamo anche sotto l'opzione Node, che ha anche l'opzione Reset Nodes, che riporta i valori di default a tutte le opzioni del nodo, Move, che mi permette di muovere il mio nodo, Rotate, che mi permetterebbe di ruotarlo, ma con un nodo ovviamente non ha senso, o Resize, che mi permette di scalarlo. Si chiamano ovviamente con G, R e S, quindi G me lo muove, R tecnicamente me lo ruota, ma non ha senso, S me lo scala, ma anche ciò non ha senso. Per scalare un nodo, basta cliccare e trascinare in questo modo, se ne voglio aumentare o diminuire le dimensioni. Poi abbiamo sempre le opzioni di copiatura e incollare, sommate a tante altre opzioni, che vedremo meglio in futuro. Poi abbiamo anche l'opzione, una shortcut molto particolare, M, che serve a effettuare un'operazione che si chiama Mute Node, cioè per il modo che Blender ignori questo nodo. Facciamo un altro esempio, reinseriamo l'opzione di prima, quella col valore numerico, se io adesso rendo muto il mio nodo, faccio in modo che è come se questo nodo lo cancellassi con X, però è ancora presente, e per farlo riapparire, basta rimettere il circostore. Questa semplicemente è una soluzione ai nodi, cioè a come funzionano a livello pratico, e non solo a cosa sono. E questo tutte cose che riguardano tutti i nodi, e non solo quelli degli O Shader, che sono quelli che andremo a regolare adesso. Adesso andiamo a vedere i nodi dello Shader, quindi il nodo Principal BSDF, lo vedremo tra pochissimo, e andiamo a studiare un pochino meglio i nodi dello Shader. Il nodo Add Shader ci permette di mettere assieme altri nodi dello Shader, perciò per capirlo dobbiamo prima vedere appunto gli altri nodi. Inseriamo un nodo Anisotropic BSDF, che mi permette di inserire un particolare tipo di riflessi della luce, chiamati riflessi anisotropici, che hanno la caratteristica di essere allungati nella direzione della tangente dei vertici. Quindi riflessi come questo. Posso andare a cambiare il colore di base del mio nodo, cambiando così il mio bel risultato. Posso andare a cambiare la Ragnest del mio cubo. Cos'è la Ragnest? La Ragnest è uno dei valori più importanti da conoscere all'interno di Blender, e fondamentale per i nodi. Quando noi abbiamo un... Ora, gli oggetti nella realtà hanno tante imperfezioni superficiali. Per capirlo meglio, magari andiamo proprio su Google, apriamo, apro una nuova scheda, e nella barra di ricerca digito rugosità, che è una parolina italiana che corrisponde alla parola inglese, Ragnest. Se adesso io faccio una ricerca di alcune immagini su Google, mi viene a cercare qualcuna molto utile, come per esempio, appunto, sì, questa. No, ho sbagliato il sito. Queste immagini, cosa mi mostra? La salvo con il nome sul mio computer, la apro, e adesso andiamo... vi zoomo per vedere meglio. In altre parole, questa immagine ci mostra un mio oggetto, la superficie di un oggetto. Ora, la superficie di un oggetto è munita di una grandissima quantità di imperfezioni superficiali, di tante piccole imperfezioni, che sono qualcosa di comunissimo, e presenti su tutti gli oggetti. Se osservate un qualsiasi oggetto presente in casa vostra, noterete che sulla sua superficie sono presenti tante piccole imperfezioni. Per esempio, una pallina non sarà una sfera perfetta, avrà delle minuscole imperfezioni superficiali. Queste imperfezioni fanno in modo che quando la luce si rifletta sulla pallina, non rimbalza in una direzione esattamente corrisponde... rimbalza in una direzione che viene un po' incasinata, viene un po' randomizzata dalle imperfezioni superficiali della mia pallina o del mio oggetto in generale. E questo fa in modo che io veda meno riflessi sulla mia pallina. In altre parole, più sono tante le imperfezioni superficiali, meno io tenderò a vedere un riflesso. Un oggetto specchio avrà una quantità minima di imperfezioni superficiali, perché deve avere il più grande riflesso possibile. Quindi la quantità di imperfezioni superficiali è inversamente proporzionale alla quantità di riflesso. Diciamo che il parametro che ci permette di regolare con i materiali la quantità di imperfezioni superficiali si chiama rugosità. Quindi più aumento la rugosità, più aumento la quantità di imperfezioni superficiali. Quindi quello che dobbiamo capire è questo. La rugosità è quel parametro diametralmente opposto al riflesso. Più la rugosità è alta, più è basso il riflesso. Poi, anisotropia. Semplicemente la quantità di questi semplicemente ci permette di regolare la quantità di questi particolari riflessi anisotropici. Con 0 non saranno presenti. Se lo metto per esempio ad 1 saranno presenti molto forti. Vi ricordo che nel riflesso anisotropico è un riflesso in direzione della tangente. Infatti vediamo proprio la direzione dei riflessi che tende a cambiare a seconda della geometria del mio cubo. Facciamo lo stesso anche per la mia scimmia. Magari per vedere anche meglio. Vado ad aggiungere lo shader anisotropic. e vedo che con la scimmia che con la scimmia lo notiamo ancora meglio abbiamo dei riflessi che cambiano a seconda della tangente del mio che cambiano a seconda della tangente del mio oggetto. Posso sempre andare a cambiare il colore di base o la rugosità dove ricordatevi rugosità 0 è uno specchio rugosità 1 è il contrario di uno specchio. Quindi una rugosità molto bassa mi dà una specie di specchio. Anisotropia la quantità di questi riflessi anisotropici. Con 1 avrò questi riflessi al massimo può essere utile in particolari casi ma non è molto bello da vedere. Con 0 li elimino quindi è come se inserissi un qualsiasi altro shader. Con meno 1 inserisco un valore negativo dei riflessi anisotropici quindi inserisco dei riflessi che vanno nella direzione opposta ma a livello obiettivo non è molto diverso. Inserire 0.5 ci permette spesso di avere la giusta quantità di riflesso infatti è l'opzione di default. Rotation ci permette di ruotare semplicemente questi riflessi. Per quanto riguarda invece le opzioni Normal e Tangent quelle le vedremo nella seconda parte di questa lezione cioè la lezione successiva magari li vedremo meglio in relazione all'opzione agli nodi di vettore. Switchiamo momentaneamente sul nostro cubo e questo è semplicemente il nodo anisotropic. Adesso abbiamo il nodo BSDF che è uno dei nodi più interessanti all'interno di Blender anzi forse è il nodo che fino a qualche versione fa era il nodo più utilizzato perché non esisteva ancora il principal BSDF adesso esiste quell'altro nodo principal BSDF ed è quello il più utilizzato. Vi faccio notare che prima che il principal BSDF entrasse in circolazione era questo nodo il nodo di default all'interno di un materiale quindi il nodo che avevamo appena inserivamo un materiale quindi sicuramente è un nodo importante. Questo nodo cosa fa? Semplicemente ci permette di regolare i due parametri di base di un materiale il colore e la rugosità inseriamo il colore che preferiamo per esempio un bel rosso vi faccio notare con i colori abbiamo due scale principali la scala RGBA e la scala HSVA RGBA ci permette di regolare la quantità di rosso di giallo e di blu invece il parametro alfa ci permette di regolare l'opacità del nostro materiale dove con 0 il nostro materiale sarà trasparente però non è abbassando l'alfa che create un materiale trasparente per creare un materiale trasparente bisogna utilizzare degli shader appositi abbassando l'alfa rendete il colore trasparente ma Blender ignorerà questo fatto nel HSVA abbiamo sempre l'opzione H che ci rende il colore trasparente ma Blender ignorerà questo fatto a meno che non usiamo nodi particolari dove però la scala HSVA non ha ragione in base alla quantità di rosso verde e blu scusate magari a volte mi viene da dire che qui abbiamo le opzioni di rosso giallo e blu ma in realtà non è vero perché è in inglese R sarebbe la quantità di red quindi la quantità di rosso G sarebbe la quantità di green quindi la quantità di verde B sarebbe la quantità di blue quindi la quantità di blu quindi qui regolate la quantità di rosso verde e blu una cosa che è molto facile confondersi HSVA saturazione del materiale quindi quanto questo pallino nel cerchio cromatico è lontano dal centro con H lo possiamo spostare lungo il cerchio cromatico e con V possiamo cambiare la luminosità del materiale queste sono opzioni importantissime quando si lavora con i materiali proviamo l'opzione Ragness quindi sempre la rugosità del nostro materiale proviamo per esempio con la scimmietta mi sono momentaneamente perso all'interno del mio node editor qui inserisco freemall e blender il 1700 la vista in modo che io possa vedere tutto il mio node editor cancello l'antisotropy l'antisotropy scusate inserisco magari un diffuse lo faccio del colore che voglio per esempio questo e poi posso sempre andare a giocare con la ragness cioè la quantità di non riflesso mettiamo ctrl z per annullare tutto e tornare quando avevo il rilasson isotropico che per la scimmietta ci sta particolarmente bene questo è il famosissimo nodo di fuse che mi permette di semplicemente assegnare un colore alla mia mesh è il nodo più semplice perché l'unica cosa che fa è farmi assegnare un semplicissimo colore poi l'importantissimo emission ora ripremo ctrl z per tornare ad avere un diffuse e aggiungo un nuovo oggetto per esempio una sfera gz1 per spostarla di un metro e gy-3 per spostarla di meno 3 metri lungo l'asse delle y applico uno shade smooth e poi per rendere più precisi materiali per rendere un po' più precisi materiali un po' di risoluzione più o male non fa inserisco un nuovo materiale che posso rinominarlo anche direttamente da qui sphere material e qui magari vado ad introdurre finalmente un altro nodo importantissimo il nodo di emissione questo nodo ci permette di fare in modo che un oggetto emetta luce posso scegliere il colore della luce e la forza con cui viene emessa per esempio se inserisco una forza molto grande la mia sfera andrà a dimettere una grande quantità di luce torniamo un attimo al nostro cubo magari lo duplico con shift d cremo gx 3 in questo modo una copia del cubo con cui posso lavorare con un altro materiale cremo anche gy meno 3 per allinearlo con la con la sfera in modo da non avere due cubi allineati magari in questo modo la scena è un po' più accantivata dal punto di vista visivo adesso però questi due cubi hanno il medesimo materiale e questo materiale è dipendente da quello di questo cubo e viceversa io voglio invece lavorare con materiali distinti per farlo basta andare a questo materiale e premere su questo 2 accanto ad esso ma meglio ancora lo posso fare anche direttamente dal node editor questo materiale è il cubo material first e questo materiale è il cubes material second adesso elimino il diffuse ed inseriamo forse un altro di nodi più interessanti all'interno dei blender un nodo di tipo glass già avere una scena così complessa in partenza ci può aiutare a vedere meglio cosa fa questo nodo il nodo glass è molto semplice semplicemente crea un vetro cioè nella mia mesh me la regno di vetro a vederla così sembra che il risultato sia completamente sbagliato perché vedo ogni oggetto ripetuto più volte quello che dovete capire è che per blender questo non è una superficie di vetro cava all'interno per blender questo è proprio un cubo di vetro pieno non è un cubo cavo quindi proprio un cubo di vetro pieno dove dentro al centro c'è ancora vetro è così che blender gestisce il materiale e magari ovviamente se voi prendete un cubo di vetro pieno dato che dentro c'è sempre vetro la luce verrà distorta tantissimo allora di solito quando io inserisco quando io creo un vetro vado semplicemente all'interno del mio pannello dei modificatori e aggiungo un bel modificatore solidify che è non ad abilare ad inserire una thickness alla mia mesh vabbè anche la thickness di default per modo che blender la consideri una superficie di vetro cava all'interno e non proprio vetro solido pieno dentro perché altrimenti appunto ho questo effetto di distorzione luminosa anche così magari la luce viene sempre distorta perché è vetro non è trasparente è vetro e il vetro un po' distorce la luce ma sicuramente è un risultato molto più credibile certo poi ovviamente se volete avere un vetro pieno non applicate il solidify però in quante scene dovete applicare un vetro pieno di solito una superficie di vetro cava all'interno e se volete che blender ve la simuli correttamente dovete andarla a creare correttamente allora color il colore essenziale del vetro ci sono parecchie opzioni io di solito inserisco una saturazione abbastanza bassa che si dice di più un vetro bene ecco per esempio questo è un bellissimo vetro di colore azzurro ragnas la rugosità del vetro dove attenzione con uno sarà un vetro che non riflette per niente la luce e perciò equivale a una superficie non trasparente perché in ogni caso un vetro perché effettivamente io ci possa guardare attraverso deve essere liscio se inserisco una grande quantità di imperfezioni superficiali magari fatico di più a voi di ci attraverso già così ok ci vedo attraverso ma è un vetro quasi un po' oscurato aumentando la ragnas come quello di una doccia vedete mettendola a uno io non ci vedo più attraverso o magari ci vedo ma non riesco a distinguere quello che c'è dietro in realtà il parametro di ragnas nel vetro è molto interessante se magari voglio simulare il vetro di una doccia magari il vetro di una doccia non ci si vede completamente attraverso magari è quasi un po' oscurato un po' opaco no io aumentando il ragnas posso simulare più o meno questo effetto questo diventa più un vetro un pochino differente quasi un ghiaccio però possono anche simulare un cubetto perfetto di ghiaccio fate qualche prova comunque lo trovo utile l'inserisco un vetro perfettamente trasparente e vediamo l'i.o.r l'i.o.r è una di quelle opzioni che come la ragnas non vediamo solo in questi esempi ci tornerà in tantissimi nodi diversi quindi i.o.r dovete capirlo bene i.o.r è una parolina magica che significa indice of refraction cioè indice di rifrazione andiamo a capire che vuol dire vado a prendere la annotate nella toolbar ah vi faccio vedere che nella toolbar del node editor ho questa opzione che sarebbe un'opzione che mi permette di selezionare un singolo oggetto e di varie opzioni select circle che mi crea questo pennello con cui andare a selezionare select last mi fa usare un bordo irregolare select boss mi fa selezionare a mano ma anche tracciando un quadro poi ci sarebbe l'opzione tweak che nella viewport avrebbe il vantaggio che avrebbe il seguente vantaggio nella viewport come molti di voi si ricorderanno il tweak fa in modo che se io seleziono un oggetto non devo premere grab mi basta trascinare per muoverlo bene tecnicamente però nel node editor questo vantaggio non c'è perchè nel node editor con qualsiasi altro strumento di selezione anche select boss non devo premere g mi basta trascinare per muovere perciò alla fine non ha uguale a select box nel node editor poi abbiamo l'opzione links cut che mi permette di usare una specie di coltellino per tracciare i legami tra i nodi comunque stavo dicendo prendo il comando annotate chiudo la toolbar con i t annotate immaginate questa come la superficie del nostro oggetto adesso vi spiego cos'è l'indice di rifrazione quando un raggio di luce colpisce la superficie del nostro oggetto in che direzione viene rifratto se il nostro oggetto è perfettamente trasparente e quindi non un vetro deve essere perfettamente trasparente quindi un oggetto talmente trasparente che è invisibile nella mia scena il raggio di luce proseguirà nella stessa direzione ma qualsiasi altro tipo di oggetto come per esempio un vetro che non è totalmente trasparente come quasi tutti i vetri andrà a deviare leggermente la mia luce la andrà a deviare in realtà la maggior parte degli oggetti quindi gli oggetti non trasparenti la fanno proprio rimbalzare oltre la superficie in questo modo ovviamente la direzione precisa delle frecce cambia a seconda del tipo particolare di materiale che inseriamo l'indice di rifrazione in particolare ci permette di andare a modificare ci permette di andare a deditare la direzione dei rimbalzi dei raggi di luce in particolare ci permette di andare a regolare un effettino magico chiamato rifrazione andiamo a capire meglio di cosa si tratta l'indice di rifrazione si può spiegare con una semplicissima formula considerato lo IOR essenzialmente possiamo dire che corrisponde a questa semplicissima formula C fratto V dove C è la velocità della luce nel vuoto pari a 2,98 per 10 all'ottava metri sui secondi mentre invece V è la velocità con cui la luce viaggia all'interno di quel determinato materiale e è ovviamente una variabile che cambia a seconda del materiale detto questo diciamo che quindi l'indice di rifrazione indica quanto velocemente anzi indica quanto lentamente la luce viaggia attraverso quel materiale e per essere più precisi un indice di rifrazione più alto indica il fatto che la luce viaggia più lentamente all'interno di quel determinato materiale per esempio l'I-O-R dell'H quindi di H2O è uguale a 1 punto o virgola 33 che significa che la che la luce il che significa essenzialmente che la luce nel nell'acqua viaggia viaggia virgola 33 volte più lentamente rispetto a quanto viaggia nel vuoto quindi la velocità della luce all'interno di una massa d'acqua sarà pari sarà essenzialmente uguale a c c'è la velocità nel vuoto fratto 1.33 perciò la velocità della luce nel vuoto sarà pari a 1.33 volte maggiore della velocità all'interno dell'acqua in altre parole l'ior indica quanto lentamente la luce viaggia all'interno di quel materiale e in particolare è uguale al rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce attraverso quel determinato materiale perciò più aumenta l'ior più la luce in quel determinato materiale andrà lenta e soprattutto e per fare un esempio la velocità della luce nell'acqua è pari l'ior scusate dell'acqua è pari a 1.33 che significa che nell'acqua la luce viaggia 1.33 volte più lentamente rispetto alla velocità cui viaggia nel vuoto ma che fa questo con il modo in cui la luce si riflette sulle superfici beh semplicemente questo va a cambiare il modo in cui la luce viaggia su una superficie e va a cambiare anche e soprattutto il modo in cui la luce si riflette su questa superficie perché va a cambiare anche il modo in cui la luce si riflette su questa superficie quindi l'ioereo è molto importante a livello di riflessioni in realtà ora voi direte sì ho capito ma come faccio a settare l'indice di riflessione dovete chiedervi qual è il materiale che io sto realizzando e in questo caso è un materiale di vetro perciò andate su google è una cosa che dovete fare sempre aprite una nuova scheda e scrivete IOR del vetro o di qualunque materiale che state realizzando voi adesso avete l'elenco di tutti gli IOR di vari materiali vi appaiono e per esempio avete qui anche l'opzione vetro ottico e vi dice che il suo IOR è di 1.54 perciò l'IOR del vetro sarà di 1.54 lo vado a scrivere adesso sembra che non si era ammesso niente ma in realtà il modo in cui adesso blender riflette la luce è un pochino più realistico non abbiamo incontrato ancora altri materiali che ci chiedano ciò ma dovete ricordarvi sempre questo ogni volta che vedete la voce IOR andate su google chiedetevi che materiale sto rappresentando un metallo un pezzo di plastica cercate nella barra di ricerca google IOR di questo materiale e andate a scriverlo alla voce IOR poi se non lo fate non è che cambi granché non è che cambi granché perché alla fine in realtà il risultato cambia pochino però vi aiuta se volete essere un pochino più precisi prendiamo questa scimmetta premiamo GZ 3 e GY no scusate la duplichiamo chiamiamo GZ 3 e GY meno meno 3 scusate GY meno 3 per sbagliare avevo premuto GY meno punto 3 adesso abbiamo questa scimmetta di cui il materiale lo rendiamo indipendente da quello dell'altra scimmetta e che rinominiamo in Monkeys Material Second poi i materiali studiatevi anche un po' per conto vostro se preferite mi sono perso il nuovo nel mio node editor node frame all adesso elimino questo nodo e andiamo a proseguire con gli shader il Glossy bs df è un altro dei nodi più interessanti scusate avevo ancora sentato il comando di annotate è uno dei nodi più interessanti lo vado a curare con l'output e diciamo che l'unica cosa importante che fa il Glossy è andarmi a creare delle delle riflessioni il Glossy mi va a creare da sé delle riflessioni andiamo a vedere come vediamo che la prima cosa che è uno dei parametri più importanti è il Ragness cioè sempre la rugosità del mio materiale e quindi la non lucidità con 0 il materiale sarà uno specchio con 1 sarà il contrario di uno specchio quindi è il contrario di quanto riflette il Ragness è quanto il materiale non riflette per esempio in questo modo creerò delle riflessioni molto importanti con una Ragness molto bassa però possiamo anche decidere il colore di queste riflessioni non del materiale interno ma solo delle riflessioni in questo modo posso settare e posso avere molto controllo sulle riflessioni del mio materiale molto spesso si usa assieme al Diffuse questo per un motivo molto semplice il Diffuse è un modo molto semplice che mi permette in modo molto efficiente di settare il colore del mio oggetto per esempio un bel azzurro il negativo è che con il Diffuse si posso andare a cambiare la quantità di riflessioni con la Ragness ma anche se io inserisco una Ragness a zero quindi massimo riflesso io non vedo alcun tipo di riflesso sul mio oggetto io il riflesso con il Diffuse non lo vedo lo devo andare ad aggiungere perciò Glender ci ha messo a disposizione il nodo glossy che va a creare esattamente queste riflessioni io voglio che le riflessioni create da glossy siano dello stesso colore del colore del materiale perciò questo RGB mettendoci sopra il cursore premendo CTRL C ma adesso vado a glossy e premo CTRL V adesso il glossy usa lo stesso colore del Diffuse tuttavia abbiamo un piccolo problema io non posso collegare sia il Diffuse sia il glossy al mio material output perché da un output quindi da un pallino di output come questi possono uscire più linee ma in un pallino di input ne può entrare una sola quindi vediamo che se provo a collegare il Diffuse mi viene scollegato lo shader se provo mi viene scollegato il glossy se collego il Diffuse se collego il glossy mi viene scollegato il Diffuse e questo non è assolutamente ciò che voglio io voglio sovrapporre le riflessioni dei glossy al colore del Diffuse perché il Diffuse mi crea il colore a cui voglio sovrapporre le riflessioni quindi devo andare a mixare questi due nodi per farlo mi viene in aiuto un altro nodo molto usato di Blender che è il Mix Shader lo inserisco qui e io adesso all'interno del Mix Shader vado ad inserire il mio vado ad inserire i miei nodi adesso magari abbasso la quantità di Ragnar provocata dal glossy abbasso la Rarness del glossy per creare i riflessi un pochino più netti non abbasso così tanto adesso Blender andrà a prendere il colore dettato dal Diffuse e me lo andrà a mixare con le riflessioni del glossy come me le andrà a mixare se questo valore di fatto è a zero Blender mi mostrerà solo il primo shader quindi in questo caso il glossy perché come vediamo il glossy è il primo se Factor è a zero se Factor è a uno invece mi mostrerà solo il secondo dato che in questo caso glossy è il primo quindi è collegato al primo pallino mentre il Diffuse è collegato al secondo con zero vedrò solo il glossy con uno vedrò solo il Diffuse e in questo modo li posso andare a mixare tuttavia forse non è esattamente per cancellarlo forse non è esattamente quello che voglio perché io vorrei andare a sovrapporre il glossy al Diffuse e non mixare quindi voglio creare una sovrapposizione tra Diffuse e glossy non voglio andare a mixare nel vero senso della parola e perciò ci viene in aiuto un nuovo nodo il nodo add shader che fa esattamente questo prende il quindi prende il primo nodo che andate ad inserire e vi andrà sovrapporre sicamente il secondo andiamo a collegarlo con il material output per vedere meglio vedere esattamente quello che fa va a prendere il mio Diffuse e vi sovrappone il mio glossy poi posso sempre andare a cambiare le impostazioni del Diffuse ma il riflesso rimarrà sempre dello stesso colore perciò io posso stare indipendentemente queste due opzioni e se voglio che rimangano dello stesso colore per avere risultato uniforme devo andare sulla prima premere il CTRL C andare sulla seconda e premere il CTRL V questo magari è un po' scomodo quindi adesso introduciamo solo velocemente un nuovo introduciamo un nuovo nodo magari lo cerchiamo nella barra di ricerca e è il nodo RGB è un nodo che ha un pallino giallo in uscita è un nodo particolare lo vedremo nella prossima lezione però intanto lo introduco quando il pallino d'uscita è giallo vuol dire che i dati in uscita sono in formato RGB adesso vado a collegarlo qui e qui e così facendo adesso i dati di questo nodo andranno ad influire sui dati di colore di questi altri due questo nodo mi permette semplicemente di scegliere un colore direttamente da qui che andrà a controllare sia la una qualità di colore che andrà a controllare sia il colore vero e proprio che il colore delle riflessioni in questo modo lavorando da qui posso andare a cambiare il colore qui e qui ricordatevi quando il pallino di output è giallo voglio dire che dati sono in formato RGB cioè dati di colore e questo era quello che ci interessava per quanto riguarda questo per quanto riguarda per esempio il glossy che volevo spiegare in modo abbastanza approfondito e ne ho approfittato anche per parlare del mix e dell'hard shader per parlare dell'airbsdf invece è un nodo che ci permette di creare interessanti materiali per i capelli perciò per farlo ci serve qualcosa a cui crearli questi capelli allora andiamo a selezionare questa sfera e premiamo shift d per duplicarla in dio adesso premiamo gz3 e g y 6 metri per spostarla fino a qua adesso premiamo su questo 2 per rendere il suo materiale indipendente da quello dell'altra sfera materiale che rinomi in spheraz material second ovviamente qui non vogliamo un emission inseriamo magari però non abbiamo di meglio quindi inseriamo un semplice diffuse inseriamo questo colore adesso premiamo s z sulla sfera la scala un po' così non è che la scalta troppo sulla sedele z è un po' po' cimata vede un po' meglio e la alzo un po' e adesso controlla scale adesso creiamo un piccolo sistema particellare di tipo r premiamo shift z per andare in wireframe mode tab per andare in edit mode t per la tool bar t per la tool bar selezioniamo per esempio questi vertici realizziamo qualcosa di molto veloce creiamo un nuovo gruppo di vertici e lo rinominiamo in cuoio capelluto e li assegniamo adesso andiamo ad inserire un nuovo sistema particolare però non di tipo emitter di tipo hair se non capite niente di quello che sto dicendo andate a rivedere la lezione 24 verters group scelgo il cuoio capelluto in questo modo i vertici si troveranno solo i capelli le particelle si troveranno solo in quei vertici adesso torniamo la modalità di red intanto vi faccio notare una cosa interessante cioè che se usate come motore di rendering cycles le singole particelle di un sistema hair avranno una forma conica quindi avranno una base più larga alla base e una punta più stretta ve lo faccio vedere molto chiaramente osservate la punta dei capelli cioè la base dei capelli scusate e vedete che hanno una base molto larga e una punta molto fina questo è un comportamento predefinito all'interno di cycles lo potete cambiare dal menu hair shape dove con diameter root potete andare a cambiare la larghezza del capello alla base in questo caso è un capello però potrebbe essere anche un filo d'erba vedete che aumentando il diameter root io aumento il diametro del capello alla base invece aumentando diametro al tip aumento il diametro del capello sulla punta adesso inserisco in entrambi 0.2 metri in questo modo ed otteniamo i capelli abbastanza fini in realtà i capelli reali sono effettivamente un po' più spessi alla base quindi aumento il diameter root detto questo magari andiamo ad inserire dei cilbi di tipo interpolated in modo da rendere tutti i capelli alla stessa distanza e in number ora doppio male non fa quindi scriviamo per 2 adesso premiamo control tab per poter scegliere la modalità della viewport in cui andare e andiamo in particolare con l'edit mode in questo modo possiamo andare a settare le nostre particelle anche in questo caso se non capite andate a rivedere la lezione 24 ricollatevi che in parte con l'edit mode i cilbi non li vedete torniamo in ogget mode e vedo che il risultato è carino però i capelli hanno ereditato lo stesso materiale del mio capelli hanno ereditato lo stesso materiale della mia mesh allora noi adesso andiamo a creare un nuovo materiale e lo rinomino in hair adesso io però voglio dire a blender che questo materiale deve essere applicato ai capelli cioè come faccio a dire a blender che le particelle devono avere quel determinato materiale mi basta andare in render in material scegliere quale materiale deve essere applicato alle particelle ecco fatto abbiamo creato un bellissimo sistema particellare con applicato il materiale che vogliamo che dobbiamo solo settare per farlo cancelliamo il principal bsdf che vedremo tra poco ed inseriamo un nodo apposito il nodo hair bsdf colleghiamolo col materiale output e adesso andiamo già a vedere che il risultato crea degli effetti di riflesso che ricordano molto quelli dei capelli cerchiamo di capire perché il bello di questo nodo è che ci permette di in primo luogo regolare automaticamente la rarness in base al in primo luogo ci permette di regolare automaticamente la rarness in base solo esclusivamente a due direzioni la prima denominata u la seconda denominata v in altre parole noi possiamo andare a cambiare la rarness possiamo andare a cambiare la rarness cosa sarebbe non i riflessi quindi possiamo parlare di quindi la rarness ci permette di regolare la quantità di riflesso più è alta la rarness meno sono i riflessi ok riflessi in che direzioni normalmente la rarness si permette di regolare quei riflessi che Blender stabilisce lungo la direzione delle normali perché normalmente i riflessi di un oggetto sono in direzione i riflessi provocati in una superficie come quella dei capelli i riflessi si potendono in direzione delle normali ok non è il caso del hair bsdf con hair bsdf i riflessi si potendono in due direzioni la prima la direzione delle u la seconda la direzione delle v i pallini blu alla fine dei nodi ignorateli le vedremo nella prossima lezione con i vector poi apro parenti se dico che continuo a parlare di questa lezione e la prossima lezione ma in realtà questa lezione e la prossima sono un'unica lezione divisa in due parti parti 1 e parti 2 quindi in questa lezione a un certo punto ci fermeremo e riprenderemo inizialmente nella prossima e riprenderemo esattamente da dove ci siamo fermati come abbiamo fatto nelle lezioni 36 e 37 faremo quelle lezioni 42 e 43 comunque sto divagando voi potete andare a regolare la rareness lungo la direzione delle u e lungo la direzione delle u e questo garantisce questi particolari riflessi tipici dei capelli poi avete un'opzione color una delle più importanti che vi permette di regolare il colore dei capelli insieme per esempio un colore come questo e abbassiamo tantissimo la luminosità in questo modo otteniamo essenzialmente questi bei capelli marroni che sono sicuramente molto realistici a livello di materiali e per questo l'airbsdf è particolarmente interessante poi avete per esempio regolare la rugosità in tutte e due le direzioni e poi avete anche un'opzione di offset che semplicemente vi consente di prendere questi riflessi che si generano e di ruotarli per esempio con 90 li ho ruotati di 90 gradi tuttavia molto spesso le opzioni di default vanno più che bene quindi questo nodo ragiona in base alla rifrazione al rivolesso della luce potete anche chiedere di lavorare in base alla trasmissione della luce quindi di ragionare in base a come i capelli si lasciano attraversare dalla luce come vedete i risultati sono leggermente diversi tuttavia di solito io mi basta cambiare il colore dare ai capelli il colore che voglio e già mi da questo bellissimo materiale che per i capelli è veramente ottimo perfetto ora magari vado a salvare il mio file blend con shape as scelgo il percorso in cui salvarlo entro dentro con la cartella e magari nomino il mio file in che ne so come che ne so le opzioni 42 non c'è di meglio bene e questo è il nostro airb sdf comunque sia in shader abbiamo anche tanti altri nodi andiamo a parlare del nodo di holdout prendiamo questa scimmietta e prendiamo shift d invio per duplicarla gx 3 metri per spostarla di 3 metri avanti l'ombolazione dell'ex e adesso gy-3 per spostarla di meno 3 metri l'ombolazione dell'ex prendiamo il suo materiale indipendente da quello dell'altra scimmietta e lo rinominiamo in monkeys material third andiamo a vedere il materiale di holdout il nodo di holdout è un nodo semplicissimo ed è uno dei pochi casi in blender in cui per creare il materiale perfetto che vi serve per quale situazione vi basterà un singolo nodo cancelliamo tutti questi nodi andiamo ad inserire il nodo holdout vediamo che è semplicissimo non ha opzione da regolare lo regoliamo con surface e non vediamo niente diciamo allora per capire un pochino meglio quello che ci permette di fare questo nodo andiamo in questo pannello qui in alto quello che ci permette di cambiare il motore di rendering apriamo l'opzione andiamo nel menu film e selezioniamo l'opzione trasparente e dobbiamo adesso capire un paio di opzioni ora quello che veramente ci interessa in realtà già molti di voi avranno intuito cosa fa questo nodo è il background lo sfondo io ok posso nella mia scena creare materiali infinitamente complessi posso creare oggetti infinitamente complessi posso creare tutto quello che voglio però oltre la mia scena è sempre tutto questo spazio vuoto dove io non vedo altro che il mio background il mio sfondo il mio environment quello che c'è oltre quello che non ho modellato sarebbe praticamente lo spazio vuoto io vedo oltre i miei oggetti e oltre i miei oggetti cosa vedo? io vedo il mio environment il mio sfondo il mio background lo vedo oltre questo background si può regolare e proprio attraverso i nodi tuttavia per farlo bisogna andare in una nuova sezione dello shader editor di cui in questa lezione e anche nella prossima non ne parliamo bisogna ancora aspettare un paio di lezioni prima di parlare del background che ha un editor che ha un pannello del properties tutto a sé quello che ci interessa è che se andiamo in questo menu e attiviamo l'opzione transparent possiamo fare qualcosa di molto molto interessante possiamo rendere lo sfondo trasparente vi spiego andiamo in vista camera view camera to view e per esempio posizioniamo qui la nostra camera adesso andiamo per esempio a lanciare il rendering aspettiamo che Blender faccia i calcoli necessari già ci rende conto che magari adesso il rendering può richiedere qualche istante in più perché già sicuramente abbiamo parecchi materiali che Blender deve calcolare tutti di voi qui nella finestra e non nel pop up in basso avete anche la quantità di quanto Blender ha realizzato torniamo nel pop up e vediamo che Blender in questa parte della mia scena dove ci sarebbe lo sfondo non inserisce proprio niente perché disabilito spengo il rendering fermo il rendering perché non mi interessa se attivate l'opzione transparent come vedremo meglio le lezioni future fate essenzialmente in modo che il background sia trasparente voi fate in modo che dove non ci sono oggetti dove ci sarebbe lo sfondo la vostra l'immagine finale sarà completamente trasparente non sarà bianca non sarà nera sarà trasparente l'avere un'immagine trasparente significa avere al posto di immagini trasparenti spesso in ambiente di produzione si dice immagini con taglio alfa ma un'immagine con taglio alfa significerebbe semplicemente avere un'immagine con un buco un'immagine dove c'è una zona trasparente che vuol dire che vuol dire avere un'immagine trasparente vuol dire che se io adesso prendo questa immagine che ripeto che appunto ha delle trasparenze quindi nelle parti dove non è bianca non è nera non è niente è trasparente beh avere un'immagine con questa particolarità significa che se io adesso l'andassi a sovrapporere si può fare direttamente in blender vedremo in futuro come se io adesso l'andassi a sovrapporere a un'altra immagine se io lo facessi le parti se io mettessi questa immagine sopra un'altra le parti in cui questa immagine è trasparente quelle parti verrebbero le parti dove questa immagine è trasparente beh si vedrebbe ancora l'immagine che c'è sotto se io il mio rendering lo chiamo immagine R e lo vado a sovrapporre all'immagine A nelle parti dove la mia immagine R è trasparente se io la vado a mettere sopra l'immagine A io vedo ancora l'immagine A nelle parti dove l'immagine R è trasparente vi spiego le praticamente vedete che in alcune parti della vostra immagine c'è questo motivo a quadritti grigio chiaro e grigio scuro bene dove ci sono quei quadritti vuol dire che essenzialmente lì l'immagine è trasparente l'immagine trasparente significa che è un'immagine dove si vede quello che c'è sotto se la sovrapponete a un'altra immagine dove questa è trasparente si vedrà l'immagine sotto in parole povere dove vedete questo motivetto a quadratini neri e bianchi come qui 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 nello sfondo l'immagine è trasparente di default Blender non si comporta così di default dove non ci sono oggetti dove c'è il vuoto dove c'è lo sfondo Blender dimostra un colore che potete andare a cambiare voi ci potete mettere un'immagine ci potete mettere quello che vi pare nello sfondo quindi in queste parti vuote della vostra scena tuttavia se voi in questo pannello andate ad abilitare l'opzione trasparente dove nella vostra scena non c'è nulla la vostra immagine finale risulterà trasparente e quindi ci sarà questo motivo a quadretti grigio chiaro grigio chiaro e grigio scuro ok bello ma tutto questo che c'entra con il nodo holdout bene se trasparente è disabilitato il nodo holdout non significa assolutamente niente e quindi un oggetto avente questo nodo inserito all'interno del materiale io lo vedo completamente nero se invece attivo transparent questo oggetto quindi in questo caso questa scimmietta andrà a costituire un po' un buco nella mia scena cioè andrà a costituire una porzione di scena dove anche lì l'immagine risulterà trasparente quindi in altre parole dove passa la mia scimmia quindi in altre parole tutto ciò che sta dietro la mia scimmietta ma solo ciò che sta dietro ripeto ma tutto ciò che sta dietro questa scimmietta tutte queste cose risulteranno risulteranno trasparenti tutte le parti di immagine dietro la scimmietta quindi questa scimmietta diventa un po' un buco nella mia immagine tutto quello che c'è dietro diventa trasparente come lo sfondo vedete la scimmietta va a nascondere quello che c'è dietro di essa ctrl z affinché non torna nella posizione originaria quindi in altre parole cosa fa il nodo hold out il nodo hold out mentre è un materiale normalissimo però che invece di andare a crearmi una superficie sopra il mio oggetto invece di permettermi di disegnare una superficie me lo va a far vedere trasparente in modo che dove c'è quell'oggetto io veda tutto trasparente e questo è il semplicissimo nodo hold out adesso i nodi mids e add shader li abbiamo già visti e adesso ci sarebbe i nodi principled che sono nodi molto importanti e che sono famosi perché sono un po' il fiorell'occhiello di blender sono gli unici nodi all'interno di blender che ci danno non una singola opzione non un singolo risultato ma sono come la fusione di tanti nodi ma li vediamo tra poco adesso questo oggetto lo rinomino in materiale questo oggetto materiale rosa lo rinomino skin cioè pelle prendo questa sfera e premo gz 6 per spostare questa sfera di 6 metri in avanti all'ungulazione delle y premo ctrl z per annullare shift d gx prima ho detto z invece che gx 6 per spostare fino in questa posizione la sfera adesso per spostarla di 3 metri all'ungulazione delle y gy 3 metri la inserisco in questa posizione rendo il suo materiale indipendente da quello dell'altra sfera e lo rinomino in spheres material second perché quello che prima era spheres material second è diventato una è diventato il materiale skin andiamo a questa sfera cancelliamo il nodo emission andiamo ad aggiungere il nodo refraction con il nodo il nodo di refrazione semplicemente ci è ecco è un altro nodo molto interessante all'interno di blender in realtà che va a rifrangere quello che c'è attorno alla mia sfera in altre parole fa in modo che il mio oggetto diventi un po' una una pallina un oggetto che va a distorcere tutto ciò che c'è attorno adesso che va a creare una specie è una specie diventa una specie di lente esatto diventa una lente se il colore è bianco la lente sarà una lente perfetta cioè sarà uno specchio preciso invece se il colore è diverso da un bianco vado ad aggiungere una colorazione aggiuntiva al di sopra di questa lente che ne fa che si proprio un effetto a lente adesso ragness la rugosità di questa lente con zero sarà uno specchio perfetto cioè una lente una lente perfettamente riflettente aumentando la ragness cambio il modo in cui questa lente riflette la luce e perciò la lente è appunto meno riflettente IOR è sempre l'indice di infrazione che valore ci devo mettere? boh cerchiamo su google e scriviamo IOR del materiale che dobbiamo andare a simulare in questo caso è sempre del vetro e come abbiamo visto il valore è di 1.54 quindi in IOR inserisco 1.54 che è appunto l'IOR del vetro e in questo modo posso andare a generare lenti come per esempio questa qui ok passiamo passiamo adesso allo studio di un altro nodo questo è il semplicissimo nodo di rifrazione passiamo adesso allo studio di un altro nodo molto semplice il sub safe scattering il sub safe scattering è perfetto per la creazione di effetti come la pelle perciò torniamo a lavorare sul nostro materiale skin adesso noi questa pelle l'abbiamo realizzata in un modo orrendo abbiamo semplicemente aggiunto rosa come fanno i bambini dell'elementare in realtà la pelle ha una proprietà molto speciale la pelle si fa attraversare dalla luce non so se avete mai provato a mettere il vostro dito sopra una fontina luce provate a prendere una torcia e appoggiate sopra appunto la parte della torcia che mette luce il vostro dito vedete che la punta del vostro dito diventa rossa perché la pelle si fa attraversare dalla luce quindi la luce della torcia andrà ad attraversare il vostro dito tranquillamente solo che la luce non lo attraversa così come se niente fosse la luce mentre attraversa la vostra pelle viene in qualche modo deviata altrimenti la pelle sarebbe trasparente perciò possiamo dire che la pelle è qualcosa che si fa attraversare dalla luce ma poi in ogni modo la luce viene deviata per essere ancora più precisi cosa succede la luce entra penetra nel tessuto della pelle dopo essere penetrata magari rimbalza sulle particelle interne della pelle perché la luce può penetrare lo strato superficiale della pelle ma la pelle ha uno spessore superiore a zero quindi sotto la superficie della pelle c'è un po' di altra pelle perché la pelle ha uno spessore perciò la luce penetra all'interno della pelle e poi però alla fine quasi sempre rimbalza e rifuoriesce dalla pelle quindi penetra la luce all'interno della pelle e poi riesce fuori a causa del rimbalzo con altri con i tessuti con la parte magari un pochino più interna della pelle adesso velocemente hair inserisco all'interno del preview un sistema particellare a questa voce che magari lo vedo più sembra un'icona del preview un pochino più adatta comunque tornando alla pelle quindi la pelle crea questo particolare effetto la luce penetra all'interno di esta ma quasi tutta quasi tutta appena penetra l'interno della pelle poi fuoriesce tuttavia una parte attraverso completamente la pelle e questo crea un effetto che dà proprio un questo crea un effetto molto particolare perciò il sub-safe scattering è un nodo che possiamo proprio rinominare in skin perché è un nodo unico che si usa principalmente per la creazione di pelle lo collego al material output e vedo che adesso se io ruoto la mia vista i pixel che vedo formarsi prima che Blender finisca di aggiornare il rendering sono un po' di tutti i colori perché adesso cosa fa il nodo sub-safe scattering semplicemente si fa attraversare dalla luce perché la luce proveniente da tutta la mia scena attraversa la mia superficie e poi magari dopo riesce fuori però intanto parzialmente l'attraversa e proprio questo dà un effetto molto particolare al mio materiale adesso in color scegliamo il colore della mia pelle in questo caso scelgo sempre un bel rosa un po' più saturo giocate voi con i valori e questo è appunto ciò che ci permette di fare il modificatore skin tuttavia vediamo che ci dà anche altre opzioni intanto vediamo che a livello magari un pochino più approfondito il modificatore il nodo sub-safe scattering a volte mi scappa una polina che non c'è il nodo sub-safe scattering crea una superficie attraversabile dalla luce ma simula sotto la superficie tante piccole imperfezioni che fanno in modo che la maggior parte della luce dopo essere rientrata alla fine riesce fuori tuttavia una piccola parte riesce ad attraversare completamente l'oggetto ed è fuori esattamente ciò che succede con la pelle per la qualcosa il nodo sub-safe scattering va a simulare anche tante piccole imperfezioni sotto pelle e noi possiamo andare a modificare non tanto la loro forna perché sono qualcosa di ideale che non si vede il loro scopo è solamente quello di far funzionare i rimbalzi di luce ciò che ci interessa in realtà è la loro dimensione quindi cambiando il valore di scale vado a cambiare la dimensione di questi piccoli rilievi e quindi anche il risultato del mio lavoro magari con 0 la modifica il sub-safe scattering non fa niente di particolare andandolo ad aumentare aumento la scala di queste imperfezioni quindi più aumento la scala meno queste imperfezioni sono fitte più aumento la scala quindi più il mio oggetto si fa attraversare dalla luce con 0 non si fa attraversare dalla luce con 1 si fa attraversare dalla luce atto che con 10 si fa attraversare dalla luce talmente tanto che non riflette la parte di spettro che dovrebbe riflettere e perciò lo vedo di un altro colore inseriamo per esempio 1.5 anzi è purtroppo 1.25 e andiamo a vedere le opzioni radius e testo blur allora radius è un'opzione molto efficiente per la regolazione di quanto la luce si diffonderà sotto la superficie tuttavia se io clicco mi appagliano tre parametri il primo parametro ci permette di regolare quanto la luce rossa si diffonderà sotto la superficie il secondo parametro quanto la luce verde si diffonderà sotto la superficie il terzo parametro quanto la luce blu si diffonderà sotto la superficie e in altre parole mi permette di regolare la quantità di diffusione subsuperficiale per ogni valore del canale RGB, cioè Red, Green, Blue. Infine abbiamo il texture blur. Proviamo ad aumentarlo ma vediamo che non cambia quasi niente. Questo perché il texture blur ha senso quando come colore nel nodo di substrate scattering uscigliamo una texture. Sappiamo che una texture è un'immagine e possiamo per esempio importare l'immagine di una pelle. Quindi possiamo inserire un nodo di image texture e andare a selezionare l'immagine dal nostro computer. Ma in realtà esiste un modo ancora più semplice. Basta andare nel file browser, qui in alto, e navigare da qui nel nostro computer per arrivare alla texture che ci serve. In questo caso alla texture della pelle. Per ottenere una texture come questa vi basta andare in Google, cercare pelle umana texture e vi escono fuori tantissime texture della pelle pronte all'uso. Non ve la lascio in descrizione perché in questo modo potete scegliere voi da Google l'immagine che vi serve di più. Adesso in skin texture io la vado a collegare in color. E in color io andrò a vedere essenzialmente un colore che non sarà più uniforme, ma sarà il colore dettato da questa immagine. In questo caso però l'immagine è nitida. È perfettamente nitida. Andando ad aumentare il texture blur posso andare a sfuocarla. Quindi il texture blur è un parametro umanico che ci permette di andare a sfuocare la texture che abbiamo inserito qui. Se l'abbiamo inserita, se non l'abbiamo inserita, ovviamente il texture blur non significa niente. In questo caso possiamo lasciare un colore rosa e in questo caso ovviamente non ci interessa del texture blur. E questo era il famoso nodo SubSafe Scattering. Andiamo a parlare del Toon BSDF. Magari per il Toon potremmo usare benissimo il modello 3D della scimmietta. Quindi lo seleziono, premo Shift D per duplicarlo e premo GY 6 metri per muoverlo di 6 metri l'ombulasse delle Y. Rendo anche questo materiale indipendente, è un passaggio molto importante. E lo rinomino il Monkeys Material Forte. Elimino il nodo di Holdout e andiamo a vedere uno dei nodi, forse non è molto usato, ma è tra i più interessanti di Blender, uno di quelli che mi piacciono di più. Il Toon BSDF. Qual è la particolarità del Toon BSDF? È che è progettato per i cartoni animati. È un nodo progettato per creare effetti che ricordano il più possibile quelli dei cartoni animati. È un nodo progettato per andare a creare dei riflessi che ricordano molto quelli di un cartone animato. Come per esempio questo. Osservate questi riflessi e come vedete, in realtà ricordano visivamente molto quelli di un cartone animato. È proprio uno stile da cartone animato. In Color potete scegliere il colore che più preferite. E questo colore verrà applicato per creare un effetto proprio come quello dei cartoni animati, che altrimenti sarebbe abbastanza impossibile. Facciamo notare che poi si creano proprio queste zone più colorate dove la luce si riflette. Mentre poi si creano anche tutte queste altre zone un pochino più in ombra. Andiamo a vedere che con Size possiamo andare ad aumentare le dimensioni delle zone, diciamo, in luce. Attenti a non inserire valori magari esagerati che potrebbero potenzialmente combinare l'effetto. Però a parer mio, ecco, già ho risultato come questo, è sicuramente molto 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 bello da vedere. Infine abbiamo anche un'opzione di Smooth che permette di smussare il confine. Mi spiego, magari per vedere meglio facciamo scendere la Size. E vediamo che con Smooth a zero il confine tra la zona illuminata e quella non è molto netto. Con Smooth posso passare dalla parte illuminata a quella meno illuminata in modo più graduale. L'effetto in questo modo è più realistico, però in alcune situazioni può rovinare l'effetto a cartone animato. Dove è proprio questo grande contrasto a dare un po' all'illusione di un cartone animato. Che poi, in effetti, per cartone animato intendo il cartone animato classico, quello in 2D. Ma in realtà, sotto certi punti di vista, tutto ciò che è realizzato in Blender è comunque un cartone animato. Ho basato su tecniche di animazione modernissime, però è comunque un cartone animato. Torniamo alla nostra scimmietta. Vediamo che abbiamo qui un'interessantissima opzione. Che normalmente è stata su Diffuse. Che fa in modo che questo sia un colore di diffusione. Quindi si basa sullo stesso principio del nodo Diffuse. Abbiamo visto che il nodo Diffuse semplicemente applicava un colore alla mia mesh. Che si vedeva solo se quella parte della mia mesh era illuminata. Questo lo fa, o del mio oggetto era illuminato. Questo lo fa anche l'opzione Diffuse. Glossy, invece, mi va a creare un effetto che ricorda di più una riflessione. Quindi Diffuse è un'illuminazione diffusa. Glossy e mi dà più un effetto a riflessione. Utile, per esempio, per materiali vitrei. E questo era il Tune BSDF. Adesso, vediamo che abbiamo alcuni altri nodi molto interessanti. Il Translucent, il Transparent e il Velvet BSDF. Adesso, per rivederli bene, andiamo, per esempio, a questa sfera e premo Shift-D, G-Hits-3, per spostarlo indietro di 3 metri lungo l'asse delle Hits. e lo rinomino in Spheres Material-Third. Ci baseremo su questo materiale per l'analisi di altri due nodi, il Translucent e il Transparent. E noi facciamo il Translucent. Il Translucent è un materiale molto, molto semplice e mi permette di creare i materiali translucenti, cioè materiali che si fanno attraversare parzialmente dalla luce. Scusate, mi sono dimenticato di rendere, premo CTRL-Z per annullare tutto, mi sono dimenticato di rendere il materiale di questa sfera indipendente da quello di quest'altra sfera. Dovevo cliccare su questo 2 prima di fare qualunque altra cosa. Rinomino i materiali, quindi questa sfera iniziale, la sfera iniziale, quella con il materiale emission, si deve chiamare Sphere Material, invece questa sfera deve essere Sphere Material Third. Quindi adesso questi due materiali sono indipendenti, mi ero dimenticato di rendere indipendenti. Elimino l'emission e andiamo a vedere il Translucent BSDF, cioè che come ho detto, è un nodo che mi permette di creare un materiale che si lascia attraversare parzialmente dalla luce. Prima e ultima opzione è l'opzione Color, che mi permette di regolare il colore di questo materiale, materiale che si lascia attraversare parzialmente dalla luce. Bisogna che io predilinco per questi casi saturazioni un pochino più basse, che mi mettono più in risalto la traslucenza. È comunque un materiale molto semplice. Adesso andiamo invece a parlare dello shader transparent, che diciamo che sotto certi punti di vista lo shader transparent è un pochino, forse anche relativamente semplice, perché mi permette di creare un oggetto che praticamente è invisibile. Per capirlo, prendiamo questo cubo, Shift D, invio per duplicarlo, GITS, meno tre metri. Prendiamo questo materiale indipendente dall'altro materiale del cubo e lo rinomino in Cubes Material, third. Elimino il diffuse da questo materiale e aggiungo il bellissimo e semplicissimo transparent BSDF. Semplicemente, cosa fa questo nodo? Mi rende il mio oggetto completamente trasparente e per completamente trasparente voglio dire che l'oggetto sarà invisibile, perché non ci sarà proprio più niente da vedere. Mi raccomando, dovete lavorare con Cycles, perché se stesse lavorando su Eevee, in particolare a questo punto, troverete tantissime differenze a livello di risultati, perché come vedremo quando faremo appunto una lezione su Eevee, ci sono importanti differenze tra appunto Eevee e Cycles, soprattutto dal punto di vista dei materiali trasparenti, perché Eevee è un qualcosa che non calcola le cose e con la stessa precisione di Cycles. Quindi il trasparente mi nasconde completamente gli oggetti se il colore acquisitato è completamente bianco. Se fate scendere la luminosità, tornerete a vedere parzialmente, solo parzialmente, il vostro oggetto. Come per esempio, in questo caso. Io lo torno a vedere parzialmente come una specie di home. Ora, ovviamente, gli spunti pratici sono infiniti. Già, adesso, stiamo conoscendo in modo abbastanza avanzato i materiali dello shader. Adesso, prima di parlare dei principles e dei volumi, e dei materiali dei volumi, andiamo a parlare dello shader Velvet. Lo shader Velvet è uno shader progettato per coloro che lavorano con le simulazioni dei cloth. Quindi, a questo cubo inseriamo il cruzore dove si trova il pivot di questo cubo con Shift-S cruzore to selected. Adesso, aggiungiamo un nuovo piano e lo muovo lungo l'asse delle Z. adesso lo scalo un poco, vado in Elite Mode e lo suddivido. Inserisco un centinaio di suddivisioni che vanno più che bene. E, andiamo a raggiungere una simulazione di tipo cloth. Adesso, sia a questo cubo che a questo piano aggiungo una simulazione delle collisioni, cioè aggiungo una simulazione di tipo collision, con Shift-F12 apro la timeline, vedo che invece il blending mi ha aperto il top sheet perché si chiama con la stessa shortcut, ripriamo Shift-F12 per avere la timeline. faccio partire l'animazione e stoppiamo l'animazione. andiamo un attimo in Solid Mode per vedere meglio il nostro risultato. ok, magari applichiamo alla simulazione cloth un bello Shady Smooth, inseriamo una ventina di quality steps per essere un pochino più precisi in Shape Ability in scusate Collisions abilitiamo le self-collisions quindi facciamo partire l'animazione aspettiamo di vedere il piano già vediamo che magari adesso la simulazione è molto più precisa stoppiamo l'animazione cambiamo questo risultato mi piace vado nei modificatori e applico il cloth in questo modo mi blocco su questo risultato che rimane congelato nella mia animazione mi fa anche particolarmente comodo a livello di interfaccia perché posso anche rimpiccire la mia timeline che non mi serve più adesso ho questo mio tessuto quindi devo andare che rinomino proprio in cloth a livello di nome devo riuscire a creare un materiale che sia adatto per un vestito che è ovviamente un nuovo per un oggetto cloth creo un nuovo materiale lo rinomino in cloth il principal bsdf dobbiamo ancora studiare addirittura lo cancello e andiamo ad aggiungere il velvet il velvet il velvet è uno shader quindi uno di questi nodi collegati direttamente con l'output progettato totalmente per i vestiti quindi adesso io applico uno shader smooth in primo luogo magari nella simulazione cloth addirittura inserisco proprio come come modalità di visual come preview un cloth per essere più precisi vedo che ci sono alcune piccole imperfezioni nell'ombreggiatura ma proviamo a risolvere con un subsurf saldiamo il file può essere utile se abbiamo un computer poco potente magari applicare un subsurf a una mesh così complessa se non si ha una buona scala grafica potrebbe anche provocare il crash del pc di blender che potrebbe rischiare di portare alla perdita di tutto il nostro lavoro così io prima lo salvo questo è tranquillo applico il modificatore e ok adesso la mia ombreggiatura è perfetta quando vedete che si creano dei poligoni sopra l'ombreggiatura provate ad aumentare la risoluzione allora il velvet la sua particolarità è proprio quella di creare particolari ombreggiature studiate proprio per i vestiti infatti vediamo che se io l'applicasse a una sfera ottenerebbe un brutto risultato invece applicato un cloth l'effetto che vado ad ottenere ricorda proprio quello un vestito prima opzione molto semplice color il colore del mio oggetto per esempio un bel blu è comunque interessante dal punto di vista del risultato sigma ci permette di andare a regolare la quantità di riflesso della luce sulla nostra mesh cerchiamo di capire un pochino meglio sento momentaneamente sento velocemente l'origine della geometria e l'origine del mio oggetto alla sua geometria e diciamo che essenzialmente l'opzione sigma è la quantità di micro rilievi del mio tessuto e il fatto è che ogni tessuto non è qualcosa di liscio e rigido come un pezzo di legno perché il blender non ne può simulare i riflessi di luce allo stesso modo un tessuto è qualcosa che ha tanti piccoli micro rilievi e che con le particelle minuscole che lo compongono con i singoli fili che lo compongono tende anche ad intrappolare la luce beh il nodo velvet velvet è proprio una parola inglese che significa velluto tende a fare la medesima cosa cioè tende a tende a creare proprio un effetto che ricorda un velluto ciò che è importante capire del valore sigma è che è un po' una solità di rubidità è un po' una quantità di discostamento della direzione di riflessione della luce rispetto alle normali però l'unica cosa che essenzialmente serve a sapere è che sarebbe la quantità di superficie non nera che io vado a vedere questi sono i nodi essenzialmente delle superfici quindi i nodi che io nel material output vado a collegare alla voce starface andiamo adesso a vedere i tre nodi magici all'interno di blender cioè i tre nodi del principle in parole povere ne abbiamo una quantità gigantesca di nodi abbiamo visto che molto spesso io devo sommare un diffuse a un glossy ma comunque sia se vogliamo creare un effetto complesso le centinaia di nodi in tutti i nodi che abbiamo visto ci farebbe comodo sommare metterli insieme allora si sognava in blender un nodo che contenesse tutte queste cose assieme quindi un nodo che ci permettesse in una sola interfaccia di regolare sia la rugosità e le riflessioni sia la colorazione diffusa e sia l'emissione dei sia l'emissione della luce in altre parole serviva un nodo così un nodo che concentrasse in sé tutte le opzioni di colorazione di base allora la blender foundation l'ha creato e l'ha chiamato principled cioè il nodo principale è diventato il nodo di default di ogni materiale in blender ogni volta che creiamo un materiale questo materiale è il principled perché è il nodo più usato il 90% delle volte se dovete creare un semplice materiale partirete dal principled perché non solo è comodissimo perché vi permette di regolare tutto ma è anche interessante perché è anche compatibile parzialmente con altri software con altri con altre interfacce esterne ci sono altri ci sono altre case cinematografiche che effettivamente hanno delle interfacce compatibili con il principled di blender che è quindi un nodo fantastico bellissimo e meraviglioso andiamo a cercare di capire come usarlo duplichiamo questa scimetta premo con shift di invio giz meno 3 invio e l'ho duplicata adesso rendo questo materiale indipendente e lo rinomino principled bsdf e finalmente si parla del nodo più utilizzato all'interno di blender che è appunto il principled bsdf lo vado a collegare velocemente al material output e torno ad avere in realtà il mio materiale di default che consisteva appunto in un principled bsdf collegato in un material output vediamo che il principled bsdf ha una marea di opzioni cerchiamo di capire come egli ragiona cerchiamo di capire allora come ragiona l'opzione più semplice e la più utilizzata è la semplicissima base color che mi permette di andare a cambiare il colore di base della mia mesh per esempio posso inserire un blu poi mettiamo che io volessi andare a fare in modo che la luce penetri sulla superficie del mio materiale poi rimbalzi rimbalzi appena arrivata nella sottosuperficie e torni di nuovo all'esterno quindi mettiamo che io voglio creare un effetto uguale a quello un effetto simile a quello della pelle ci verrebbe da dire beh cancelli il principled bsdf e aggiungi il nodo subsafe scattering non è necessario perché le funzioni del subsafe scattering io le posso io le opzioni del subsafe scattering ce l'ho anche all'interno del principle bsdf in subsafe io posso andare ad aumentare la quantità di subsafe quindi la quantità di luce che passa attraverso la mia mesh posso aumentare questo subsafe quindi la quantità di luce che passa attraverso la mia mesh che poi magari incontra delle imperfezioni subsuperficiali e toglie la superficie quindi posso aumentare questo la quantità di luce che riesce a superare la superficie della mia mesh per esempio un punto 2 già cambia molto l'effetto apre parentesi ricordatevi che i materiali che non hanno una superficie nitide che si fanno parzialmente attraversare dalla luce spesso sono i materiali più difficili su cui lavorare ma quanto la quantità e perciò la luce oltrepassa il mio materiale la superficie del mio materiale posso anche benissimo andare a lavorare su quanto la luce rossa la luce verde o la luce blu penetra all'interno del mio materiale in subsafe radius questo parametro mi permette di regolare quanto la luce rossa riesce a passare attraverso la superficie questo parametro mi permette di regolare quanto la luce verde riesce a passare attraverso la superficie questo parametro mi fa regolare quanto la luce blu passa attraverso la superficie ma la luce che passa attraverso la superficie che colore ha? voi direte quindi la luce che passa sotto la superficie alla fine mi va a rivelare un colore subsuperficiale perché alla fin fine questa luce rimbalza sotto la superficie incontro delle imperfezioni sterile l'imbalza e torna su quindi il suo colore mi va a rivelare il colore subsuperficiale della mia mesh ok questo colore io lo posso decidere alla voce subsurf color se subsurf è a 0 il subsurf color non ha nessuna importanza ma se subsurface è maggiore di 0 subsurface color mi va a regolare il colore sotto la mia mesh e il colore che si nasconde sotto la sua superficie per esempio in questo modo se aumento il subsurface io vado a rivelare un colore giallo se lo metto a 0 vado a non vedere un colore giallo quindi io qui invece per esempio posso inserire un bel fucsia e più aumento il subsurface e più il penetrare della luce attraverso la mia mesh aumenta il modo in cui io rivelo il colore subsuperficiale della mia mesh che è appunto un fucsia lo aumento e ottengo questo risultato con 0 il subsurface color non ha importanza Metallic una delle opzioni più interessanti all'interno di Blender e forse la sua particolarità è proprio quella di permetterci di creare un effetto che altrimenti sarebbe impossibile che sarebbe molto difficile da creare senza il principal di SDF un metallo se io metto il Metallic a 1 io vedo essenzialmente proprio il risultato di un metallo per quando utilizzate i metalli è molto sconsigliato l'utilizzo del subsurface perché i materiali sono uno degli unici oggetti che proprio 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 della luce non si fanno attraversare la riflettono con 0 non vi è con 0 non vi è Metallicità aumentando Metallic andate ad aumentare la Metallicità i valori e con 0 il materiale non è di metallo con 1 il materiale è di metallo in realtà i valori intermedi non hanno tanto senso perché effettivamente o un oggetto è di metallo o un oggetto non è di metallo non esistono oggetti di metallo al 50% o meglio potrebbero anche esistere ma alla fine la superficie o rifletterebbe la luce come un metallo o non rifletterebbe la luce come un metallo è impossibile che la superficie rifletti la luce come un metallo al 50% perciò i valori intermedi non hanno tanto senso andiamo a vedere altre opzioni speculare essenzialmente la luce speculare della mia mesh i riflessi speculari della mia mesh andiamo a capire meglio di che si tratta per farlo andiamo ad azzerare la metallicità e vediamo che essenzialmente l'opzione specular ci permette di fare questo ci permette di regolare il riflesso speculare della mia mesh cos'è il riflesso speculare? semplicemente il riflesso della luce lungo le normali di ciascun vertice con specular questo riflesso non c'è l'ho noto molto bene anche nel preview vedete non c'è nessun riflesso luminoso con uno invece il riflesso luminoso c'è e come e lo vedo molto chiaramente non il riflesso luminoso sia il riflesso luminoso è veramente molto molto chiaro ma questo riflesso luminoso che colore ha? se specular tint è a 0 sarà bianco se specular tint è a 1 sarà del colore uguale al base color 0 bianco 1 un colore uguale al base color con per esempio a 0.5 si troverà un colore a metà tra il bianco e il base color rag e infatti è proprio questa l'opzione di default anzi no 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 scusate di default è bianco mi sono confuso ragness opzione classica la rugostà del materiale con 0 il materiale è uno specchio magari mettiamo per esempio anche un metallic ad 1 e si crea un effetto molto molto interessante con la ragness a 0 si crea proprio uno specchio che sembra durissimo infrangibile ed è molto interessante ma non è un materiale trasparente con ragness invece ad 1 non c'è assolutamente io posso azzerare la riflessione antistropic magari l'effetto sarebbe più visibile per esempio sono una sfera quindi per esempio prendo questa sfera shift d invio g it's meno 3 metri rendo il materiale indipendente e lo rinomino in pbr2.0 adesso spiego anche il motivo di questo nome il fatto è che pbr è un nome alternativo del del principio al bsdf perciò chiamandolo pbr2.0 praticamente intendendo dire secondo esperimento con il nodo pbr andiamo ad inserire il pbr e andiamo a vedere appunto l'antistropic inseriamo la base color che più preferiamo un base color bello verde abbassiamo un minimo la ragnas e antistropic ci permette di creare mi permette in generale di creare sopra la mia mesh quei riflessi che altrimenti si creerebbero utilizzando lo shader antistropic anistotropic vabbè è questa parolina qui anisotropic è una parola un po' complicata da pronunciare diciamo solamente che anisotropic a 0 non inserisce riflessi anisotropic anisotropic a 1 inserisce riflessi anisotropic al massimo ricordatevi che i riflessi anisotropic sono riflessi della luce lungo la tangente dei vertici andiamo a reinserirli per capire anisotropic rotation mi permette essenzialmente di ruotare questi riflessi vedo che infatti andando a cambiare questo valore io posso cambiare tranquillamente la ruotazione dei miei riflessi bene abbiamo detto che il materiale che il vantaggio del nodo principal bsdf è essenzialmente quello che mi permette che è un solo nodo che mi permette di creare una vastissima gamma di effetti quindi va a sostituire un sacco di nodi perché a che mi serve il nodo diffuse se ho il principal bsdf a che mi serve il glossy se ho il bsdf se ho il principal bsdf sono tutti che anche l'anisotropic se io per esempio vado ad abbassare la ragnas non del tutto però se io vado ad abbassare un po' con la ragnas ma ne lascio comunque un pochino ed inserisco metallica ad uno in effetti posso creare comunque un effetto con dei riflessi anisotropici è anche molto interessante perché con un effetto metallico quindi magari non possiamo dire che lo shader pbr va a sostituire tutti gli altri shader però sicuramente in molti casi in cui vi sarebbero serviti altri shader invece potete usare questo nodo che quindi è un po' un sostituto per tantissimi altri shader andiamo a proseguire la nostra analisi prendiamo la mia sfera la duplico con shift d g y 3 metri adesso regno indipendente il materiale di quest'altra sfera e lo rinomino in pbr 3.0 adesso risetto questo nodo con node il reset node che si chiama con backspace andiamo per esempio a cercare un pochino con queste opzioni inseriamo un azzurro oppure un bel metallic con una hardness molto bassa non proprio a zero ma molto bassa ok in questo modo abbiamo settato per esempio quest'altro semplicissimo materiale vediamo la posizione clear coat inserè aumentando il clear coat potete andare a creare un effetto simile a una vernice bianca una vernice bianca trasparente stesa sopra la vostra mesh il che ne va a modificare leggermente con il clear coat aumentandolo andate ad aggiungere questa vernice bianca trasparente sopra la vostra mesh con zero essa non c'è con uno essa c'è quindi l'effetto sarebbe più visibile sul materiale del piano che ancora ha le opzioni di default andiamo a settare il materiale come meglio vogliamo metallico google setta bassa ormai siamo abbastanza esperti di scegliere almeno con clear coat io vado a stendere una vernice bianca sopra il mio oggetto aumentando clear coat non si vede molto visivamente il risultato ma c'è un cambiamento ma c'è un cambiamento clear coat ragness mi permette di scegliere semplicemente quanto deve essere la rugosità di questa vernice bianca spesso è un po' un dettaglio però c'è un cambiamento vi invito ad osservare in particolare questo preview dove magari si nota un po' di più osservate con attenzione questa finestrella questo è con clear coat a zero si vede proprio il metallo forte giallo bello netto inseriamo di colpo clear coat ad uno e magari il colore del giallo adesso è un po' più blando perché sopra è stata stessa una vernice bianca e trasparente osservate senza clear coat il colore si vede proprio in metallo invece con clear coat a uno si è come un effetto a vernice come se proprio sopra come se sopra ci fosse qualcosa altro perché effettivamente è questo che viene simulato magari non è proprio qualcosa che si nota a colpo d'occhio non è qualcosa che notate se state vedendo questo video in bassa risoluzione ma è un piccolo dettaglio che cambia e il modo in cui cambia è importante per esempio puoi andare a cambiare la rareness e anche questo è importante poi l'opzione shin per capirla prendiamo questa stoffa e la duplichiamo adesso lo muovo premo gx3 meno per muoverlo di meno 3 metri lungo l'asse delle hits gx3 meno adesso premo anche g y3 per muoverlo anche di 3 metri lungo l'asse delle hits e per finire bellezza prendiamo questo 2 per prendere questo materiale indipendente lo rinomino in cloth pbr elimino il velvet e aggiungo il nostro bellissimo principled bsdf salvo il mio lavoro lo posso fare direttamente con ctrl s adesso andiamo magari a inserire un bel verde aumentiamo i riflessi speculari e con l'opzione shin possiamo andare ad e con l'opzione shin possiamo andare a modificare i riflessi ai bordi della mia mesh per creare un effetto che potenzialmente può ricordare un pochino meglio il velluto tuttavia quindi aumentando quindi se dovete simulare una stoffa spesso lo shin aumentare lo shin può aiutare aumenta la brillantezza della mia mesh ai bordi lunghi bordi tuttavia molto spesso la differenza è veramente molto molto piccola poi abbiamo sempre la voce i o r quindi per esempio andiamo a quest'altra sfera e andiamo a settare l'i o r che cosa dobbiamo inserire all'i o r allora questa sfera di che materiale è è di metallo allora andiamo su google cram cerchiamo i o r del metallo poi il computer ci dice che abbiamo altre 12 righe da vedere in questa bella cerchiamo nei siti che ci vengono a disposizione l'i o r che ci serve qui ne abbiamo parecchi non mi pare che venga citato il metallo torniamo indietro ad esempio sul sito di blender italia c'è la comunità italiana di blender vengono citati alcuni dati i o r molto utili vediamo ecco in ordine alfabetico qui sicuramente il metallo c'è il metallo è anche troppo generico in questo caso stiamo parlando di ferro quindi cerchiamo qui nell'elenco il ferro ci dovrebbe essere qui c'è l'alluminio è 1.44 va bene anche dovrebbe andare bene cerchiamo proprio il ferro in particolare ecco iron ferro 1.51 andiamo in i o r e mettiamo 1.51 e inseriamo esattamente l'indice di rifrazione che volevamo quindi avevo visto che il prince quindi non so che magari può sembrare mamma mia se l'indice di rifrazione cambia così poco si però cambia così poco il risultato perché dobbiamo prenderci tanto tempo si però molto spesso in questi casi particolari non lo notate ma vediamo tra poco che ci sono delle situazioni in cui cambiare l'indice di rifrazione può migliorare comunque il risultato e poi comunque lo rende molto più preciso a livello pratico quindi io di solito tendo a modificare a cercare di ricordarmi di modificare l'i o r adesso andiamo a prendere un cubo come questo shift d lo duplico g epsilon meno 3 metri così ottengo un altro cubo qui rendo indipendente di questo materiale e lo rinomino in transmission pbr vediamo che vediamo che è vero che può sostituire tantissimi nodi il pbr e infatti può sostituire anche il nodo glass infatti per creare un vetro usando il principal shader basta aumentare la luce di trasmissione cioè la voce che ci permette di regolare quanto la luce attraverso quel materiale sbada brumbede ho ottenuto un piccolo vetro poi posso regolare la rugosità di questo ve della la rugosità della trasmissione in transmission ragnas mi resta sempre molto importante la rugosità in generale del mio vetro quindi avvento un pochino la rugosità in un momento molto bassa in quanto il vetro appunto ha una rugosità molto bassa poi già prima avevamo visto che la rugosità del vetro è di 1.54 e quindi qui vado direttamente nell'io che l'io è scusate del vetro è di 1.54 e quindi anche qua vado al vetro esatto come IOR 1.54 poi in questo caso particolare infatti si crea una piccola differenza che va a migliorare il mio risultato poi posso sempre andare a cambiare il colore del mio vetro io bisogno di inserire sempre valori con una bassa saturazione per mantenere bene bene le trasparenze e in questo modo posso settare materiali direttamente dal mio principal BSDF quindi voglio creare un vetro materiale default transmission 1 ragness la basso un pochino e già ho ottenuto essenzialmente un mio vetro quindi senza stare lì a settare centinaia di opzioni senza inserire chissà quali miliardi di nodi già materiali complessi come quelli che vediamo qui io li posso creare in modo veramente molto 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 semplice adesso andiamo a lavorare un po' nel vedere che anche il nodo emission vede il PBR come un concorrente perché il nodo PBR perché il principal BSDF è utile anche per creare materiali di tipo emission andiamo a vedere come andiamo a prendere per esempio questa sfera apriamo shift d invio g 3 metri così ottengo questa nuova sfetta elimino rendo intanto questo materiale indipendente premendo sul 2 e adesso inserisco come nome emission PBR elimino il refraction e aggiungo sempre il principal BSDF e andiamo a vedere che possa anche creare delle emissioni come mi basta andare alla voce emission e inserire il colore dell'emissione se il colore è nero l'emissione non ci sarà e infatti di default il colore è nero e l'emissione non c'è mi basta inserire per esempio il colore che io voglio e andrò ad applicare questa emission che però si andrà sempre a sommare al valore della superficie qui sarà una sfaccia bianca in questo caso che mette luce rossa posso andare ad eliminare il colore superficiale mettendolo a zero ad eliminare i riflessi speculari per fare in modo che rimanga quindi posso mettere questo nero e eliminare i riflessi speculari per far rimanere solo l'emissione luminosa così è un risultato del tutto simile al risultato che ho con il node emission oppure posso anche sommare l'emissione luminosa a una superficie che posso regolare con il base color e i riflessi speculari comunque giocate un po' con i valori che avete a disposizione inoltre fino alla versione 2.9 di blender se io volevo aumentare la forza di questa emissione dovevo andare ad aumentare il valore v con v a zero l'emissione non c'era con v a uno l'emissione aveva la forza pari a uno ma se io inserivo per esempio v a 5 con questo piccolo trucchetto rendevo il rendevo il colore che è inserito 5 volte più luminoso rispetto al livello massimo e quindi v a 5 equivaleva a strength della luminosità a 5 v a 8 strength della luminosità a 8 per quanto questo metodo non fosse molto corretto matematicamente perciò dalla versione 2.91 è stata introdotta una nuova funzione che ci permetteva di regolare manualmente il valore di strength in modo magari un pochino più corretto emission strength io posso aumentare la luminosità del mio oggetto semplicemente andando ad aumentare il valore emission strength questa è la potenza dei materiali gente mi sto innamorando di questo mondo eh lo direte vi assicuro che lo dire no no scherzo infine abbiamo anche il parametro alfa cioè essenzialmente la trasparenza del mio materiale infatti se io mettendo transmission ad 1 creo un vetro creo comunque un vetro non creo un materiale completamente trasparente creo aumentando il transmission un effetto uguale a quello che ottenevo con il glass shader se invece volessi un effetto uguale a quello che ottenevo con il transparent bsdf devo la rivolare con il valore alfa con 1 il materiale completamente opaco abbassandolo lo rendo trasparente lo rendo sempre più trasparente e mettendolo a 0 il materiale scompare questo signore e signori è il mitico nodo principal bsdf che è di galunga il nodo più utilizzato all'interno di blender bene fantastico andiamo adesso a finire di studiare i miei shader quindi vediamo che abbiamo anche un principal hair con un altro tipo di nodo principal molto più semplice molto più veloce che ci permetterà di chiudere con gli shader superficiali poi vedremo gli shader volumetrici le texture e anche per oggi avremo finito per quanto prima di vedere gli shader volumetrici voglio spiegarvi un paio di cose relative al pannello dei materiali spero che siate riusciti a replicare il più possibile di tutta questa vasta gamma di materiali che troviamo qua che sono tutti materiali comunque abbastanza semplici basati su in un solo nodo ovviamente poi i nodi si possono iniziare a mettere insieme ma queste sono tutte cose che imparirete con l'esperienza e ci vorrà del tempo allora prima di passare ad analizzare alcune funzioni in più del pannello dei materiali per poi andare con i materiali volumetrici e poi finire con le texture e poi terminare questa lezione e continueremo con la seconda parte in cui finiremo l'analisi dei nostri materiali ma prima di fare tutte queste cose bellissime dobbiamo prima vedere il materiale scusate il nodo Principal Hair BSDF che è un nodo alternativo per oltre al nodo è un nodo alternativo oltre appunto al classico Hair BSDF che ci permette di avere molto più controllo sulla creazione del materiale di un sistema particellare di tipo Hair seleziono questa testolina e adesso premo Shift D invio G X 3 metri invio G Y 6 metri meno per la direzione opposta invio mi sa che coincide con un altro oggetto allora premo G Y meno altri 3 metri in questo modo abbiamo quest'altra copia della mia testa vado in Hair nel materiale del sistema particellare e premo questo 2 per andare a inserire Hair perché è un nuovo materiale indipendente e lo rinomino in Hair Principled è quello che andrò ad utilizzare per quest'altro sistema di capelli di quest'altro oggetto magari vado a prendere la mia luce Shift alla nuova testa del nuovo personaggio il che mi permetterà di vedere chiaramente il sistema particellare seleziono il mio oggetto vado nel sistema particellare e mi escuro che in materiale si è proprio selezionato Hair Principled adesso in questo materiale elimino l'Hair DSDF e inserisco qualcosa di un pochino più avanzato il Principled Hair BSDF in realtà il Principled Hair BSDF è il bellissimo insieme di tre nodi il Direct Red Coloring il Melanine Concentration e l'Absorption Coefficient cioè tre sistemi diversi di colorare i capelli andiamo a vedere questi sistemi Directing Color semplicemente mi fa scegliere un colore per i miei capelli per esempio in questo caso scelgo dei bei capelli biondi come questi aspetta ovviamente ogni volta che fate una modifica anche minima ai vostri materiali Blender riavvia il rendering della della Viewport adesso Ragnas la rugosità dei vostri capelli inseriamola abbastanza bassa per creare un effetto con un pochino più di riflesso andiamo adesso a vedere le altre opzioni che Blender ci dà andiamo a vedere che altre opzioni abbiamo abbiamo oltre alla Ragnas quindi ha l'opzione della rugosità la Ragnas che essenzialmente ci permette che essenzialmente se è bassa concentra il riflesso del capello quindi con una Radial Ragnas bassa il riflesso della luce sui capelli sarà concentrata con una Radial Ragnas alta il riflesso della luce sul capello non sarà concentrato comunque si ha la rinfine la differenza è abbastanza bassa ora poi abbiamo l'opzione Coat l'opzione Coat smorza la rugosità solo al primo rimbalzo della luce sul capello perché Cycles riesce a simulare tutti i rimbalzi di luce questa è una delle caratteristiche fondamentali di Cycles sa simulare tutti i rimbalzi di luce la prima volta che un raggio di luce colpisce il capello Blender ne smorza il riflesso tutte le altre volte se aumentate Coat non lo fa quindi aumentando Coat possiamo andare a smorzare il riflesso quindi questo è con Coat a 0 magari questo è con Coat a 0 e questo è con Coat a 1 come vediamo la differenza non è molto grande l'IOR l'IOR dell'indice di riflessione del capello in realtà in questo caso 1.55 va già più che bene poi abbiamo Offset che ci permette di inclinare la Offset è molto interessante considerata la tangente del capello quindi la direzione in cui si stende il capello Offset ci permette di fare ciò sarebbe l'inclinazione della direzione di riflessione della luce rispetto alla direzione del del capello ciò mi spiego apro lo strumento annotate consideriamo questo come il cuoio capelluto consideriamo come questo il capello adesso andiamo a considerare un raggio di luci che colpisce il cuoio la base del capello e poi rimbalzerà in base e poi ovviamente si protrarrà lungo e poi si andrà a protrare in una direzione che cambia a seconda di quale punto del cuoio capelluto ha colpito quindi per esempio questo è il cuoio capelluto questo è il capello e questa potrebbe essere la direzione del raggio di luce che tuttavia però Blender va a considerare in base alla direzione tangente del capello quindi alla direzione di estensione del capello quello che ci interessa è che con Offset io posso andare ad inclinare la direzione di riflessione del mio della luce in base alla direzione tangente del capello inseriamo 0 gradi e tra la direzione del capello non ci sarà nessuna inclinazione inseriamo 45 gradi e ci sarà una forte inclinazione rispetto al risultato che dovrà ottenere normalmente quindi come vediamo il riflesso è un po' più particolare c'è una zona dove la luce tende a concentrarsi di più perché io ho inclinato la direzione di riflessione inserisco 90 gradi e cambio ancora il mio risultato fate qualche prova infine con random comunque sia non è un valore che cambia molto il mio risultato infine con random ranges quanto la rugosità deve essere randomica con .92 inserito una grandissima quantità di randomizzazione e questo essenzialmente questo algoritmo vi permette di settare il colore dei capelli in base proprio a un colore invece con melanin concentration lo potete settare in base a un altro principio in base alla concentrazione di melanina la concentrazione di melanina la potete andare a modificare con l'opzione melanin con 0 non ci sarà melanina e con i capelli saranno bianchi con .2 avrete con .25 anzi per essere più precisi avrete dei bellissimi capelli biondi con .5 avrete dei capelli rossastri mentre con .8 non vi dispiaceranno dei bellissimi capelli castani infine con 1 i capelli saranno perfettamente negli inseriamo anche quelli di capelli biondi mettendolo a melanina a .25 quindi blender con l'algoritmo melanin redness va a calcolare il mio va a calcolare il colore dei capelli in base alla melanina tuttavia io e questo magari mi permette una grandissima precisione perché il colore reale di un capello nella realtà dipende dalla melanina in realtà però abbiamo anche una tinta quindi un colore possibile da applicare da un colore applicabile dopo che blender ha calcolato il colore dei capelli in base alla melanina quindi un colore successivo da applicare posso scegliere il colore che io voglio se non voglio che venga applicato nessun per esempio che ne so anche un colore abbastanza realistico se io non voglio che venga applicato magari applico sopra una tinta nera se voglio che venga applicata una tinta nera se invece non voglio che ci sia nessuna applicazione di nessun colore sopra la melanina devi inserire una tinta bianca attenzione sempre al fatto che il vantaggio di lavorare con l'opzione di melanin concentration ti permette di ottenere solo colori dei capelli possibili nella realtà andiamo a continuare abbiamo sempre l'opzione ma questo ovviamente l'unica differenza tra direct coloring e melanin concentration è che cambia il modo in cui potete scegliere il colore se con un colore basta o se lavorando con la concentrazione di melanina e applicando sopra una tinta ma le altre opzioni sono uguali infine abbiamo un bello absorption color che invece ragiona in un modo ancora diverso voi potete scegliere quanto il tessuto del capello assorbe la luce rossa quanto assorbe la luce verde e quanto assorbe la luce blu per esempio se inserite uno a questi due parametri fate in modo che il tessuto del capello assorba tutta la luce verde e tutta la luce blu se in absorption coefficient io metto 0 lui non assorbirà per niente la luce rossa ma assorbirà al massimo sia la luce verde che la luce blu perciò quella che si rifletterà sarà la luce rossa ricordatevi non è la luce assorbita ma quella che riflessa quella che vedete e poi c'è in questo momento vedo un bellissimo colore rosso se invece io inserisco uno anche al rosso blender mi andrà a simulare un capello che assorbe sia la luce rossa che la luce verde che la luce blu e così via e questo vi permette di settare il colore del capello in un altro modo ancora e questo è il principio RBSDF bene adesso conosciamo in modo abbastanza approfondito gli shader delle superfici prima di passare a studiare gli shader volumetrici vi voglio spiegare un altro po' di cose relative al tab dei materiali per avere più spazio torniamo nell'interfaccia di layout e assicuriamoci di essere in rendered mode adesso non dobbiamo creare materiali dobbiamo solo andare a vedere non dobbiamo creare in modo avanzato dobbiamo solo fare qualche piccolo esempio per capire alcune opzioni che blend si mette a disposizione allora noi finora abbiamo creato tutti questi oggetti dove ogni oggetto ha un suo materiale ma ogni oggetto ha un singolo materiale e basta quindi non abbiamo ancora visto come creare degli oggetti che hanno in sé più materiali cerchiamo di capire che intendo dire shift A cube per aggiungere un semplicissimo cubo e adesso lo trasliamo verso l'alto questo è un normalissimo cubo a sei facce e adesso noi possiamo anche creare un suo materiale come aprendo al volo lo shader editor assicurandoci di essere in edit in renderate mode le viewport trasformare la viewport in basso appunto in uno shader editor e creare un nuovo materiale che possiamo rinominare in materiale di prova e dove possiamo tranquillamente cambiare le opzioni del principle per creare un semplicissimo metallo per esempio anche di un semplicissimo metallo così come questo un oggetto di ferro abbiamo creato questo semplicissimo materiale tuttavia adesso tutto il cubo è di questo materiale e se io ipoteticamente volessi che una parte del cubo abbia questo materiale e un'altra parte del cubo abbia un altro materiale quindi se volessi che il cubo fosse niente po' di meno che un multimateriale quindi un oggetto che ha in sé più materiali cerchiamo di capire come creiamo per esempio adesso un materiale di plastica lo rinomino in plastica e quello che doveva fare è molto semplice diamo un colore diamo il colore che più preferiamo per esempio un bel arancione facciamo scendere la ragnas come si addice magari alla plastica facciamo aumentare i riflessi speculari mettiamo e lasciamo il metallico a zero in questo modo possiamo creare velocemente una plastica ora però vedo che questo materiale non si trova in nessuna parte del mio cubo perché? perché tutto il mio cubo ha assegnato il materiale metallo e non c'è nemmeno una faccia che ha assegnato il materiale plastica mi spiego l'intero cubo l'intero oggetto ha assegnato il materiale metallo in una faccia a cui io ho assegnato il materiale plastica perciò io il materiale plastica non lo vedo come faccio ad assegnare a una faccia un materiale? devo andare in Elite Mode quindi devo premere il tubulatore adesso io devo andare alla faccia a cui voglio assegnare un materiale per esempio per la selezione facce e seleziono questa faccia adesso io posso selezionare un materiale qualsiasi per esempio il materiale plastica e assegnare questo materiale a questa faccia adesso io ho questa faccia e ho assegnato il materiale plastica aggiungiamo un semplicissimo Bevel aumentiamo il numero di segmenti e applichiamo in altre parole mi basta andare in Edit Mode selezionare nel tab dei materiali il materiale che io voglio assegnare alla faccia che ho selezionato in Edit Mode e premere Assign quindi per esempio prendiamo tutte queste facce e assegniamo a tutte il materiale plastica adesso io vedo che queste facce io ho assegnato il materiale plastica magari io adesso voglio riassegnare il materiale metallo mi basta selezionare le facce a cui io lo voglio riassegnare andare in metallo e premere Assign in questo modo posso creare oggetti multimateriali cioè oggetti che contengono più materiale all'interno di se stessi un altro paio di bottoni interessanti che Blender ci mette a disposizione sono il bottone Select e Deselect se io seleziono un materiale per esempio il materiale plastica se premo Select in Edit Mode Blender mi farà vedere mi selezionerà tutte le facce con quel materiale invece se premo Deselect Blender mi deselezionerà tutte le facce con quel materiale questo ci permette essenzialmente di andare a creare oggetti multimateriale andiamo a cambiare la posizione del cubo a 0 la posizione lungo l'asse delle z anzi la lascio ad 1 in modo che la base del cubo coincida col piano xy adesso premo Gx 6 metri Gx altri 3 metri in avanti adesso Gx 3 metri e in questo modo ho posizionato questo cubo assieme agli altri in modo molto molto semplice se io al cubo volessi assegnare un materiale che ho creato in un altro oggetto vi basterebbe inserire una slot vuota cliccare qui e scegliere questo materiale per esempio il materiale Emission PBR adesso io vado a una faccia qualsiasi come per esempio questa magari sarebbe più facile farlo in nella opzione di material preview aspettiamo che Blender finisce i calcoli dei materiali vedete adesso il material preview se io vuoto la vista continuo a vedere tutto chiaramente e vedo tutte le parti del mio cubo belle e nitide il che fa abbastanza comodo questa faccia la deseleziono adesso vado a prendere anche tutte queste seleziono questa faccia seleziono questa seleziono anche questa ma deseleziono questa faccia qui e adesso vado in Emission PBR e lo assegno adesso ho assegnato il materiale Emission PBR al mio a quelle facce del mio cubo se torno in Red Mode vedo che adesso il mio cubo effettivamente emette luce con il motore di rendering Cycles quando dico emette luce vuol dire che la luce è messa da un materiale emission rimbalzerà su tutti gli altri oggetti e li illuminerà davvero invece come vedremo in futuro nel motore di rendering EV l'emissione della luce è un'illusione invece qui l'emissione della luce è reale e influenza gli altri oggetti quindi mi raccomando se volete avere tutte le opzioni che vi sto facendo vedere assicuratevi di essere in Cycles perché EV è abbastanza è molto diverso da Cycles ok non male adesso andiamo a vedere altre opzioni che Blender c'è a disposizione ora magari vado no vado a lasciare aperto il mio shader editor rendo rendo emission pbr indipendente dall'altro emission pbr della sfera per esempio lo rinomino emission pbr cube ok non male adesso andiamoci a chiedere a cosa servono tutte queste altre opzioni che Blender ci mette a disposizione in altre parole nel voglio dire nel material preview sembra sicuramente un cioè scusate il pannello dei materiali sembra un pannello molto corposo con parecchie opzioni tuttavia a forza di parlare abbiamo visto solo le opzioni del preview allora a che servono tutte queste opzioni che vediamo qui e ora la risposta è estremamente semplice queste sono le stesse opzioni che vedete all'interno del pannello dei materiali le potete regolare anche da qui per capire meglio andiamo per esempio eliminare il principal lbsdf andiamo nell'emission pbr e vedo che alla voce surface io vedo quale nodo è attaccato al material output per mezzo dell'entrata surface in questo caso nessuno in volume vedo quale nodo è attaccato al material output per mezzo dell'entrata volume in questo caso nessuno displacement vedo quale nodo è attaccato al material output per mezzo dell'entrata displacement anche in questo caso Nessuno. Ora, se io voglio agganciare al material output un nodo per mezzo dell'entrata surface, posso fare due cose. O aggiungo manualmente il nodo in questione, per esempio il diffuse bsdf e lo collego manualmente, oppure clicco su non, cioè nessuno in inglese, e vado a scegliere quale nodo agganciare, che deve essere per forza uno shader. In questo caso il diffuse bsdf. Adesso Blender mi fa vedere anche tutte le opzioni del diffuse, che posso regolare da qui. Posso andare a cambiare le opzioni del diffuse, scusate, a livello di colorazione e rugosità. Non solo, io posso anche andare in surface e cambiare il diffuse con un altro nodo. Per esempio, io posso inserire un principal bsdf. Se io inserisco un principal bsdf, Blender mi farà vedere nel menu surface tutte le opzioni del principal bsdf. Quindi, volendo, posso anche azzerare l'emissione, il colore di base e i riflessi speculari, andare in emission e aggiungere una bella emissione blu. E' aumentare l'emissione strength. Adesso quella faccia e metterò una forte luce blu. Poi se io voglio rimuovere il mio principal bsdf, basta che lo seleziono e vado in Remove, Ctrl Z per annullare. Invece, se lo voglio disconnettere, ma lo voglio lasciare nel Node Editor, basta che premo Disconnect. Non c'è un modo per riagganciarlo dal pannello Properties. Lo devo andare a riagganciare manualmente all'interno del Node Editor. Ok. Interessante, andiamo a vedere che altre cose posso fare. Quindi, abbiamo detto che nel pannello dei materiali, io posso vedere quale nodo ho attaccato al Material Output per mezzo dell'entrata Surface, e lo vedo appunto alla voce Surface. Posso vedere quale nodo ho agganciato per mezzo dell'entrata Volume, in questo caso nessuno. E posso andare a vedere quale nodo ho attaccato per mezzo dell'entrata Displacement. Anche in questo caso, nessuno. Inoltre, se ho selezionato un nodo, posso andare a cambiare nevelocemente le proprietà. E se io voglio che una di queste proprietà dipenda da un altro nodo, devo andare ad aggiungerlo manualmente nello Shader Editor. Perciò, se per esempio io voglio che Emission Strength io lo vada a regolare, per esempio, grazie al nodo Value, che l'avevo già visto nella lezione scorsa, no? Io voglio che questo nodo Value mi vada a regolare l'Emission Strength. E adesso questo nodo me lo vada a regolare. Se io volessi fare una cosa come questa, cancello il nodo, lo dovrei fare per forza dallo Shader Editor? No! Posso andare alla proprietà a cui voglio attaccare un nodo, in questo caso la proprietà Emission Strength, cliccare su questo pallino accanto, e fare e scegliere il nodo che voglio agganciare. In questo caso è un nodo Value, andiamo a cercarlo un attimo. E... Non per stare da queste parti. Ecco qua, Value. Scelgo il Value, e Blender automaticamente mi collega all'Emission Strength un nodo Value. Non solo, vicino all'Emission Strength io adesso ho questa prezzetta. Se è chiusa io non vedo le opzioni del menu Value. Se invece la inserisco nella posizione aperta, mi appaiono tutte le opzioni del Value, in questo caso solo un numero, che posso andare a sentire manualmente come preferisco. e poi rinserisco questa frecetta nella posizione di chiusura, per non avere le opzioni del Value in mezzo. Vediamo che altre opzioni Blender ci dà a disposizione, per esempio, facciamo qualche altro esperimento, per esempio, ma non conosciamo solo lo shader, quindi non è che possiamo fare tanti esempi, non è che possiamo fare chissà quanti esempi, però poco fa abbiamo anche visto un altro nodo interessante, cioè il nodo RGB, che ci permette semplicemente di scegliere un colore, e ci permette semplicemente di scegliere un colore qualsiasi, e di, bene, questo nodo, mettiamo che voglio che questo nodo sia collegato al Base Color, lo posso, del principal di SDF, lo posso aggiungere manualmente, oppure posso andare a Base Color, cliccare, e andare a selezionare RGB. Adesso, se questa freccetta è in posizione orizzontale, non vedo le sue opzioni, invece posso espanderla, e vedere le opzioni del nodo RGB. Magari inserisco, che ne so, un bel colore verde, e vado ad azzerare le emission, andando nelle opzioni del nodo vario, e azzerando. In questo modo, vedo esclusivamente, quel colore, che vado a settare attraverso il cerchio cromatico. In questo modo, ho direttamente il cerchio cromatico a portata di mano, e sicuramente, fa molto comodo. inseriamo i riflessi speculari, e questo è essenzialmente quello che ci interessa. Vi propongo di fare qualche prova, quindi vi propongo di magari andare a vedere, come attraverso, come il vantaggio del pannello, dei materiali, che io posso settare i materiali, anche senza andare ad aprire lo shader editor. Se sono molto semplici, ovviamente se è un materiale molto complesso, con tanti nodi, mi conviene lavorare con lo shader editor. Infatti, quando io devo creare un materiale molto molto semplice, lo voglio creare velocemente, lo posso anche creare utilizzando questo metodo. Cioè, scelgo il nodo da aggiungere in surface, vado a regolare le sue opzioni, e magari a un'opzione vado a collegare un altro nodo. Tuttavia, è molto più comodo lavorare con lo shader editor. Anche perché, per poter lavorare con la creazione di un pannello, per poter lavorare con la creazione dei materiali, dal pannello dei materiali, bisogna avere già presente al millimetro, l'albero di nodi che volete creare. Per albero di nodi, si intende l'insieme di tutti i vostri nodi. Poi, se non volete che appena muovete la vista, il... se volete avere una vista un pochino più stabile, potete andare in material preview mode, ma questo non vi fa vedere chiaramente i vostri materiali. La material preview mode non potrà mai essere precisa come la rendered mode. Addirittura, in material preview mode, Blender, se deve creare delle riflessioni, come per esempio su questa lente di riflessione, se Blender deve creare delle riflessioni in material preview, non lo fa in base al mondo circostante, ma lo fa in base a un'immagine a 360 gradi che potete selezionare da qui. Potete scegliere voi quale immagine lo deve andare ad utilizzare come background. Non utilizzerà l'immagine reale, voi potete andare a scegliere un'immagine che sarà in base a queste immagini che Blender calcolerà la luce di background e riflessioni. Questa è l'immagine che avete. Comunque stavamo dicendo, poi vi faccio vedere che questa è l'opzione di default nel pannello dello shading e addirittura se siete nel pannello dello shading e avete selezionato la material preview mode, quel mondo attorno fittizio che Blender usa per le luci proprio lo vedete come background. In altre parole, io posso scegliere un background che Blender utilizzerà in material preview mode, ma questo non è il background che vedrò nel risultato finale, è solo un background che Blender utilizza solo ed esclusivamente in material preview mode. In rendered mode userà il background che andate a selezionare voi. Come si fa? Lo vedremo in le azioni successive. Qui dovete scegliere un background e Blender userà questo. Tuttavia il background risulterà sfocato, questo grazie all'opzione blur con cui potete scegliere quanto sfocarlo. Poi avete un'opzione world opacity, l'opacità di questo background e strength, la sua intensità luminosa. Comunque questo non è un background reale, ci interessa di più il background in rendered mode. Infine, vi faccio vedere che se io torno in solid mode, torno a vedere tutto grigio. Cioè, se io vado in solid mode, ovviamente i materiali non li vedo e questa è una delle caratteristiche di base del rendering. l'abbiamo sottolineato anche nella lezione 40. Tuttavia, io posso anche fare in modo che un determinato materiale mi appaglia anche in solid mode. Per farlo, andate a quel materiale, selezionatelo, andate in viewport display e avete delle opzioni per andare a settare un semplicissimo materiale da vedere in modalità solid. Potete scegliere il suo colore, la metallicità e la rugosità. Ovviamente, non vedrete i riflessi né del mondo circostante né degli oggetti vicini. Potete creare solo un materiale molto molto semplice e molto molto approssimato. Per esempio, questo cubo. Io vado in metallo, inserisco un colore né, un colore molto scuro, metallicità a 1, è un colore non così tanto scuro, e rugosità molto bassa. E io, in solid mode, alle facce a cui ho applicato questo materiale vedrò questo risultato. Alle altre facce vedrò il grigio a meno che non vado a modificare il viewport display anche a quelle altre facce. ricordatevi che il calcolo del materiale che avete in solid mode è ancora più impreciso rispetto a quello che avete in material preview mode. Mentre invece, normalmente, nello wireframe vedete solo la geometria. Quindi, questa modalità non la useremo qua con le lezioni a venire. A meno che non dovessemo modellare un oggetto molto complesso o fare stessi particolari, ma... Ok. Bene. Detto questo, fatto questo studio, andiamo a vedere i materiali volumetrici. Quindi, quei materiali dove lo shader non lo colleghiamo all'entrata surface, ma lo colleghiamo all'entrata volume. Quindi, quegli shader dei volumi che sono molto interessanti, ma bisogna anche saperli usare. Prendo, per esempio, questa scimmietta, Shift-D per duplicarla, GX 3 metri. Adesso rendo il suo materiale indipendente e lo rinomino in volume PBE che lo rinomino in volume PBR Perché PBR? Perché esi... Perché per i volumi lo shader del volume è, si chiama appunto principal volume è la versione del principal BSDF pensata per i volumi. Lo vado a collegare stavolta però all'entrata volume. La prima cosa che dovete capire è che per i volumi essere in Cycles è imperativo perché l'altro motore di rendering di Blender EV si magari può parzialmente sostenere i volumi però ha una scarsa precisione e appena il volume diventa un pochino più complesso non riesce più a simulare quindi se c'è un volume nella vostra scena io consiglio sempre di lavorare con Cycles. Infatti se vado in Material Preview Mode non vedo il mio risultato perché serve che si stia lavorando per il massimo delle sue potenzialità per poter indirizzare un oggetto complesso come un volume un materiale complesso come un volume. Adesso delle opzioni interessanti colore del volume il colore di base che so per esempio un bel bianco color attribute sembra un campo di colore ma in realtà è un campo di testo dove dovete scegliere quale griglia di riferimento utilizzare per il volume a livello di colorazione mi spiego il volume in Blender non è un oggetto volumetrico in Blender Blender lo gestisce in base a una griglia una griglia di cui estrapola la forma del volume se volete avere un risultato più preciso dovete spiegare a Blender quale griglia utilizzare per il calcolo del colore perché c'è una griglia della densità una griglia della temperatura eccetera eccetera di solito in Color Attribute inserisco Color che mi dà che è perfetto Color è perfetto funziona benissimo Density la densità del mio volume posso aumentare la densità ovviamente una densità molto alta e me lo fa diventare talmente fitto che diventa quasi indistinguibile da un oggetto superficiale density attribute la griglia da usare per la densità density va benissimo l'anisotropia mi permette di regolare la quantità di riflessi anisotropici cioè in direzione della tangente della mia mesh adesso abbiamo l'absorption color che serve praticamente il colore di assorbimento della mia mesh cioè quale colore viene assorbito nella mia mesh prima di cambiarlo mettiamo per esempio un bel verde e cambia ovviamente il risultato in base del colore di assorbimento per esempio con un nero blender non assorbire la mia scimita non assorbirà nessun colore invece per esempio se inserisco un bel bianco la mia scimita tenderà ad assorbire i colori però è un risultato veramente molto molto c'è una piccola differenza però molto spesso se io voglio vedere il mio volume più chiaramente quasi sempre non si ricorre le opzioni color per colorarlo ma di solito con i volumi si ricorre alle emissioni di solito si fa in modo che i volumi emettono luce questo ci permette di vedere più chiaramente e dà risultati anche migliori e quindi questo ci dà anche risultati migliori emission strength la quantità di emissione luminosa emission color il colore dell'emissione luminosa ok ora black body intensity black body tint temperature e temperature attribute non si vede la scritta temperature attribute aumentiamo le dimensioni del nodo per vederla meglio allora cosa significano queste opzioni in realtà le opzioni black body intensity e black body tint ci interessano quando abbiamo una ci interessano quando lavoriamo con un volume non creato come questo ma un volume generato da una simulazione del fumo cerchiamo di capire un filino meglio abbiamo visto che in blender esistono tre modi di creare un volume il primo l'abbiamo appena visto cioè prendere una mesh un oggetto che non è un oggetto volumetrico e applicare un materiale volumetrico in questo modo è come se fosse un semplicissimo volume un modo alternativo l'abbiamo visto all'inizio di questo corso nella lezione 12 se ricordo bene parlando appunto di come creare proprio oggetti volumetrici prendo questa sfera premuovo di 6 metri lungo l'asse delle y anzi di meno 6 metri lungo l'asse delle y e questa sfera sarà la mesh di riferimento per il mio volume adesso mi dipungo il cursore 3D ed aggiungo un volume vuoto quindi senza dati un volume di tipo empty adesso io andando ad inserire il modificatore mesh to volume e selezionando la sfera trasformerò cioè fare in modo che il volume copi la sfera a livello di forma la sfera la rendo invisibile sia nella viewport che nel rendering e quello che mi rimane è un oggetto volumetrico che va a copiare la forma della sfera aumentiamo molto la sua risoluzione fino per esempio a 128 e vedo chiaramente che Blender ha creato proprio un oggetto volumetrico ma non è un oggetto volumetrico che è una mesh che sembra un volume no no è proprio un volume in formato openvdb gli altri software cgi hanno complesse strutture di editing volumetrico invece la Blender Foundation ha trovato un modo più efficiente mi fa prendere una mesh e me la fa trasformare in un volume voglio editare un volume edito la mesh questo modo è molto più semplice molto più veloce e anche molto più efficiente e preciso rispetto alle classiche vie di editing volumetrico quindi che non credo veramente in futuro per oggi e questo mi permette di avere un grandissimo controllo sui miei volumi maggiore rispetto al classico editing volumetrico degli altri software quindi anche in questo Blender si dimostra molto all'avanguardia poi posso sempre andare ad aumentare la densità del mio volume in questo caso l'ho abbassato scriviamola manualmente per esempio in 6x 1.5 bene in questo modo il mio volume è un pochino più denso vi faccio sempre notare che in Material Preview Blender non riesce perché in Material Preview il risultato non va bene perché deve lavorare Cycles perché il volume sia ben visibile questo è qualcosa di imperativo Cycles è l'unico motore di rendering che riesce a gestire appieno i volumi i V riesce a gestire parzialmente gli oggetti volumetrici ma i materiali volumetrici assolutamente no una cosa che non vi avevo detto a suo tempo ne approfitto adesso per dirla è che esiste un altro modificatore dei volumi il Volume Displacement che sarebbe la versione del classico Displacement però per i volumi dove come al solito possiamo andare a creare una texture e a rinominarla come preferiamo per esempio in Clouds andare a scegliere la forma che vogliamo andiamo ad un altro in Solid Mode per vedere meglio andiamo a scegliere la forma che vogliamo e in questo modo io posso creare tante piccole impre... scelgo la texture che preferisco magari inserisco anche punto 4 di size della texture e in questo modo posso andare a creare un Displacement sul mio volume questo è il volume senza Displacement questo è il volume con il Displacement bene torniamo in Rendere the Mode e vedo chiaramente il mio volume questo è il secondo modo per la creazione di oggetti volumetrici il terzo modo è una simulazione del fumo in quanto noi sappiamo che una simulazione del fumo mi va a creare un volume per simulare il mio fumo e se io voglio andare a creare un materiale mi servono appunto quelle opzioni in più del Principal BSDF andiamo a cercare di capire come fare prendiamo tranquillamente questa sfera la duplichiamo invio GY-3m adesso magari questa sfera rendo il suo materiale indipendente tolgo l'emission e inserisco un normalissimo Principal BSDF adesso voglio che il centro di rotazione e di scala scavi nella base della sfera perciò CTRL punto per spostare solo il pivot GZ-1 in questo modo il pivot cioè il suo centro di rotazione e di scala scava alla base della sfera se adesso lo scalo ovviamente la sfera viene scalata nella direzione che io voglio e adesso applico la scala adesso in Solid Mode andiamo a creare una semplicissima simulazione del fumo cerchiamo di capire come possiamo fare intanto iniziamo andando velocemente ad inserire un quick smoke e adesso andiamo a settare un paio di opzioni andiamo ad inserire Adaptive Domain andiamo a montare ovviamente anche la risoluzione Noise inserisco un bel noise e dovrebbero andare bene queste opzioni inserisco una modalità di Bake in modo da fare tutto il bake in un solo colpo sia dei dati in generale che del noise premiamo Bake All e aspettiamo che Blender mi termini tutti i calcoli e aspettiamo anzi magari esco per annullare il bake ho dimenticato di fare una piccola modifica la sfera non deve mettere solo fumo ma fuoco e fumo è importante e poi andremo a vedere come possiamo creare dei semplici materiali per questo tipo di simulazioni bene rilanciamo il bake e aspettiamo la parte in cui Blender effettura il bake l'andolo a tagliare se non vi ricordate come funzionano questo tipo di simulazioni magari andate a rivedere la lezione relativa bene il bake è terminato adesso faccio partire l'animazione e vedo la mia bellissima simulazione di fuoco e fiamme è bellissima ok funziona alla perfezione andiamo in rendered mode e io non vedo esattamente quello che mi aspetterei cioè io aspetto di vedere bene l'immagine vedo un vedo che quello che vedo nel rendering finale non comprende il fuoco è solo una semplicissima nuvola di fumo questo perché quindi io nel rendering finale non vedo una parte rossa e una parte grigia come invece accadeva nella modalità solid in material preview non vedo niente invece in red mode vedo solo questo quindi vedo un volume completamente grigio per vedere più chiaramente andiamo in toggle local view in modo da vedere per ora solo questo oggetto e vediamo chiaramente che il nostro è vero chiaramente che il risultato della mia simulazione nel rendering appare completamente grigio dobbiamo fare qualcosa per cambiare ciò perché nel rendering è così che appare la mia simulazione di fuoco e fiamme vedo solo il fumo allora dobbiamo andare a allora come posso cambiare il colore del mio fumo semplicemente devo andare a settare il materiale non dell'emettitore del fumo ma devo andare a settare il materiale del dominio che sarà un materiale volumetrico e andando a modificare quel materiale vado a modificare il fumo in altre parole il materiale del fumo sarebbe il materiale del dominio infatti come vedo blender automaticamente mi ha creato nel mio dominio un materiale volumetrico quindi adesso lo andiamo ad eliminare allora io non vedo più niente aggiungo un nuovo materiale una nuova slot di materiale e appunto mi assicuro appunto manualmente andiamo a sassettare il materiale volumetrico andava già benissimo quello che aveva settato automaticamente blender però ho preferito ricrearlo così possiamo vedere da noi le opzioni che abbiamo lo richiamo lo rinomino smoke material smoke material è qua e adesso andando a settare e adesso la cosa che ci interessa è che essenzialmente il materiale del dominio sarà il materiale del fumo la prima cosa che vediamo è che questo fumo è poco denso allora andiamo ad inserire una densità abbastanza alta che sia conforme alla andiamo ad inserire una densità abbastanza alta che sia conforme alla densità del fumo adesso però io vedo che continuo a vedere solo fumo non vedo né fuoco né fiamme per cambiare questo comportamento dobbiamo andare a concentrarci sulle opzioni di black body semplicemente black body intensity prende black body intensity fa in modo che nelle zone più si aumento la quantità di black body intensity nelle zone più calde del mio nelle zone più calde del mio del mio volume io andrò a vedere una un'emissione luminosa che appunto mi ricorderà molto il fuoco quindi black body interno con la temperatura crea un'emissione luminosa nelle zone più calde del materiale ma come fa blender a sapere le informazioni sulla calore del materiale intanto noi possiamo andare a dare a blender una temperatura di base del volume nell'opzione temperature noi possiamo andare a stabilire a blender una temperatura di base del nostro volume tuttavia vedo che cambiandola non succede niente perché la variazione ci sarà non cambia la variazione andando a modificare la temperatura media del mio volume cosa che faccio modificando il temperature semplicemente con la temperatura media del mio volume black body intensity andrà a farvi vedere una luminosità più grande nelle zone più calde del mio volume tuttavia io non vedo niente perché questa emissione dalle zone più calde del mio volume non c'è andando ad aumentare black body intensity aumento l'intensità dell'emissione luminosa proveniente dalle zone più calde del mio volume più aumento black body intensity più dalle zone calde del volume aumenterà l'emissione luminosa vediamo che con 0 questa emissione non c'è con 1 abbiamo appunto questa emissione luminosa che è essenzialmente quella che cerchiamo perché va proprio a farci vedere del fuoco con delle fiamme di default blender considera blender nelle parti calde 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 avrà un colore tendente al bianco nelle parti un pochino più fredde il grosso e nelle parti dove la temperatura è bassa ci farà vedere tutto grigio o non grigio scusate ma con il colore che settate nell'opzione di colore nell'opzione color magari in color attribute inserisco la voce color è consigliabile andiamo a vedere che adesso se aumento la temperatura l'emissione diventa completamente diversa diventa bianca perché perché la scala è questa se il mio oggetto è caldo lo vedrò rosso se è molto caldo lo vedrò bianco le parti invece caldissime le vedo addirittura azzurre prendiamo l'emissione alte 10 ora vediamo che oltre il bianco la che una luce più forte del bianco blender non me la fa vedere tuttavia se la temperatura è a zero io non vedo nessuna emissione perché la temperatura è zero man mano che aumento la temperatura nelle zone più calde solo nelle zone più calde quindi le zone più vicine alla base blender inizierà ad aumentare l'emissione vedete se per esempio inserisco una temperatura di soli 500 gradi l'emissione sarà a bocadò rosso scuro se inserisco 750 gradi l'emissione sarà un pochino più luminosa perché sarà ancora più caldo con 1000 avrò un'emissione abbastanza forte con 2000 vedrò un fuoco bello intenso vedrò una forte intensità luminosa inseriamo 1500 magari è un buon compromesso ecco infatti vedo un fuoco molto caldo molto luminoso quindi andando a ricapitolare ziamo blackboard intensity con con l'opzione di color io posso andare a cambiare il colore del mio volume e scegliere il colore che preferisco spesso un colore grigio va bene aumentando emission strength aumento la quantità di emissione luminosa proveniente da tutto il volume non solo da una parte ma dall'intero volume non è quello che voglio fare in questo momento se voglio simulare un effetto fuoco come devo fare devo aumentare solamente l'opzione blackboard intensity più black body intensity è alto più le parti calde del mio volume emetteranno luce una luce che seguirà una scala relativamente alla temperatura più una temperatura abbastanza alta da emettere luce ma non troppo mi provocerà un'emissione rossa invece una temperatura un pochino più forte mi provocerà un'emissione bianca a livello fisico un'emissione ancora più forte mi provocare una temperatura ancora più forte mi provocare un'emissione blu ma ovviamente blender non simula temperature così grandi perché sono irrealistiche vedo chiaramente che posso creare materiali per le mie simulazioni del fuoco che sono molto avanzati e anche molto belli da vedere quindi con black body intensity a 0 questa intensità non esiste con black body intensity a 1 l'intensità c'è con temperature io posso andare a stabilire la temperatura media del mio volume ovviamente le parti un pochino più fredde le vedo grosse le parti un pochino più calde le vedo bianche ricordatevi sempre che come fa blender a sapere quali sono le parti più calde e quali sono le parti più fredde lo sa in base alla simulazione del fumo perché nel pannello della fisica esiste sempre blender ha comunque tutti i dati relativi alla simulazione del fuoco e delle fiamme e per capire quali parti sono calde e quali parti sono fredde semplicemente si basa su questa simulazione davvero più o meno perché esiste anche il temperature attribute che vi permette di decidere un attribute della temperatura in altre parole potete dire a blender quale griglia del volume lui deve utilizzare per decidere quali parti sono calde e quali parti non lo sono per esempio se inserisco identity blender userà o temo uscola completamente diverso perché se inserisco density blender per capire quali parti sono calde e quali parti sono fredde utilizzerà la griglia della densità quindi se qui inserite density le parti più densi saranno più calde e le parti meno densi saranno più fredde e stop invece non è così che deve essere in una simulazione del fumo non funziona così non è che più una parte è calda più una parte è non è che più una parte è densa più è calda necessariamente la simulazione del fumo ha creato automaticamente la griglia che ci interessa quindi la simulazione del fumo contiene all'interno di sé già dei dati relativi alla temperatura del mio volume per dire a blender di utilizzare basta che gli dico di utilizzare questa griglia perciò se io inserisco temperature blender utilizzer se qui inserisco temperatura temperature attenti a scrivere bene perché è un errore di battitura l'attributo non funziona più correttamente senza esco temperature blender andrà ad utilizzare la griglia della temperatura per andare a calcolare l'emissione blackbody da dove esce fuori questa griglia della temperatura è stata creata direttamente dalla simulazione della fisica quindi ricapitolando la simulazione della fisica mi ha creato da sé una griglia che mi dicesse che dicesse a blender dove il mio oggetto era più caldo e dove il mio volume era più caldo e dove era meno caldo per dire a blender di utilizzarla in temperature attribute dovete scrivere temperature se inserite un altro attributo come per esempio color blender andrà ad utilizzare questo attributo per il calcolo dell'emissione per esempio con density blender con temperature attribute con temperature attribute voi dovete dire a blender quale griglia del volume lui deve considerare per andare a lavorare sull'emissione del corpo nero se è una emissione del corpo nero sarebbe una parola che in italiano che è il corrispettivo italiano di blackbody intensity con density illustrerà la griglia della densità in altre parole con temperature attribute voi potete decidere come blender far capire quali parti sono calde e quali parti sono fredde come fa blender a capirlo con se scrivete voi potete dare a blender una griglia e blender si baserà su quella con density blender si baserà sulla densità se invece scrivete temperatura temperature blender si baserà sulla griglia della temperatura creata ad uoco quindi apposta per questo sul della simulazione fisica seccata apposta per questo vi conviene lasciare questa griglia con temperature la temperatura media inoltre con blackbody tint se non vi piace il colore del fuoco io per esempio voglio una fiamma come quella del gas la voglio blu come faccio ad ottenere la blu se blackbody tint è bianco blender decide da solo il colore da utilizzare per esempio io posso andare a cambiare manualmente il mio colore per esempio inserendo un blu ottengo questa bella fiammella che ricorda un po' il metano il fuoco del metano magari il fuoco del metano è anche abbastanza caldo quindi aumento la temperatura fino a 3000 gradi attenzione la temperatura è in gradi kelvin ricordatevelo e ottengo appunto questa fiammella che ricorda molto il che ricorda molto il una fiamma per esempio provocata dal metano e posso provocare questi bellissimi e posso creare questi fantastici volumi appunto che si modificano anche nel tempo a causa appunto della simulazione andiamo ad osservarla e vediamo sicuramente un effetto molto realistico molto realistico magari in questo caso particolare sarebbe più realistico lasciare black body tint bianco mettiamo tutti questi parametri a 1 e inseriamo temperatura a 1500 facciamo ripartire la simulazione disabilitiamo gli overlays e vedo un risultato molto interessante facciamo scorrere la simulazione per vedere un pochino cosa abbiamo creato probabilmente se stoppo la simulazione l'immagine diventa molto più accurata qui sono materiali anche abbastanza avanzati perché per esempio lo shader del volume è probabilmente uno degli shader più avanzati stoppiamo la simulazione adesso se magari vogliamo che ne so andare a renderlo anche un pochino più da vedere che ne so vogliamo andare a correggere un paio di opzioni in attribute si potrebbe anche mettere heat cioè calore invece di temperatura però in ogni caso va bene anche temperatura va benissimo la differenza è molto poca magari rinseriamo la temperatura a 1000 gradi kelvin ma in modo da avere un'emissione rossa che per un fuoco può essere un pochino più realistica e adesso in blackboard intensity rendiamo l'emissione molto più forte 50 volte più forte andando a inserire 50 magari è pure troppo inseriamo 30 in questo modo abbiamo aumentato l'emissione abbiamo lasciato un colore di base che è comunque rosso rinserendo una temperatura di 1000 gradi kelvin e utilizziamo come temperature attribute la temperatura potremmo anche mettere il calore c'è chi lo trova magari un pochino migliore in alcuni casi il risultato può anche essere migliore con il calore però andate comunque a fare qualche prova e questo è un bellissimo file openvdb cioè è un bellissimo è una bellissima simulazione del del fumo magari adesso usciamo dalla usciamo dalla tog al local view e torniamo a vedere tutta la nostra scena dove adesso tra le varie cose vi è anche questa bellissima simulazione del del fuoco c'è anche questa bellissima simulazione del del fuoco molto realistica un'altra cosa interessante che abbiamo imparato a creare ricordatevi che le griglie temperature e heat sono state riempite di dati dal quindi le griglie che utilizziamo in temperature attribute sono state riempite di dati dalla simulazione fisica perciò se il volume lo create manualmente utilizzando la fantastica opzione di empty ovviamente voi create un volume all'interno del quale non ci sono dati di temperatura create un volume che non contiene i dati su quali parti sono più caldi e su quali parti sono più freddi perché questi dati vengono gestiti dalla simulazione fisica questo è qualcosa di abbastanza evidente ok non male ricordatevi sempre che potete andare a gestire se volete sbrigarvi i dati dei materiali anche dal pannello material ovviamente adesso andiamo anche da aumentare un minimo la densità per esempio la inseriamo 8.5 e abbiamo e adesso tra i nostri oggetti di prova citiamo anche questo bellissimo questa bellissima pallina infuocata molto molto realistica infatti quando abbiamo studiato questo tipo di simulazioni vi avevo anticipato che poi avremmo anche visto come gestirne in modo approfondito accurato dei materiali anche molto belli a vedersi bene adesso passiamo a vedere due nodi adesso ovviamente non è che esiste un solo nodo per la gestione dei materiali volumetrici ne esistono tre infatti in shader abbiamo anche il volume absorption e il volume scatter che sono due tipologie di due nodi che appunto ci permettono di migliorare o meglio modificare il nostro materiale volumetrico cerchiamo di farlo per esempio da una copia di questa scimmietta amplichiamola in bio gy y meno 6 metri adesso rendiamo questo volume indipendente e lo rinomino semplicemente in volume adesso elimino il principal volume e aggiungo il semplicissimo volume absorption che collego sempre all'opzione volume il volume absorption anche questo vi da un'opzione di densità che sarebbe la densità del vostro volume è molto importante perché una densità troppo bassa non vi fa vedere nulla vediamo che in questo caso il mio volume è nero per esempio proviamo a cambiare il colore in color mettiamo una luminosità la luminosità massima e proviamo ad inserire per esempio una densità di 5 notiamo però che questo però vediamo che in questo caso il la parte interna del mesh mi appare scura ma perché cosa fa effettivamente il volume absorption qual è la logica che vi è dietro il volume absorption è un nodo estremamente semplice che fa qualcosa di estremamente semplice inseriamo una densità di 5 e vediamo che fa qualcosa di estremamente semplice semplicemente quando un raggio luminoso entra all'interno della mia mesh se a volume ho inserito un volume absorption esso viene assorbito ciò vuol dire che questo volume absorption fa in modo che tutta la luce che entra all'interno della mia mesh poi non nasce più viene assorbita ed è per questo che io il centro lo vedo scuro è questo il motivo principale poi mi vengono in mente tantissimi effetti potenzialmente utili per esempio la creazione di nebbia che magari può tendere a un colore che selezionate qua saturation a 0 però un colore un pochino più scuro posso fare in modo che quando la luce entra all'interno della mia mesh poi viene assorbita tuttavia esiste anche un altro nodo molto importante che è il volume scatter che è un po' il contrario del nodo che abbiamo appena visto il volume scatter fa in modo fa in modo essenzialmente che la luce quando entra all'interno della mia mesh non non venga assorbita ma venga diffusa posso sempre scegliere un colore che in questo caso venga proprio applicato alla mia volumetria di cui io posso andare a scegliere la densità anche molto alta come 4 per esempio e infine qui posso anche andare ad inserire o meno dei riflessi anistotropici cioè dei riflessi prolungati in direzione della tangente dei vertici inseriamo un volume absorption che si limita semplicemente ad assorbire la luce attorno quindi volume absorption assorbe la luce che c'è attorno mentre il volume scatter la diffonde andiamo a vedere degli usi però vediamo che in realtà il volume absorption io io vi ho detto che si può usare per esempio per le per le nebbie ma in realtà se fate una nebbia per una nebbia sarebbe molto migliore il volume scatter il volume absorption si usa per esempio quando c'è una massa d'acqua e io voglio che non si veda in profondità all'interno di quella massa io voglio che se io vado a vedere più nel dettaglio all'interno dell'acqua poi io posso vedere fino a un certo punto ma se l'acqua è troppo profonda io le cose più in profondità all'interno dell'acqua non le vedo più che è quello che succede nella realtà al costo delle particelle sospese nell'acqua se voi prendete l'acqua del rubinetto e osservate all'interno di essa è perfettamente trasparente anche un oggetto molto in profondità all'interno di una bacinata piena d'acqua voi lo potete vedere invece un po' d'acqua di lago avendo al suo interno una quantità gigantesca di particelle sospese voi potete vedere le cose in superficie ma un pochino più in profondità la vista diventa un po' sfocata delle cose più profonde proprio a causa di queste particelle sospese bene il volume absorption crea questi effetti quindi adesso noi andremo a creare una simulazione di liquido andremo a creare dell'acqua e ci andremo a rendere conto come effettivamente sia utile questo volume absorption in questi casi magari per creare la base della simulazione liquida lavoriamo in solid mode in modo da poterci muovere più tranquillamente all'interno della nostra scena e aggiungiamo un piccolo bicchiere quindi semplicemente aggiungiamo aggiungiamo un semplicissimo cubo gy almeno 12 metri no scusate più 12 metri per muovere in una direzione inversa e lo inseriamo in questo punto adesso lo rinomino in domain quindi dominio della simulazione fluido shift d per duplicarlo s e adesso spostiamo il duplicato verso l'alto e lo rinominiamo in emitter adesso nel dominio inseriamo una simulazione appunto dominio liquido simulation method mettiamo apic che è un pochino più ordinato e abilitiamo spray foam e bubbles e le inseriamo tutti in un unico gruppo di particelle e abilitiamo direttamente anche l'opzione mesh qui invece inseriamo una simulazione fluida di tipo flow e sempre però liquid quindi un flow liquid flow behavior che lasciamo geometria qui liquid con un metodo di simulazione aquid apic scusate con abilitare le mesh e le particelle spray foam e bubbles adesso inseriamo all per fare un unico super bake va bene con una risoluzione bassa 32 e lanciamo il bake facciamo qualcosa di molto veloce solo per fare un esempio non mettete risoluzioni altissime 128 chissà quanto ci mettiamo stiamo solo facendo un velocissimo esempio attendiamo che bregna il termine il bake bene oh scusate ci siamo dimenticati di inserire qui in end 100 frame free all e bake all li attendiamo facciamo un unico bake che comprende tutto dati particelle e dati particelle e mesh aspettiamo il risultato finale se non vi ricordate cosa se non capite cosa sto facendo andate a rivedere la lezione sulle simulazioni fluide in manta flow cioè il motore che gestisce questo tipo di simulazione aspettiamo bene 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 abbiamo poi il mio praticamente terminato ok ecco fatto adesso faccio partire la mia animazione e osservo la mia perfetta simulazione dei fluidi adesso come faccio a gestire il materiale di una simulazione come questa quindi col dominio selezionato vado a creare il materiale dell'acqua che il nomino in un po' e adesso come lo dobbiamo gestire per creare un materiale dell'acqua basta creare il mio trasparente come si fa basta aumentare la trasmissione e azzerare la la rariness adesso in IOR mettiamo l'IOR dell'acqua che sappiamo essere di 1.33 adesso prendiamo l'emettitore e lo nascondiamo e adesso vediamo la nostra simulazione magari non è molto chiara in vista rendered andiamo a dare un'occhiata in material preview e vediamo essenzialmente che il materiale va abbastanza bene per l'acqua applichiamo uno shade smooth non lo vediamo trasparente perché siamo in material preview però se andiamo in rendered mode vediamo effettivamente la trasparenza dell'acqua e otteniamo appunto un effetto molto realistico in quanto l'acqua si è proprio trasparente però trasparente nel funzione che ci vediamo attraverso però la luce che c'è dietro viene comunque distorta a un minimo e in questo modo possiamo creare un materiale che per l'acqua è veramente perfetto continuando però con queste particelle che ci facciamo semplicemente le possiamo sostituire da le possiamo sostituire con delle piccole icosfere che vanno a simulare effettivamente spruzzi schiuma e bolle andiamo nei sistemi particellari abbiamo due come al sol abbiamo un sistema con le particelle del liquido e un sistema con spruzzi schiuma e bolle iniziamo con il sistema liquid aggiungiamo magari no il sistema liquid lo possiamo anche nascondere perché tanto serviva solo per estrapolare la forma del dominio invece andiamo a lavorare su spray form e bubbles inseriamo il cursore alla selezione e aggiungiamo una piccola icosfera anche con una sola suddivisione tanto sarà un oggetto veramente molto molto piccolo e lo scalo magari inserisco punto 0 1 di scala lungo tutti gli assi forse è troppo inseriamo punto 1 di scala e lo copriamo a tutti gli assi lo copriamo su tutti gli assi per renderla 10 volte più piccola no forse è ancora troppo grande mettiamo invece sì proprio un centesimo punto 0 1 su tutti gli assi ne andiamo ci accorgiamo che effettivamente ha le dimensioni giuste adesso rinomino l'ecosfera in particle referment ok adesso selezioniamo il mio dominio e in viewport display no non in viewport display in render andiamo in object e scelgo particle referment adesso magari in scale inserisco 1 per fare in modo che la scala delle particelle sia uguale alla scala dell'ecosfera no invece inseriamo punto 5 perché questa è la scala delle particelle rispetto alla scala dell'ecosfera originaria vediamo che va abbastanza bene quindi andiamo in modalità rendered tuttavia la andiamo in modalità rendered tuttavia la colorazione di queste particelle non va assolutamente bene perché sono belle chiare belle solide invece sarebbe meglio avere un materiale che consente un minimo di trasmissione superficiale per queste particelle allora per farlo andiamo a settare semplicemente il materiale della particella di riferimento andiamo a settare come il materiale con il nome spray foam e spray foam bubbles e questo sarà il materiale che verrà preso poi da spruzzi schiume e bolle qua semplicemente ci limitiamo ad alzare qui ci limitiamo ad alzare molto la trasmissione ovviamente abbassiamo la rarness appunto per consentire tale trasmissione per esempio i valori del genere vanno abbastanza bene e mettiamo sempre l'IOR dell'acqua che è di 1.33 adesso andiamo a vedere un pochino il materiale preview e vedo che il risultato è abbastanza buono vedo delle particelle sopra la superficie del mio dominio magari potrei rendere un pochino più un pochino meno spigolosa la particella di riferimento iniziale per esempio la suddivido uno di smoothness e un paio di suddivisioni in questo modo la particella di riferimento di cosfera sarà un pochino più smussata mettiamo uno shade smooth può essere la ciliegina sulla torta magari il material preview il risultato può non sembrare perfetto tuttavia se vado in grand red mode vedo che le particelle possono proprio ricordare spruzzi schiuma e bole disabilitiamo gli overlay per vedere solo il risultato e vedo che effettivamente ricorda un po' d'acqua magari il realismo può essere intaccato dal fatto che le pareti del dominio io non le vedo si sia attacca pareti trasparenti tuttavia come risultato ricorda effettivamente una massa d'acqua adesso andando a selezionare il mio dominio se voglio che guardando l'acqua in profondità più io la guardo in profondità più sia difficile penetrare con lo sguardo all'interno di essa se io voglio creare questo aspetto basta andare ad inserire un semplicissimo volume absorption ho inserito come visualizzazione del preview proprio il liquido e vedo che aumentando un po' la densità io faccio in modo che non sia possibile guardare in profondità nell'acqua più di tanto come vedete adesso io non posso andare a il mio uscio non può penetrare all'interno dell'acqua per più di un certo livello questo magari è utile se io voglio simulare un'acqua di fiume di un uccello magari in questo caso senza volume absorption la simulazione di un'acqua limpida potrebbe essere più bella a vedersi inoltre spruzzi schiume bolle danno un buon tocco di realismo questa è una simulazione molto veloce creata durante una lezione poi se voi volete giocarci migliorare un pochino le prestazioni siete liberissimi di farlo e così aggiungiamo un altro tassello alle nostre skills relative ai materiali invece se volete creare una nebbia andiamo un attimo in vista camera se invece volete creare una nebbia vi serve il volume scattare inseriamo di nuovo il cursore all'origine del mondo aggiungiamo un cubo e lo scagliamo finché tutto quello che esiste nella nostra scena non è compreso all'interno di questo cubo adesso gli applichiamo un nuovo materiale che rinomino in fog cioè nebbia in inglese non voglio rimuovere questo principio al bsdf e lo faccio tranquillamente e invece in volume inserisco un volume scatter inserisco una densità per esempio di punto 1 e faccio in modo che la luce proveniente dall'esterno venga diffusa all'interno della mia scena e questo mi garantisce un eccellente effetto nebbia poi se volete quella nebbia quasi sempre troppo fitta per diminuire la densità basta andare a far scendere il parametro density molti simulano la molti invece del volume scatter per simulare una nebbia inseriscono un principal bsdf tuttavia il volume scatter è proprio progettato apposta non un principal bsdf è stato un principal volume però il volume scatter è proprio progettato apposta per la nebbia quindi in questo caso è migliore del principal volume dimenziamo ulteriormente la densità della nebbia e rinomino anche l'oggetto in fog e questo è un programma di triari e fatti molto interessanti per quanto a questo punto la mia scena abbia una certa complessità strutturale cioè sicuramente è una scena già abbastanza pesantuccia da renderizzare comunque sia con tutte queste montagne di materiali tutte queste cose viste, riviste studiate abbiamo finalmente compreso i segreti degli shader quindi di alcuni tra i modi quindi forse del gruppo più importante da conoscere all'interno dei materiali bene ricordatevi per un attimo il vostro risultato poi vedete che è molto puntinato cioè la struttura stessa di Cycles fa in modo che magari sopra il vostro materiale si possa creare un po' questo particolare effetto a pixel per risolvere andiamo all'interno di questo pannello dove scegliamo il motore di rendering e inseriamo l'effetto di denoise denoise è una parola inglese che vuol dire eliminazione rumore se abilitate le opzioni di eliminazione di rumore nel rendering e nella viewport blender andrà a risolvere in tempo reale questo effetto puntinato ovviamente il blender deve comunque sempre rilavorare su tutta l'immagine però viene in tempo reale eliminato l'effetto appuntinato attendiamo qualche istante poi vedremo meglio queste opzioni quando studiamo le funzioni più avanzate di cycles oppure potete ovviamente anche non inserirlo fate come preferite oppure ecco questa è una cosa che si può fare tranquillamente blender in questo caso voi sapete che blender fa prima un calcolo iniziale della vostra immagine che cycles fa prima un calcolo iniziale della vostra immagine poi rifa i calcoli rifa i calcoli rifa i calcoli rifa i calcoli un certo numero di volte che specificate qui più volte fa i calcoli più il risultato sarà preciso ma ogni volta che fa i calcoli ogni progetto di calcol si chiama sample quindi prima renderizza quindi in altre parole ogni ciclo di calcoli effettuato da cycles per ogni tile della mia immagine abbiamo studiato queste cose nella reazione precedente si chiamano samples in questo caso con start sample a1 blender fa il processo di denoise sin dalla prima sample se lo metto a 31 blender lo farà solo a partire dall'ultima sample perciò magari il denoise sarà un pochino meno efficiente però come vedete blender prima fa tutti i calcoli e poi solo all'ultimo calcolo va a effettivamente effettuare il denoise cioè a eliminare questo effetto appuntinato per esempio quindi uno start sample invece con 1 lo fa per tutto il processo di render lo fa dall'inizio alla fine del processo di rendering fate comunque qualche prova per cercare di impratichirvi di tutto ciò poi molto spesso non sono neanche un problema così grande non è neanche un problema così grande il funtinato però magari in quella situazione era veramente molto evidente perché proprio è una scena complessissima con tantissime fonti luminose dovute a tantissimi materiali missions volumetria go go shader anche molto complessi è una scena pesantuccia da renderizzare e questi sono essenzialmente gli shader i primi nodi materiali che studiamo adesso prima di chiudere questa lezione studiamo invece i texture i nodi del texture magari adesso questa scena è complessissima quindi la rinomino in shader e creo una nuova scena che rinomino in texture a essere precisi una texture quindi abbiamo visto intanto cosa sono gli shader cos'è uno shader? uno shader è un particolare nodo in blender che è collegabile direttamente col material output e che ha come ingrediente principale la luce per ingrediente principale la luce si intende essenzialmente vi ricordo che questa è una scena ancora con la nebbia per ingrediente principale la luce si intende qualcosa di molto semplice si intende solamente che questo shader che la funzione primaria di un nodo dello shader semplicemente è quella di deviare la luce un nodo dello shader ragiona così fa in modo che quando un raggio di luce colpisce il mio materiale questo raggio di luce viene deviato seguendo una formula di riflessione che dipende dal nodo stesso in questo modo gli shader ci possono permettere di dare di creare effetti complessi e per essere più precisi i nodi dello shader hanno la caratteristica importantissima di tenere conto di quali zone sono illuminate e quali no voglio dire che se una zona è all'ombra il nodo dello shader non la farà vedere buia invece sia illuminata me la farà vedere appunto illuminata e questo è alla fine quello che vedo di tutti i risultati del mio rendering perché gli shader si colleghono direttamente al material output quindi al risultato finale il formato in dati dello shader è in bsdf cioè appunto il formato che corrisponde a questo comportamento passiamo alle texture le texture magari adesso risaltiamo nel pannello dello shading già settato per il lavoro con facciamo riapparire la riga di base adesso saltiamo al pannello dello shading cioè il pannello progettato appunto per la creazione dei materiali l'abbiamo già un po' personalizzato inserendo una timeline che può essere abbastanza utile quando dobbiamo fare simulazioni complesse non inserite sempre una timeline per principio se vi serve la inserite quindi se dovete magari animare i dati dei materiali perché tutti i dati che inseriamo nel sistema dei nodi sono ovviamente animabili inutile a dire che se lavorate con lo shading non vi serve il graph editor o top sheet o NLA se dovete lavorare con l'animazione in modo più approfondito saltate direttamente nel pannello di animation che sta proprio qui accanto ce l'avete vicino comunque stiamo dicendo adesso andiamo a vedere le texture aggiungiamo un piano e adesso lo scagliamo bene tutto a buio perché nella mia scena non ci sono luci allora aggiungo una luce di tipo point non sappiamo ancora le tipologie della luce faccio adesso inseriamo una semplicissima luce di tipo point per aumentare la forza di una luce andate in questo pannello e aumentate la voce power aumenterete l'intensità luminosa di quest'ultima ma anche se non abbiamo ancora studiato in modo approfondito le caratteristiche della luce quindi per ora sapete solo che una luce point è una luce che emette radiazione in omni direzionalmente adesso andiamo a creare un nuovo materiale per questo piano che rinominiamo in planes material allora che ci interessa ormai conosciamo i nodi dello shader e tutti i principled quindi tutti questi nodi adesso passiamo ai nodi delle texture una texture è qualcosa di estremamente semplice una texture è un'immagine una fotografia una si un file png è un'immagine un'immagine di cui il nostro unico approccio finora è stato usarla all'interno del modificatore displacement o l'abbiamo visto poco fa all'interno del suo stesso corrispettivo all'interno dei materiali volumetrici tuttavia le texture sono utilissime a livello di materiali perché io posso far apparire una mia texture al di sopra di un oggetto al di sopra della superficie di un oggetto lavorando con i materiali la prima cosa è quindi le texture sono un mondo molto interessante prima di andare a scoprire le texture vere e proprie apriamo un altro pannello all'interno di blender e andiamo nelle opzioni che ci permettono di regolare nel preferences quindi nelle impostazioni di blender vi potete andare anche dal pannello edit e scegliere il preferences però io lo trovo più semplice aprirlo semplicemente all'interno della mia all'interno della mia finestra adesso andiamo nel pannello degli add-on e ricerchiamo l'add-on nod wrangler che è questo add-on qui voi l'avrete qui disattivato avrete questa spunta disattivata perché non l'avete ancora inserito abilitate il nod wrangler ci 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 interessa il nod wrangler solo perché è un add-on molto importante che ci permette di migliorare molto cioè che ci permette di essere molto più veloci nell'applicazione delle texture dopo aver abilitato il nodo wrangler chiudiamo il preferences adesso cerchiamo di raggiungere una texture la texture più semplice è ovviamente la image texture cioè una texture tipo immagine una texture che scegliete voi che prendete dal vostro computer io potremmo dire va bene la collego direttamente al surface tuttavia la collego direttamente al material output tuttavia non è così che dovete lavorare per vedere un risultato perché le texture non emettono dati in formato bsdf come gli shader le texture emettono dati in formato rgb quindi dati di colore allora dovete collegare la texture ai dati di uno shader e poi collegare lo shader al material output vedete allora adesso funziona sì che funziona solo che io non ho ancora selezionata nessunissima texture possiamo anche creare noi personalmente una texture in blender per esempio questa è una semplice texture monocromatica nera oppure possiamo anche creare una texture monocromatica di un altro colore e come vediamo verrà rappresentata sopra il mio piano contro la z oppure posso anche creare una texture con una griglia come questa come vedo verrà rappresentata sopra il mio piano oppure ancora posso anche andare ad aggiungere una texture di tipo color grid cioè una griglia colorata e ancora una volta verrà rappresentata all'isopra del mio piano posso ovviamente questo va a regolare solo il dato di colore del mio principal dbsdf poi posso sempre andare a regolare le altre opzioni per esempio aumentando la metallicità o per esempio collegando la texture anche la voce di emissione in modo che ciò che è disegnato sulla texture sia anche un dato luminoso emisso dal mio dal mio oggetto no o meno magari la mia texture in immagine potete collegare in questo modo la vostra texture un modo alternativo per vedere le texture è ricorrere anche all'image editor di blender che può essere anche considerato un visualizzatore di immagini potete vedere il risultato del vostro rendering cliccando su render result ma potete anche andare ma se cliccate qui avete anche l'enco di tutte le texture esistenti come per esempio quelle create poco fa e potete andare semplicemente a switchare da una texture all'altra per vederla visivamente questo può essere molto comodo se volete monitorare quale texture avete immaginiamo per esempio di inserire una texture del legno per farlo andiamo una texture qualsiasi del legno per farlo apriamo google chrome per aprire il mio google e adesso cerchiamo nella barra di ricerca testule legno download vi usciranno tantissimi siti che vi permettono di scaricare per esempio una testule rappresentante in legno tuttavia un sito veramente buono per avere testule gratuite è il sito ambientcg basta scrivere nella barra dell'ugle ambientcg.com preme l'invio e ci si aprirà questa meravigliosa scheda dove avremo a disposizione una quantità di testule incredibili esploriamo le risorse e ecco qui tutte le testule che ci possono interessare con tutte le immagini che ci servono prendiamo per esempio una testule del legno per esempio questa e adesso scegliamo il formato della testule che verrà scaricata per esempio scegliamo una testule in formato png in 2k va più che bene e scarichiamola attendiamo qualche istante che venga completato il download il download è stato completato adesso vado nel mio desktop lo aggiorno eccolo qua la mia cartella è una cartella compressa estraiamo il nostro estraiamo le immagini ora le immagini sono state estratte con successo io vedo chiaramente che nel mio desktop ho queste 5 immagini ben distinte questa immagine questa questa e questa immagine e adesso sorge subito quindi in parole povere abbiamo scaricato questo file zip abbiamo estratto le immagini e queste le abbiamo inserite nel nostro desktop dove ci accorgiamo che abbiamo appunto 5 immagini distinte ma un momento un momento come mai le immagini distinte sono 5 andiamo a vedere come dobbiamo utilizzare effettivamente le testi ora effetto il refresh nel file browser di blender ed importo la prima testi nel mio node editor semplicemente clicco e l'altra scena nel node editor e viene inserita come image texture e adesso vado a collegarla al principio al bsdf notiamo subito che la texture è stata completamente applicata e vedo tutto in modo molto chiaro sopra il mio piano tuttavia la texture rappresenta un legno che però non appare in modo molto realistico perché il legno rappresentato dalla texture non è un legno perfettamente piano è un legno che sopra di esso dovrebbe avere tante piccole imperfezioni mentre io vedo che nel piano queste imperfezioni io le vedo perché sono rappresentate sulla texture però non è molto realistico si vede che è un'immagine applicata semplicemente sopra per rimediare ci vengono in aiuto delle altre texture in primo luogo questa è una variante in primo luogo andiamo a vedere quale opzioni abbiamo a disposizione importiamo anche tutte le altre texture quindi questa questa e infine quest'altra texture adesso andiamo a studiarle prima di tutto questa prima di tutto diciamo che anche la rugosità del legno non è costante ci saranno dei punti del legno con una rugosità minore e dei punti del legno con una rugosità maggiore allora prendiamo la texture ragness e la colleghiamo alla rugosità in questo modo la rugosità del mio legno verrà gestita da questa texture dove la texture sarà nera il legno avrà una rugosità pari a 0 invece dove è bianca avrà una rugosità pari a 1 e già adesso vediamo che è molto più realistico sì adesso la luce adesso in alcuni punti d'algustà maggiore in alcuni punti d'algustà minore e questo dà un effetto visivo molto molto migliore passiamo adesso alla texture del del displacement questa texture contiene praticamente una marea di dati da applicare al mio piano a livello di una marea di dati da applicare al mio piano a livello di piccoli rilievi contiene effettivamente una marea di piccoli rilievi da applicare al mio piano come faccio ad aggiungere questi rilievi al mio piano andiamo a vederlo subito dobbiamo andiamo nella texture del displacement e aggiungiamo un nodo di tipo vector in particolare andiamo ad inserire un nodo displacement adesso colleghiamo la texture del displacement all'opzione di height praticamente questo nodo sarebbe un intermediario tra questa texture e l'output e colleghiamo il displacement a effettivamente il displacement output in questo modo blender adesso andrà a basarsi su questa texture per la creazione di tanti piccoli rilievi sopra la superficie della mia mesh infine quest'altra texture la texture normal decay la colleghiamo all'opzione normal del principal bsdf e come nodo intermediario scegliamo sempre un nodo vector e inseriamo il nodo normal map adesso abbiamo mappato il nostro piano con successo per essere precisi abbiamo collegato la texture color all'opzione base color del principal abbiamo collegato la texture ragness all'opzione ragness del principal abbiamo collegato la texture displacement al nodo displacement e che poi abbiamo collegato all'uscita displacement del material output e infine abbiamo collegato la texture normal decay al nodo normal map che abbiamo collegato al normal adesso andiamo a capire in particolare le cose il displacement e il normal andiamo a osservare meglio le texture di cui stiamo parlando allora questa è la texture del displacement in realtà questa texture è molto semplice in altre parole l'uscita displacement del material output sarebbe l'entrata scusate del displacement del material output sarebbe nell'entrata in cui facciamo entrare i dati dei piccoli rilievi mi spiego in surface facciamo entrare i dati sugli shader volumetrici invece in volume facciamo entrare i dati sugli shader in surface scusate facciamo entrare i dati degli shader delle superfici e invece in volume facciamo entrare i dati degli shader dei volumi. In Displacement facciamo entrare tutti quei dati relativi ai piccoli e micro rilievi che si formano sopra la mia Mesh. In altre parole la texture del Displacement contiene i dati su tutti quei micro rilievi che si formano sopra la mia Mesh. Dove questa texture è bianca Blender crea un leggerissimo rilievo. Invece dove questa texture è nera Blender crea una leggerissima depressione. Non si tratta di qualcosa a livello di modellazione perché anche se vado in Edit Mode io tutto ciò non lo vedo. Per rilievo e depressione intendo nient'altro che un... per rilievo e depressione intendo solamente dei piccoli dati che vengono aggiunti sopra la mia Mesh. Andiamo nel motore di rendering Cycles. Stavamo in Eevee ma non era un problema perché tutto ciò funziona benissimo anche in Eevee. Ovviamente con Cycles però il risultato è un pochino più preciso come al solito. Ma tutto ciò funziona benissimo anche col motore di rendering Eevee. Quindi questa è la semplicissima texture del Displacement. In parole povere, più uno di questi punti della texture è chiaro, più in quel punto si creerà un rilievo. E quindi con la versione in bianco e nero della texture del colore siamo andati a creare tutti questi micro rilievi. Ma invece la texture normal, questa texture normal, a che serve? Come vedete questa texture ha una base molto particolare, questa texture di base è blu. È una texture blu. Ma se zoomiamo tanto 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 tanto, vediamo che ci sono anche minuscole linee rosse e minuscole linee verdi. Non sono neanche visibili, sono veramente minuscole. In parole povere, la situazione è questa. Dove questa texture, dove la texture normal, quindi adesso stiamo parlando della texture normal, dove questa texture è blu, la luce quando arriva su un determinato punto della mia mesh, considerate le normali, le normali, da quel nome normal, di quel determinato punto della mia mesh, considerate le normali di quel determinato punto della mia mesh, se in quel punto la texture è blu, la luce rimbalzerà in direzione dell'asse delle zeta. E per asse delle zeta intendo l'asse delle zeta delle normali, quindi vuol dire che rimbalzerà in direzione perpendicolare alla superficie, dove, quindi lungo l'asse delle zeta del sistema di riferimento normal, questo comportamento si verificherà ogni qualvolta che questa immagine appare blu. E perciò nella maggior parte dei casi, quasi sempre, la luce si rifletterà perpendicolarmente alla mia superficie, e che è giusto, è esattamente ciò che io voglio. Ok. Bene, però in alcuni determinati casi, per esempio quando ci sono minuscoli rilievi superficiali, la luce deve anche essere leggermente deviata, quindi dove la texture appare rossa, invece la luce si rifletterà in direzione dell'asse delle zeta, invece dove è verde si rifletterà in direzione dell'asse delle zeta. E perciò, in questo modo, la texture normal, collegata con normal map, collegata con l'opzione normal del principal bsdf, va a creare rilievi superficiali, così come fa anche il displacement, che però dobbiamo collegare al nodo displacement, che deve essere collegato al material output. Quindi per lavorare sulla, quindi in altre parole, per lavorare sul colore, prendete la texture color e agganciatela al base color del principal bsdf, invece la texture hardness agganciatela all'opzione di rugosità, la texture displacement agganciatela al nodo displacement e poi al nodo material output, invece la texture normal al normal map agganciato al nodo normal, è agganciata all'opzione normal del principal bsdf. e in questo modo le texture vengono applicate semplicemente sopra il mio piano. Tuttavia, queste texture vengono tutte applicate nello stesso modo, ma se io volessi ruotare questa immagine, se io volessi andare a scalare questa immagine, se io la volessi spostare, dovrei andare a lavorare su un altro paio di nodi. Allora, dovrei basarmi sul nodo mapping che semplicemente fa la seguente cosa, se io qui collego il nodo di mapping all'opzione di vector, adesso io essenzialmente posso cambiare i dati di posizione, rotazione e scala di quella texture. Tuttavia, il risultato non è quello che mi aspetto, perché io adesso vedo tutto marrone, non vedo più la mia texture, eppure io voglio continuare a vederla e poterla spostare. Questo perché, per poter lavorare, io devo dare un sistema di riferimento al nodo mapping. Per farlo, mi viene in aiuto il nodo texture coordinate. Il nodo texture coordinate deve essere collegato all'opzione di vector del mapping. In questo modo, io posso andare a fornire a Blender un sistema di riferimento su cui basarsi. Se inserisco generated, il sistema di riferimento sarà il sistema di riferimento della posizione della texture. Quindi, se collego il generated al vector del mapping, adesso Blender otterrò esattamente lo stesso risultato che ottenevo prima. Tuttavia, adesso ho a disposizione un nodo che mi permette di spostare o ruotare o scalare la mia texture. Per esempio, io posso andare a spostarla come io voglio, lungo tutti gli assi. Quindi, lungo l'asse delle Z, delle Y o delle X. Non solo, io la posso anche andare a ruotare, lungo qualsiasi asse. Per esempio, la ruoto di 45 gradi lungo l'asse delle Z. Vedo che adesso la texture è stata ruotata. Infine, ho anche l'opzione di scaling. In realtà, però, l'opzione di scaling è leggermente differente. Perché non dovete immaginare la scala come la immaginate con gli oggetti. Perché con gli oggetti, più la scala è grande, più l'oggetto è grande, più la scala è piccola, più l'oggetto è piccolo. Invece, con la texture non funziona così. La scala di una texture sarebbe le volte in cui quella texture è ripetuta lungo quell'asse. Per esempio, se in X metto 2, la texture verrà ripetuta 2 volte lungo l'asse delle Y. 3, la texture verrà ripetuta 3 volte lungo l'asse delle Y. 10, la texture verrà ripetuta 10 volte lungo l'asse delle Y. Ovviamente, se Blender la deve ripetere più volte, la dovrà rendere un pochino più piccola. Quindi, più aumento la scala lungo l'asse delle Y, più la texture sarà schiacciata lungo l'asse delle Y. Y, se io aumento scale Y, la texture verrà ripetuta più volte lungo l'asse delle Y. E perciò sarà più schiacciata lungo l'asse delle Y. Spero che vi risulti tutto chiaro. Inoltre, io ho anche altre opzioni importanti da conoscere. Intanto, l'opzione Camera fa in modo che il punto di riferimento della texture sia la camera. Cioè, che la posizione della texture sia relativa alla posizione della camera. In questo caso, la camera non c'è. Ne vado ad aggiungere una. Vado in Vista Camera. N, Camera to View. Per poter spostare la camera adeguando anche la vista. Adesso, la posizione della texture si baserà sulla posizione della camera. Invece, altra operazione utilizzatissima. Object. Ove l'opzione di Object. Dove è in base alla posizione dell'oggetto che si basa la posizione della texture. Tuttavia, questi valori in particolare li vedremo meglio nelle lezioni successive. Per ora, sapete solamente che qui voi potete scegliere essenzialmente il punto di riferimento della vostra texture. Quindi, se il punto di riferimento deve essere il punto in cui è stata generata. Oppure, se deve essere l'oggetto. Quindi, il pivot dell'oggetto deve essere il suo punto di riferimento. O se il punto di riferimento della texture deve essere la camera. Eccetera, eccetera. Comunque, vedremo meglio queste cose nella lezione successiva. Per ora, quindi... O meglio, nella parte successiva di questa lezione. Quindi, per ora, possiamo anche lasciare semplicemente la semplicissima posizione di Generated. Ricordiamoci sempre che io adesso, col nodo di Mapping, posso andare a muovere, ruotare... o scalare, cioè ripetere più volte lungo un'asse, la mia texture. Tuttavia, c'è un piccolo problema. Io adesso vado a ruotare, scalare o muovere solo la texture color. Invece, però ricordiamoci che la forma che hanno tutte le altre texture dipende da... Ricordiamoci che tutte queste texture rappresentano tutte la stessa cosa, anche se in modo diverso. Per la qualcosa, se io muovo la texture color, dovrei, per avere un risultato buono, dovrei volere che anche tutte le altre texture venissero mosse nello stesso modo. Cioè, vi faccio vedere che se io sposto la texture color lungo l'asse delle hits, poi la texture hardness resta dov'è, la texture displacement resta dov'è. Quindi, alla fine, i riliei, i micro riliei che si formano sopra la mia mesh, non sono più, sopra il mio oggetto in generale, non sono più conformi alla posizione della texture color. In altre parole, per avere un buon risultato, tutte queste texture devono essere allineate, quindi devono trovarsi alle stesse coordinate. Per riuscire ad ottenere questo risultato, potrei andare a duplicare questi nodi e collegarli all'opzione di vector. In questo modo potrei, di tutte le altre texture, in questo modo potrei andare a spostare tutte le altre texture. Il problema però è che se io andassi a fare ciò, ogni volta che modifico i dati di un nodo di mapping, dovrei poi andare a riportare le stesse modifiche anche a tutti gli altri nodi. Perciò mi conviene, invece di duplicare tante volte questo nodo di mapping, andare a collegare questo nodo di mapping a tutti i nodi texture. Collego questo nodo di mapping a tutti i nodi texture, e in questo modo se io traslo o ruoto le texture servendomi del mio mapping, la stessa trasformazione verrà applicata a tutte le texture, perché il mapping è applicato a tutte le texture, semplicemente connettendolo così a tutte. Ora, risettiamo questo nodo, andiamo a vedere che però, oltre a collegare questo nodo di mapping a tutte le texture così manualmente, esiste un modo magari un pochino più elegante, l'utilizzo del nodo retruth. Andiamo a vedere come fare. Andiamo ad aggiungere, andiamo nel pannello di aggiunta, e in layout scegliamo il retruth. Questo, come vediamo, si tratta di un singolo pallino che va a spezzare un segmento che unisce più nodi. Adesso posso partire da questo pallino e far partire altri segmenti che lo collegano a tutte le texture. Questo è un metodo, magari, preferibile, G per muoverlo, questo è un metodo, magari, preferibile, perché io adesso, questo è un metodo, magari, preferibile, perché posso lavorare più comodamente con questi nodi, e, magari, interpore altri nodi tra il mapping e il pallino. Non c'è necessità di interpore altri nodi tra il mapping e questo pallino. Tuttavia, magari, vedere partire tanti segmenti da un singolo nodo può rendere un pochino più scomodo il lavoro. Invece, utilizzando questo piccolo sistema del pallino retruth, magari, è un po' più comodo lavorare. E, in questo modo, abbiamo creato un materiale molto, molto credibile. Si tratta essenzialmente di un... E' un materiale molto credibile. Un legno credibilissimo. Abbiamo adesso... Sicuramente, però, una scena un pochino complessa. Sarebbe bello poter organizzare questi nodi in una conformazione all'interno dello shader editor un pochino più facile da comprendere. E questo è possibile attraverso l'opzione frame che, o meglio, l'opzione, o meglio, la scolciatura della stella, ctrl-j. Se io premo ctrl-j, i nodi selezionati vengono uniti in un gruppo come questo che posso rinominare in questo caso in mapping. In questo modo posso organizzare meglio la mia scena perché ho due nodi di mapping. Ctrl-j per tutti questi nodi, per esempio, mi viene creato questo blocco che li unisce e per rinominare il blocco scrivo textiles. Cioè, premo F2 e scrivo textiles. Adesso, magari, questi due nodi, dato che sono nodi di tipo vector, li inserisco in un gruppo che rinomino in vector. E invece, quest'altro nodo lo inserisco in un gruppo che rinomino principled e invece questo lo inserisco in un gruppo da solo per creare il gruppo basta premere ctrl-j e lo rinomino in output. Basta premere ctrl-j. In questo modo ho creato questa struttura della mia scena un pochino più ordinata. Poi, a livello pratico, se volete cancellare uno di questi gruppi basta selezionare il premere its. Un altro modo per aggiungerlo è andare in layout e premere frame. In questo modo viene inserito un semplice gruppo vuoto. Andiamo a riselezionare tutte le textiles con un semplice riquadro di selezione ctrl-j per creare il gruppo lo selezioniamo premiamo F2 per rinominarlo e scriviamo e scriviamo non saprei sì, proprio textiles. In questo modo possiamo creare questa organizzazione della scena di creare materiali molto complessi in un modo relativamente semplice. Tuttavia ci vuole del tempo per settare dei materiali come questi e se ci vogliamo sbrigare e se vogliamo essere un pochino più veloci ci viene in aiuto il nodo node of angle che abbiamo creato che abbiamo aggiunto qualche minuto fa cancelliamo tutti questi gruppi e ritorniamo al materiale di default semplicemente settando tutti questi nodi e premendo its il node of angle ci permette di aggiungere il nodo of angle il suo pregio e quello di permetterci di creare delle strutture come quelle che abbiamo appena visto in modo molto più semplice ecco come dobbiamo fare questo è qualcosa che potete fare solo se avete selezionato solo se avete attivato il node of angle l'add-on node of angle selezionate il cioè il node of angle che sarebbe un un add-on per attivarlo andate in add-ons scrivete node e abilitate l'opzione node of angle adesso se questo l'avete fatto basta che selezionate il piano e premete il principal e premete shift ctrl t adesso voi potete navigare nel vostro pc e ricercare le trattature che vi interessano ecco qua le trattature color darkness displacement e normal adesso per dire a blender di aggiungerle al mio principal basta andare a premere al mio nodo principal basta andare a premere principal test setup e blender ha programmato tutto da sé ha preso il displacement l'ha collegato al nodo displacement e l'ha aggiunto al material output ha preso il normal l'ha collegato al normal map e l'ha collegato la prossima volta al principal al bsdf ragnas l'ha collegato all'opzione di ragnas e base color al principal bsdf eppure andate a raggruppare tutti i nodi in gruppi relativi e ha aggiunto le opzioni di mapping con il test coordinate l'ha impostato a uv invece che a generate però la differenza la vedremo nelle lezioni successive quindi per ora ignorate il test coordinate inseritelo perché altrimenti il mapping non funziona ma lo vedremo meglio nella prossima lezione adesso andando a modificare possiamo sempre andare a modificare la posizione di tutte le texture in un colpo solo e andare anche a ruotarle tranquillamente o a scalarle cioè ripetarle più volte lungo un'asse risettiamo il nodo e vediamo che in questo modo andare a settare in modo avanzato una texture diventa veramente molto molto semplice quindi adesso siamo andati a creare un legno semplicemente con un click basta scaricare le texture e basta scaricare le texture da un sito relativo come questo qua le scaricate le estraete dalla zip e dopo che l'avete fatto le inserite da qualche parte nel vostro computer create un materiale con solo un principal e un output selezionate il principal shift ctrl t e selezionate tutte le vostre texture dal blender file view e questo rende veramente facilissimo la creazione di materiali utilizzando le texture un'altra cosa velocemente che vi mostro del nod bringer è la seguente presa una texture qualsiasi magari la importo direttamente da qui come per esempio la texture della pelle che abbiamo visto prima allora il nod bringer abbiamo visto che se io seleziono il mio principal premo shift ctrl t posso andare a selezionare tutte le texture che devo inserire quindi le texture color ragness normal displacement in un colpo solo e vengono aggiunte al principal bsdf però il nod bringer ha anche un'altra funzione se selezionate non il principal bsdf ma una texture e premete non shift ctrl t ma solamente ctrl t da automaticamente raggiungere il mapping e il texture coordinate questo è un'altra funzionalità in più del nod bringer che però avete solo e solamente se avete attivato questo nodo cancelliamo questi texture che non ci interessano e godiamoci questo semplice materiale questo è il nostro primo materiale creato con le texture quindi adesso magari vado a quindi magari questo materiale lo vado a rinominare in wood lo duplico con shift d e premo gz2 adesso rendo questo materiale indipendente e magari inserisco un altro nome come per esempio planes material poi ci penseremo dopo a rinominarlo andiamo a rieffettuare l'esecitazione selezioniamo questi due nodi ctrl i per invertire la selezione it's per cancellare tutto c'è it's per scusate andare a cancellare il tutti quei nodi adesso andiamo a scegliere un altro textual da qui magari solo per esercitarci scegliamo la textual che più ci si addice per esempio qui nella barra di ricerca andiamo a ricercare bricks cioè mattoni una bella textual che ci piace come per esempio non saprei questa e la scarichiamo magari anche solo si l'andiamo a scaricare anche questa volta in 2k se sbaglio ho lanciato due volte il download uno lo annullo aspetto che blender termini se il blender scusate non viene sempre il blender che il computer termini il download aspettiamo qualche istante bene aspettiamo 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 quasi finito solo 10 secondi poi tecnicamente potreste anche scaricare una textuale in 16k ma non è che abbia molto senso perché sarebbe una risoluzione mostruosamente alta bene è stata scaricata la apro adesso estraggo i miei file magari in una nuova cartella che rinomino in mattoni all'interno di questa cartella e fai tutta l'estrazione adesso vado a prendere la cartella mattoni andiamo a prenderla la prendo nel mio esplora file eccola è qua aggiorno e ecco la mia cartella mattoni all'interno della quale io ho tutte le immagini della mia texture più alcune immagini in più che ci vengono scaricate ma queste le dovete ignorare magari le cancello proprio elimina e svuoto anche il cestino quindi proprio le eliminiamo definitivamente ci interessano queste texture andiamo a vedere come posso applicare questa texture al principal semplicemente seleziono il principal shift ctrl t seleziono la cartella mattoni e scelgo queste immagini principal texture setup io ho effettuato il mio lavoro certo adesso i mattoni sono un po' grandicelli quindi magari in scale inseriamo una decina e copiamo il valore a tutte le opzioni sottostanti magari 10 è troppo inseriamo solamente 8 è più che bene adesso prendiamo il piano e prendiamo Rates 90 gradi per gutarlo di 90 gradi adesso andiamo un attimo in solid mode andiamo a vedere quali sono le dimensioni di quest'altro piano nell'item e vediamo che è lungo lungo l'asse delle Y 23.5 metri allora questo piano lo sposto lungo l'asse delle Y della metà di 23.5 metri quindi lo spostate di 23.5 metri ecco io lo dovevo spostare di un valore pari alla metà in questo modo questo piano va a concidere perfettamente con quello in questo modo questo piano va a concidere perfettamente con il con il bordo di quest'altro adesso inserisco gli snap e premo G e seleziono quest'altro piano GZ e grazie agli snap mi assicuro di fermare mi fermo quando arriva al raggiungere questo piano qui il piano XY adesso questo materiale o i nomini in bricks io ho ottenuto il mio risultato qui ho il piano con la testule dei mattoni magari anche 8 è troppo come grandezza inseriamo solamente 4 ho il piano con la testule dei mattoni e invece qui sotto ho il piano con la testule del ho il piano con la testule del legno magari si è molto interessante e ovviamente ci sono grandissime potenzialità vi invito a fare qualche esperimento da voi a casa testule image ma anzi image texture è il nuovo nome che do alla scena perché in questa scena abbiamo appunto esplorato le image textures adesso andiamo a creare una nuova texture è una nuova scena scusate e la rinomino in default textures perché blender perché noi finora abbiamo esplorato solo l'image texture quindi la texture image che blender ci mette a disposizione tuttavia blender ci permette anche ci dà anche delle texture già predefinite all'interno di se stesso ampliamente regolabile e molto molto utili quindi non esiste solo la texture immagine esistono tante altre tipologie di texture che già esistono all'interno di blender infatti nel menu texture non c'è solo appunto a testo di tipo image al motore di rendering rinsirisco cycles vado a creare un nuovo piano lo scalo un poco e anche qui mi ricordo di aggiungere una bella luce molto luminosa per molto luminosa intendo che adesso aumento l'opzione di power l'ho spostata verso l'alto con gz e ho aumentato il power da questo pannello ecco in questo modo ho settato l'inizio della mia scena per vedere le altre textures andiamo a vedere le altre textures che blender ci mette a disposizione andiamo in add texture e fino ad avere visto solo la texture image quindi una texture che posso andare a selezionare da qui anche se aggiungerla così manualmente non è molto conveniente vi conviene solo clic vi conviene solo selezionarla da qui e trascinarla ecco perché qui blender ci mette a disposizione un file browser comunque sia abbiamo anche qualche altra opzione abbiamo anche tanti altri texture a disposizione iniziamo dalla brick texture andiamo a vedere le sue caratteristiche la brick texture è una texture a mattoni che è già predefinita all'interno di blender andiamo a studiare le sue caratteristiche in primo luogo vediamo che le file di mattoni non sono allineate le file di mattoni sono sfasate fra loro potete andare a cambiare questo comportamento con offset con offset a zero tutti i mattoni saranno belli allineati più aumentate offset più aumenta il disallineamento un punto 5 spesso va bene frequency quante file di mattoni non sono disallineate prima che ne agri una che invece si trova spostata mi spiego vedo vedo se frequency è 1 l'offset non ha più senso perché andando a cambiare l'offset io sposto tutti i mattoni in un colpo solo con frequency a 2 ogni fila di mattoni che subisce l'offset ogni fila con frequency a 2 per ogni fila di mattoni che subisce che subisce l'offset ce n'è una che sta ferma ed è per questo che andando a modificare l'offset si crea una sfasatura perché se l'offset mi muovesse tutti i mattoni nella stessa direzione non mi li andrebbe a sfasare invece con frequency a 2 ogni con frequency a 2 ogni c'è una fila di mattoni che subisce l'offset e una che non lo subisce una fila che lo subisce una fila che non lo subisce andando ad aumentare la frequenza vado ad aumentare il numero di file di mattoni che non subiscono l'offset mi spiego più frequency è alto più ci sono tante file di mattoni una vicino all'altra che non subiscono l'offset per esempio senza risco 3 ci sono 2 file che non lo subiscono e una fila che lo subisce 2 file che non lo subiscono e una fila che lo subisce con 4 3 file che non lo subiscono una fila che lo subisce 3 file che non lo subiscono una fila che non lo subisce frequenza 5 4 che non lo subiscono una che lo subisce 4 che lo subiscono una che lo subisce e così via poi squash è un'opzione veramente molto molto semplice semplicemente squash sarebbe lo schiacciamento dei mattoni con squash possiamo andare a decidere quanto devono essere schiacciati i miei mattoni vi faccio vedere che lo squash va ad influire solo sugli stessi mattoni su cui va a influenzare l'offset quindi l'offset influenza solo delle file di mattoni e lo squash influenza solo delle file di mattoni in particolare con frequency sotto offset posso decidere quante file di mattoni vengono influenzate dall'offset con frequency sotto squash vado a decidere quante file di mattoni vengono influenzate dallo squash detto in parole povere con lo squash detto in parole povere sia offset che squash sono delle trasformazioni che non vengono assegnate a tutti i mattoni perché altrimenti non sarebbero evidenti sono trasformazioni che vengono assegnate se frequency è a due in entrambe a un mattone sì a un mattone no a una fila di mattoni sì a una fila di mattoni no a una fila di mattoni sì a una fila di mattoni no aumentando frequency voi per ognuna di queste trasformazioni fate in modo che aumentino il numero di file che aumenti il numero di file una vicino all'altra e che non subiscono questa trasformazione ora passiamo invece al colore dei mattoni ora in realtà i mattoni si bastano essenzialmente su due colori di base color 1 e color 2 color 1 in questo caso è un grigio molto chiaro io lo posso inserire bianco e per esempio andare a scegliere un bel grosso invece color 2 in questo caso è un grigio scuro posso anche andare a scegliere un blu in questo modo vedo che i mattoni sono rossi e blu ma non ce ne sono solo di totalmente rossi totalmente blu ci sono anche dei mattoni che hanno un mix di colore se voglio che i mattoni siano tutti dello stesso colore devo scegliere questo colore metterci sopra il pulsore copiarlo con ctrl c e poi rincollarlo con ctrl v oppure ancora meglio per comodità rimetto lo squash ad 1 lo squash praticamente sarebbe la lunghezza del singolo mattone oppure meglio ancora posso inserire un input rgb e collegarlo a color 1 ma anche a color 2 in questo caso utilizzando quest'input io vado a scegliere il colore di tutti i mattoni perché vado a scegliere sia il color 1 che il color 2 che dipende da questo input garantisce risultati abbastanza realistici abbiamo inoltre l'opzione mortar cioè il colore della malta posso inserire la malta del colore che preferisco di solito si inserisce un grigio scuro che dà un certo realismo scale le dimensioni della texture ricordiamoci più scale è grande più la texture è piccola più scale è piccolo più la texture è grande perché questo sarebbe il numero di volte in cui la texture viene ripetuta mortar size quanto sono grandi le linee della malta se per esempio inserisco .5 inserisco le linee talmente grandi da coprire tutto quanto se inserisco .05 ho comunque delle linee abbastanza grandi il valore di default è .02 .01 invece mi dà delle linee abbastanza fini .07 mi dà delle linee abbastanza stesse fate qualche prova a mortar smooth se è aumentato mi permette di smussare le linee della malta con 0 le linee della malta sono completamente nitide se aumento mortar smooth per esempio mettendo .05 le posso andare a smussare un po' metto .1 aumento ancora di più la smussatura ecco posso andare a smussarle in realtà più che smussarle le vado a sfuocare 0 nitide 1 sfuocate proseguiamo andiamo a vedere l'opzione bias per capire bias andiamo a cancellare questo input rgb e andiamo a premere backspace per andare a risettare le opzioni color 1 e color 2 inseriamo di nuovo in entrambi un grigio sia qui sia qui però un grigio avendo una tonalità differente in questo modo vi faccio vedere vi faccio notare anzi che ci sono alcuni mattoni del primo colore alcuni mattoni del secondo colore e alcuni mattoni che sono un misto dei due colori molto bene questo comportamento quindi ci sono anche mattoni che nascono dalla miscolanza dei colori di altri mattoni questo comportamento lo possiamo modificare con bias con bias ad 1 andrete ad utilizzare andrete ad inserire tutti i mattoni del colore 2 scusate contro Z ma invece con bias a meno 1 andrete ad utilizzare tutti i mattoni del colore 1 più aumentate bias più il colore medio tenderà ad essere uguale al color 2 poi se volete un colore assolutamente uguale vi conviene inserire un attributo RGB e collegarlo a queste entrate dove potete scegliere un colore che verrà utilizzato per tutte e due ovviamente se questi due colori sono uguali il bias non ha più senso brick width sarebbe la lunghezza di tutti la larghezza di tutti i mattoni è diverso da squash perché squash ragionano solo su una fila si e una fila no comportamento che possiamo cambiare con frequency con frequenze a 3 su una fila si e 2 no frequenze a 4 su una fila si e 3 no eccetera eccetera rocate l'altezza di una riga di mattoni ctrl z per annullare e questa è la semplicissima brick texture la elimino con il tasto X e andiamo a vedere le altre texture che Blender ci mette a disposizione checker texture sarebbe semplicemente un texture a scacchi dove potete scegliere un colore dove potete scegliere essenzialmente i due colori della scacchiera in questo caso io ho scelto bianco e nero però potevo scegliere volendo anche un arancione e un nero o un arancione e un grigio ricordatevi che questo diventerà solo il colore di base del vostro risultato poi volendo potete anche andare a regolare le altre opzioni del principal magari andando ad aumentare la metallicità scale le dimensioni della texture ricordatevi per dimensioni della texture si intende il numero di volte in quella texture viene ripetuta una cosa importante un'altra proprietà del nodo vranger un'altra cosa che il nodo vranger permette di fare è questa se tenete premuto shift control e selezionate un nodo qualsiasi il suo risultato verrà direttamente collegato all'output per esempio se io adesso inserisco un qualsiasi altro shader per esempio un glass shader e io clicco con shift control clic su questo shader esso verrà automaticamente collegato all'output tuttavia vedo che se io provo a farlo con le texture succede qualcosa di diverso perché una texture come questa non si può collegare direttamente all'output in modo corretto perché questa texture emette i dati in formato RGB e l'output invece accettarati sull'informato BSDF in altre parole il pallino di questa texture è giallo invece il pallino del material output è verde allora blender per compensare mi inserisce un nodo fittizio un nodo creato apposta dal nodo ranger che un nodo viewer cioè un nodo progettato per convertire in modo molto veloce il dati RGB in dati BSDF e vi permette di vedere il risultato di questo nodo per esempio invece posso andare ad aggiungere il collego di nuovo questo nodo al material output magari ricreiamo qualcosa di un po' più complesso quindi magari inserisco una brick texture vado a reinserire un input RGB adesso inserisco un retrot e premo e faccio così adesso se premo shift control click su questo nodo io vedrò i suoi dati nell'output e quindi direttamente nella mia superficie premo shift control click su un nodo e io vedo e esso viene direttamente collegato all'output vi ricordo che ciò che è collegato all'output io lo vedo nella superficie brick texture io vedo direttamente il risultato della brick texture nel mio output principal BSDF vedo direttamente il risultato del mio principal BSDF all'interno del mio output quindi sulla superficie del mio oggetto vi faccio notare inoltre che le texture hanno due uscite infatti vedete che il brick texture ha due palline di output color e factor se collego il factor noto essenzialmente che il color è effettivamente la mia texture mentre il factor è un po' la sua versione in bianco e nero proviamo a vedere la stessa cosa per la checker texture color è la mia texture vera e propria e factor sarebbe un po' la sua versione in bianco e nero andiamo per esempio a modificare la texture checker e vedo che color è la texture effettiva factor una versione in bianco e nero ovviamente se io premo shift control blender collega blender collega al nodo di output il primo pallino dall'alto della mia texture quindi il color se voglio che invece mi colleghi il secondo mi basta premere shift control click un'altra volta riclicco e torno al primo riclicco e torno al secondo pallino ricollego questo nodo di nuovo con shift control click magari mi ricordo di riabilitare le screencast keys ricordatevi poi sempre anche un'altra cosa interessante è rimasto questo pallino ricordatevi che poi in color 1 e color 2 io posso magari far entrare anche un'altra texture per esempio anche la texture del legno la posso far entrare in color 1 vedete io andrò a vedere il legno in questa zone mentre magari la texture ragnas che è uguale solo che grigia invece di usarla per la rugosità la posso collegare a non ragnas scusate displacement la posso collegare al color 2 in questo modo posso creare tranquillamente questo effetto adesso premo ctrl t adesso su questo testo premo ctrl t per creare la mappatura e adesso inserisco questo pallino di retruth quindi di snodo e vado ad utilizzare la mappatura anche per tutte le altre texture e questo è un sistema di nodi completo tutte le texture hanno un'entrata vector in cui posso importare i dati di mappatura poi per editare le texture a livello un pochino più profondo aspettiamo la prossima lezione selezioniamo tutti questi nodi li cancelliamo e andiamo a vedere qualche altro nodo interessante invariament texture lo vedremo nella lezione sul sul background perché serve solo per il background gradient texture semplicemente ci permette di vediamo la gradient texture vediamo la material preview perché l'influenza della luce ci può impedire di vederla chiaramente quindi andiamo in material preview e vediamo che la gradient texture è semplicemente un gradiente che si va a formare ne posso inserire di vari tipi di varie forme per esempio uno che si stende l'ungola diagonale oppure esempio di tipo spherical di forma sferica oppure una quadratic sphere che è molto simile a spherical solo che è un particolare tipo di sfera generata dalle sue divisioni di un quadrato vediamo per esempio che se adesso vado a creare la mappatura di questa texture con ctrl t io adesso una cosa che posso fare è in texture coordinate collocare object in modo che generate ad avvector in modo che blender utilizzi come centro della texture il mio pivot praticamente qui potete decidere quale deve essere il centro della texture e con object scegliete il pivot e in altre parole adesso che ho fatto ciò ho creato essenzialmente con quadratic texture e queste opzioni ho fatto essenzialmente in modo che si crei questa forma questa particolare texture che poi può essere utile in tantissime situazioni lo vedremo meglio nella lezione successiva in cui vedremo anche come mixare delle texture fra loro magari adesso eliminiamo tutti questi nodi andiamo a vedere che la IS texture vi permette di import non vi permette di fare granché vi permette solamente di importare uno scripting in python perché se voi generate un linguaggio di programmazione che contiene delle informazioni di una texture per importarlo nel node editor basta selezionare il linguaggio di programmazione da qui se già presente all'interno del file blend o importarlo da qualche altra parte del computer se è inserito in external tuttavia non è il nostro caso image texture lo conosciamo già ci permette di importare un'immagine nel node editor andiamo a vedere le altre opzioni che blender ci dà allora magic texture in realtà adesso noi andiamo a collegare ed effettivamente è una texture che per certi versi conosciamo già per capire il perché andiamo a suddividere il piano e aggiungiamo un modificatore che conosciamo bene il modificatore displacement creiamo una nuova texture chiamata per esempio magic e adesso qui scelgo proprio una texture di tipo magic è subito molto bene bene allora possiamo lavorare abbiamo già visto la texture magic andandola ad osservare dal pannello texture ebbene le texture magic che osservavamo dal pannello delle texture sono pari pari uguali a questa texture magic quindi è sempre una texture di cui io posso andare a cambiare un valore depth che poi va a variare il colore della mia texture il colore di base colore su cui blender poi si basa per creare dei per creare questi tipici motivi con distortion a zero i motivi non ci sono più aumento il valore di distorsione più vengono appunto creati questi interessantissimi motivi motivi per esempio un 2 di distortions che ha motivi più distortion è alto più motivi sono complessi scale potete andare a cambiare quante volte viene ripetita la vostra texture la eliminiamo semplicemente il tasto hits musgrave texture un altro texture molto semplice ha un'uscita hate cioè questa musgrave è una texture in bianco e nero e perciò la sua uscita è un semplice valore numerico compatibile con tutto allora magari questo l'arancello e lascio per esempio la magic di prima perché per capire la musgrave texture magari sarebbe meglio andare a lavorare su un cubo lo inserisco lo scalo un poco e lo muovo e lo diminuisco leggermente la scala che è un nuovo materiale che rinomino altri texture altri textures magari io adesso sposto in alto questo oggetto voglio aggiungere il nodo musgrave texture e lo collego al base color vediamo con esattezza la forma di questa texture e andiamo a vedere intanto la prima opzione che Blender ci da le dimensioni la dimensione 1D vi da se inserite 1D vi viene a disposizione solo un singolo valore w con cui potete andare a regolare il colore della vostra texture vedo che cambiando il valore v vado a cambiare un colore monocromatico che è comune a tutta la texture con 1D con 2D la texture viene inserita in modo tranquillo viene inserita mi sembra che mi dia il mio buon risultato però solo su una superficie la texture viene applicata magari andiamo in material preview per vedere meglio nella parte superiore del vostro oggetto ma poi lungo i lati viene deformata perché 2D è l'opzione che dovete scegliere solo e solo se l'oggetto è bidimensionale se è tridimensionale si creano dei problemi e perciò per risolverle dovete andare a scegliere l'opzione 3D infine 4D è la somma di 3D e 1D cioè è sempre una texture complessa e tridimensionale che però in più vi mette anche a disposizione il valore W che vi permette di regolare la vostra texture CTRL Z per annullare le modifiche al valore W quindi 1D avete solo il valore W che vi fa cambiare un colore generale 2D va perfetto solo per gli oggetti bidimensionali 3D oggetti tridimensionali 4D 3D più valore di controllo W scale le dimensioni della texture più la scale è grande più la texture è fitta inseriamo per esempio una scale molto grande come questa e per esempio posso creare effetti che ricordano quasi un puntinato un puntinato inseriamo una scale un pochino più bassa andiamo a vedere detail è una delle opzioni più interessanti cioè la quantità di dettaglio più aumentate detail più la texture diventerà particolareggiata vediamo che con detail a 0 la texture non è per nulla particolareggiata più aumentate detail più la texture diventerà più ci saranno tanti particolari per comprendere i valori dimensions e lacunarity dobbiamo intanto andare a capire da dove viene fuori questa mousse grave texture a vederla così velocemente può segnare che la texture mousse grave venga fuori da un algoritmo puramente randomico ma non è così nella mousse grave texture blender prende una texture che si viene generata da un algoritmo randomico ma poi la duplica prende la copia la ruota vuota la copia ridimensiona la copia e sovrappone la copia alla texture precedente e ripete l'operazione un grande numero di volte in modo da ottenere una texture molto complessa e particolareggiata bene in dimensions potete andare a regolare la differenza delle dimensioni tra quindi la quantità di ridimensionamento tra ogni copia della texture cioè blender questa operazione la rifletta più volte e in dimensions potete decidere quanto ogni copia viene scalata rispetto alla precedente ma a livello pratico vi basta sapere che con che se inserite zero non c'è nessun ridimensionamento tra le varie copie quindi i dettagli si sovrappongono in modo più efficiente e si creano effetti complessi come questo che derivano anche da un alto detail però con un detail alto e un dimensions molto basso ottengo effetti come questo andando ad aumentare i dimensions io vado essenzialmente ad abbassare la quantità di dettaglio mi viene subito in mente che questa texture la potrei utilizzare per i displacement perché le texture che fate così le potete utilizzare a livello di colore ma le potreste utilizzare anche per collegarle alla ragnas quindi come texture ragnas e non solo potreste anche andare ad utilizzare come texture displacement semplicemente aggiungendo un vector displacement collegarle a height e collegare questo nodo all'opzione di displacement andiamo ad osservare il risultato in shaders compilation blender ci fa notare che ci vuole qualche istante e se adesso io vado in rendered mode e adesso magari vado a collegare il base color e ad abbassare l'intensità della colorazione in modo da ottenere qualcosa di un pochino più evidente e ci rendiamo conto che questo texture ha creato effettivamente l'illusione di tanti piccoli rilievi al di sopra della mia machine l'unico uso che non ci può essere è il collegamento alla voce normal cioè non lo dovete collegare alla voce normal perché per quello serve come ben sappiamo una texture a base blu se scollego ragnest io vedo solo i piccoli rilievi che questo estro va a generare super la mia superficie in questo modo vedendo solo questo ci rendiamo bene conto che questo estro mi va a creare tanti piccoli micro rilievi superficiali io adesso magari collego con ragnest e magari vado anche a far diminuire la scala della texture in modo da renderla un po' più grande così faccio anche crescere le dimensioni del singolo micro rilievo e questo rende un pochino più visibile l'effetto in questo modo posso andare a creare dei rilievi molto interessanti sopra la mia mesh questo mi può ricordare per esempio un effetto roccioso un materiale appunto di pietra che è sicuramente molto interessante cancelliamo questo nodo così viene anche che ci sia il collegamento e ricolleghiamo height con base color e scolleghiamo la rugosità infine se dimensions è la quantità di ridimensionamento per ogni copia effettuata nella mia texture la cunarity sarebbe la quantità di rotazione per ogni copia che viene creata nella mia texture e ok ci siamo e questa è la muse grave la cancelliamo e adesso aggiungiamo una nuova texture che questa è una delle texture più utilizzate all'interno di blender la noise texture l'unica che ha prima l'algoritmo fac e poi l'algoritmo color ma sono prima l'uscita factor e poi l'uscita color factor è sempre una versione in bianco e nero mentre color è una versione colorata però di solito si utilizza di più l'opzione di factor bene funziona in modo abbastanza semplice abbiamo sempre un'opzione molto simile alla mouse grave però è un pochino più semplice è basata essenzialmente su non è basata su una sovrapposizione è una texture basata totalmente su un algoritmo randomico con 1D ho solo un'opzione W che se modificate mi va a modificare il colore totale della mia texture 2D è una texture che va bene che deve essere applicata solo agli oggetti bidimensionali 3D perfetta per gli oggetti tridimensionali 4D somma di 3D più 1D è sempre uguale alla 3D però in più mette a disposizione sempre l'opzione W con cui potete andare a decidere con cui potete andare a modificare la vostra texture sempre in modo randomico Scale la scala della vostra texture per esempio una scala 500 mi va a creare un ottimo effetto appuntinato Detail semplicemente la quantità di dettagli più di tale è alto più sarà alto il numero di dettagli l'ultimo momento di tale più sono grandi dettagli Ragness la rugosità della texture risultato con 0 risultato con 1 la rugosità della texture e potete andare poi a cambiare la rugosità della superficie ovviamente andando a lavorare con il Ragness nel principal BSDF ora ricollego il factor di questa texture al Ragness del BSDF per essere ancora più preciso Distortion posso andare ad aggiungere una distruzione additiva alla mia texture osservate come questa viene modificata esponenzialmente aumentando il valore di distruzione francelliamo la nostra texture adesso magari point density la vediamo tra pochi minuti perché una texture è l'unica texture collegata ai volumi quindi prima parliamo di tutte le texture collegate alle superfici poi vediamo l'unica texture collegata ai volumi Skytesture la vedremo sempre parlando del background Voronoi texture ci mette a disposizione sempre la versione in bianco e nero ma anche una versione che come vediamo semplicemente divide la mia superficie in tante piccole celle ognuna delle quali poi colorata con il nero con color invece le celle vengono ognuna colorata con un colore preso a caso per creare questo efficientissimo effetto di fratture invece se collegate position ottenete un effetto molto particolare perché il colore della cella dipende dalla sua posizione e perciò ovviamente quindi più una cella sarà spostata all'ungulasse dell'elips più tenderà al verde più sarà in alto quindi sarà spostata all'ungulasse dell'elizia più tenderà al blu più sarà spostata all'ungulasse dell'elips più tenderà al rosso questo mi garantisce la creazione di questi bei gradienti allora abbiamo sempre le opzioni 1D 2D 3D 4D 1D un semplice valore W con cui potete andare a cambiare il colore della vostra testura proviamo a vedere il risultato con color W cambio il valore il colore della mia testura se qui è inserito 1D l'ultima opzione che ho qui non è position ma è proprio un valore di W dove lui mi va a far vedere essenzialmente un colore che tanto più W è alto più questo colore sarà bianco e questo è con 1D 2D una testura come quella che abbiamo visto poco fa quindi con distance color e un gradiente di posizione solo che va bene solo per le superfici bidimensionali su quelle tridimensionali mi crea questo particolare effetto non va bene per risolvere basta scegliere 3D che invece è quella che dovete usare per le superfici tridimensionali infine 4D è uguale a 3D però in più anche questa mi metta a disposizione l'opzione W con cui potete andare a modificare il risultato della vostra testura semplicemente modificando il risultato W quindi vi riesce di nuovo fuori l'opzione W che è uguale al W in 1D più il W sarà alto più questo colore sarà tendente al bianco scale va bene la scala della testura randomness la randomicità con randomness a 0 le griglie sono perfettamente quadrate anche a livello di posizione anche in position vediamo appunto qualcosa di perfettamente quadrato invece più aumentate il randomness più far tendere la griglia a qualcosa di randomico con 1 la griglia va totalmente a caso magari un effetto un pochino più interessante poi abbiamo anche varie tipi di testure F1 è questa qui con le celle F2 modifica leggermente il modo in cui vengono riempite le celle le rende cambia il riempimento anche in color vediamo la differenza tra F1 e F2 anche in position la differenza tra F2 e F1 quindi F1 mi riempie le celle in questo modo F2 è leggermente diverso smooth F1 mi dà un risultato uguale a F1 però più smussato più morbido così come dice la parola poi l'interessantissimo distance to age una delle opzioni più importanti mi crea effettivamente questo effetto a crepa senza distance to age l'unico output che vi rimane è distance e semplicemente avete questo effetto a crepe è utilissimo in molte situazioni per esempio se voglio creare delle crepe sopra un mio oggetto come posso fare il vorono e texture lo collego solo magari no lo collego al ragnas inserisco un bel nodo displacement distance lo collego con height e displacement con displacement in questo modo creo dei rilievi che cambiano in base alla mia texture e questo mi può prima creare degli interessantissimi effetti poi per editare un pochino di più le texture attraverso altri nodi aspettate la lezione successiva in cui vedremo appunto dei nodi converter in cui ci sono appunto molti metodi per editare la mia texture a livello molto avanzato abbiamo sempre un'opzione ah inoltre se inserite distance to edge con 4d vi è sempre l'opzione W che vi fa regolare il vostro risultato e sempre ovviamente l'opzione di randomicità infine nsphere radius intanto colleghiamo la mia terza da qualcosa nsphere radius invece crea un risultato neanche troppo diverso da distance to edge però con nsphere radius non avete i contorni delle vostre celle in cui viene diviso però per il resto si tratta della medissima cosa e questa è la famosissima Voronoi texture famosissima e relativo adesso abbiamo una texture un pochino più complessa la wave texture e andiamo a decidere e andiamo a vedere semplicemente le opzioni che ci dà a disposizione allora bands o rings vediamo che questa è una texture che mi crea tante linee con band questo comportamento è dovuto al fatto che avete l'opzione band se inserite l'opzione rings invece di tante linee vi vengono create tanti anelli vediamo che questi anelli sono perpendicolari all'asse delle hits così come anche le linee erano perpendicolari così come anche per esempio i quadrati che ottenete unendo le linee in bands o i semicerchi che ottenete unendo le linee in rings bene sono sia quadrati che semicerchi perpendicolari all'asse delle hits con y potete renderli perpendicolari all'asse delle y quindi cambiare la direzione dei cerchi dei cerchi o dei quadrati mettendo y torniamo a rings invece con z rendete questi cerchi perpendicolari all'asse delle z o in bands se anche in bands inserisco z rendete questi cerchi questi quadrati perpendicolari all'asse delle z in ogni caso potete cambiare la direzione di tutto ciò poi con diagonal invece potete fare stendere le bande in direzione diagonale se invece inserite links l'opzione diagonal non ce l'avete ma avete l'opzione spherical che fa estendere le onde queste onde in tutte le direzioni poi su cosa si baserà blend poi andiamo a vedere la differenza poi vediamo che in questo test non c'è molta differenza tra color e factor perché tanto è già il bianco e il nero di per sé su cosa si baserà blender per la creazione di questo test su una rurì avete le opzioni sign so e triangle con cui potete andare a cambiare l'aspetto di queste bande sin so un pochino più affilate triangle queste opzioni sono valide anche per band sin so triangle scale le dimensioni della texture cosa che è sempre valida sia per bands che per rings bands o rings è sempre valido il concetto di scala della texture poi andiamo a vedere che altro abbiamo distortion la distorzione della texture proviamo ad aumentarla un pochino vediamo che posso anche arrivare ad avere degli effetti che me la rovinano completamente però per esempio un effetto come questo già può essere abbastanza interessante ovviamente sono tutte cose che dipendono dal tutto ciò dipende sempre dal mio risultato che voglio ottenere abbiamo ctrl t per aggiungere nodi di mappatura e in vector insisto come centro di tutto il mio oggetto in questo caso in bands avrò il centro di questi cerchi al centro delle varie facce in rings avrò il centro di questi oggetti al centro delle varie facce in bands non cambia quasi niente ma ne approfittiamo per vedere che anche qui conta ovviamente l'opzione di distorzione spesso una distorzione molto bassa che rende solo leggermente più randomico il mio risultato rings questi anelli posso andare a formare poi come al solito detail la quantità di dettaglio detail scale le dimensioni di questi dettagli un detail scale anzi quante volte quante volte vengono ripetuti questi dettagli come sempre con detail scale a zero i dettagli non ci sono più aumentiamo detail scale più diventa grande la quantità di dettagli e i dettagli diventano precisi questo è utile per esempio per la parte interna di un tronco di un albero con un detail scale così alto no però un pochino più basso per esempio a 2 o anche per esempio a 2.5 è comunque molto molto interessante detail hardness quindi la rugosità di questi dettagli ma essenzialmente osservate visivamente come cambia il risultato sarebbero aumentando il detail hardness tantissimi ma microscopici dettagli che tutti insieme hanno una forma media molto simile a quella di un cerchio quindi con detail hardness potete ottenere un effetto interessante infine con phase offset io posso andare a far scorrere la mia texture ovviamente tutti questi dati sono animabili quindi i risultati potenziali sono molto grandi abbiamo quasi finito con la lezione di oggi ci mancano solo un paio di cosette da vedere allora passiamo alla texture white noise che forse è la texture più semplice in assoluto forse abbiamo sempre le opzioni value e color andiamo a vedere come funziona una texture che mi da semplicemente un colore se inseriamo uno di questo colore viene deciso da una singola opzione doppia v se scegliamo color il colore non è su una scala di rigi ma su una scala completa RGB 2D con 2D Blender mi da a disposizione non un singolo parametro ma tre parametri differenti di cui però contano solo i primi due quindi solo i primi due parametri contano e come vedo cambiando questi due parametri cambio il colore invece con l'ultimo parametro non conta niente con 2D in value è la stessa cosa solo che il colore sarà una scala di grigi invece con 3D conta anche quest'ultimo e terzo valore infine con 4D mette a disposizione sia i tre valori qui uno davanti all'altro che un valore doppia v invece con value è la stessa cosa però il risultato sarà su una scala di grigi allora voi direte eh sì ma tutto ciò che significa cos'è che vuol dire detto in parole povere what noise texture è la texture monocromatica randomica c'è una texture monocromatica però randomica il colore viene estratto da un valore casuale le opzioni che andate a settare sono un po' il seed di questa randomicità perché nel CG perché per un computer non esiste la randomicità vera e propria esiste solo un algoritmo che poi va a estrarre va a calcolare matematicamente un valore tale da essere da sembrare casuale con voi tutti i valori che regolate qua sono solamente valori di seed cioè i valori iniziali di questa pseudorandomicità in altre parole blender estrae un colore a caso e voi potete andare a cambiare usando quei valori semplicemente questa è una texture che estrae un valore a caso andiamo adesso molto velocemente a vedere la texture point density avete mai sognato di poter associare all'interno del vostro spazio 3d ad ogni particella emesso da un oggetto un punto volumetrico bene ora con blender lo potete fare grazie alla test sul point density cerchiamo di capire velocemente come aggiungiamo per esempio un oggetto che mi vada ad emettere tante particelle come per esempio questo toro vada ad applicare un materiale e con un materiale scelgo un materiale che emetta luce e per esempio una leggera luce di colore rosso in questo modo lo posso vedere molto chiaramente all'interno della mia scena tridimensionale adesso facciamo emettere aggiungiamo un sistema particolare di tipo emitter a questo cubo andiamo in velocity e aggiungiamo 10 metri al secondo adesso faccio partire a questo toro facciamo facciamo partire l'animazione e vedo che le particelle vengono tranquillamente emesse adesso aggiungiamo un cubo a cui andremo a creare un materiale volumetrico e diremo a blender di andare a diremo a blender di andare a colorare solo quelle parti del volume che coincidono o con le particelle o con i vertici del mio toro vado a creare un nuovo volume per il mio cubo elimino il principal bsdf e aggiungo per esempio un non saprei un volume scatter e lo collego all'opzione del volume in questo modo adesso ho creato una semplice volumetria seleziono adesso il mio cubo ed applico la scala o anche tutte le trasformazioni questo è un passaggio molto molto importante adesso prendo il mio cubo e andiamo a creare questo effetto dove a ogni particella del metodo associerò un punto volumetico all'interno del mio cubo per farlo vado all'opzione texture e aggiungo appunto la texture relativa una texture point density io voglio che ogni particella di un determinato sistema particellare di un determinato oggetto venga associato un punto volumetrico per farlo intanto andiamo a dire a blender qual è questo oggetto in questo caso il mio toro e andiamo a dire a blender qual è il sistema particolare che ci riferiamo in questo caso il particle system adesso andiamo a collegare l'opzione density al volume scatter in density adesso è stato aggiunto in blender un punto un po' di volume è stato collocato un po' di volume per ogni particella non lo vedo molto chiaramente perché se voglio che il volume e le particelle coincidono perfettamente deve inserire world space e adesso i punti volumetrici devono essere inseriti li vedo molto sfocati se voglio vederli un po' più chiaramente intanto devo fare in modo che siano più precisi attorno alle particelle e per farlo aumento l'opzione di risoluzione ma tecnicamente non li vedo chiaramente perché c'è un po' poco a luce nel sistema allora vado al materiale del mio toro e aumento l'emissione luminosa in questo modo sarà più facile vedere i singoli punti adesso infatti vedo i singoli punti che formano il mio punto volumetrico appiccicato a ogni particella e che seguirà la particella in tutto e per tutto cioè verranno inseriti i punti volumetrici ovviamente per ogni particella se volete aggiornare il risultato dovete staccare l'opzione e poi riagganciarla in questo modo verrà aggiornato il risultato ok inoltre quanto deve essere grande il raggio di questi punti volumetrici lo potete decidere in radius che sarebbe praticamente il raggio di questi punti volumetrici che di cui viene creato uno per ogni particella in questo caso inserendo un raggio molto alto facciamo in modo che i punti più vicini al mio toro siano talmente grandi cioè sono tutti molto grandi però inserendo il raggio così alto addirittura i punti più vicini al mio toro arrivano a toccarsi i punti volumetrici che hanno un unico volume continuo ricordatevi che se dovete aggiornare una texture dovete staccare il suo output e poi rinserirlo e in questo modo chiaramente potete andare a creare questo semplicissimo effetto passiamo adesso all'Object Vertices per comodità andiamo al sistema particellare e lo rendiamo invisibile perché con Object Vertices Blender fa qualcosa di completamente diverso aggiunge un punto particellare per ogni vertice del toro in questo caso già lo vediamo molto bene perché avendo aumentato la quantità di emissione del toro adesso il volume è più illuminato ricordatevi che al buio i volumi ovviamente non si vedono perché il volume scatter è comunque uno shader allora cerchiamo di capire bene cosa succede vediamo che il volume si stende ben oltre la semplice superficie del toro anche per il semplice motivo che ho un raggio gigantesco lo abbasso un poco e posso ottenere anche infatti un pochino più realistici anzi per essere anzi non più realistici posso ottenere una volumetria più appiccicata al mio toro con Object Space Blender andrà a lavorare con lo spazio locale del mio oggetto ma quasi sempre è meglio inserire World Space per fare in modo che la volumetria si trova esattamente dove si trova il toro poi la resolution è sempre invece la risoluzione del mio risultato quindi questa è la texture della volumetria una texture che mi permette di lavorare con i volumetrici ok e questo è il Point Density una texture molto interessante che arricchisce ancora il nostro bagaglio di cose che conosciamo in Blender allora in File premiamo il pulsantino Shave e adesso andiamo a navigare velocemente tra le nostre scene per ricapitolare abbiamo visto tutti gli abbiamo visto che in Blender esistono la prima cosa da conoscere con i materiali gli Shaders che ci permettono di creare materiali molto complessi soggetti ovviamente a un'illuminazione e abbiamo visto anche come creare oggetti multimateriali e abbiamo visto come creare materiali appropriati per le simulazioni fluide in più in questa scena abbiamo anche aggiunto una nebbia utilizzando il Volum Scatter inoltre abbiamo anche visto come creare appunto delle luci all'interno di Cycles attraverso gli Shaders e Mission abbiamo visto che gli Shaders sono la base dei volumi abbiamo imparato anche a creare delle scelezioni della base non dei volumi scusate dei materiali abbiamo anche visto come creare materiali appropriati per i sistemi particellari o appunto magari per un OpenWDB quindi per un file volumetrico inoltre abbiamo visto come applicare un'immagine presa da un sito come ambientcg.com abbiamo visto come applicare una texture come quella al mio oggetto e come utilizzarla anche per creare piccoli rilievi sopra di esso alla fine abbiamo scoperto che però le reali non devono essere necessariamente prese all'esterno di Blender è anche possibile Blender ci mette anche a disposizione da sé delle texture ampiamente personalizzabili e utilizzandole ci sono tantissimi spunti creativi abbiamo visto addirittura che esiste addirittura una texture per i volumi in questo caso la texture Point Density abbiamo visto anche nelle esigenze separati come importare velocemente uno texture semplicemente trascinandola dal hardware e abbiamo approfondito un pochino di più il tab dei materiali che Blender ci mette a disposizione in altre parole abbiamo scoperto le basi dei materiali voi direte le basi beh più o meno perché abbiamo scoperto tutti gli shader e tutte le texture e già questo vi permette di creare quasi la maggior parte dei materiali di cui avrete bisogno tuttavia sono comunque materiali abbastanza basilari perché questi risultati possono poi essere modificati anche attraverso altri nodi molto interessanti che vedremo nella seconda parte di questa lezione perciò non mancate non fermatevi a metà seguite anche la seconda parte della prossima lezione cioè la lezione alla fine 43 dove scopriremo gli immensi segreti che si vanno a celare dietro gli altri nodi dei materiali quindi i nodi input input text input color vector e converter script invece è un singolo nodo che vi serve se volete importare uno script in python come nodo ma non come un nodo personalizzato ma non vi interessa e invece layout li abbiamo visti oggi invece anche group li vedremo nella prossima lezione ma sono cose abbastanza semplici comunque ci vediamo e non mancate la prossima lezione per non fermarvi a metà perché vi può sembrare che i risultati che potete creare qui sono complessissimi vi sembra che rispondano a tutte le vostre esigenze nella maggior parte dei casi sarà così ma se volete saper creare dei materiali veramente molto avanzati non potete assolutamente perdere la prossima lezione a quel punto io vi invito e mi auguro che ci sarete ci vediamo alla prossima lezione di questo corso di Blender di questo corso